La sessione commerciale comincia con la proiezione di un video che ha realizzato uno dei partecipanti al gruppo di affermazione civile che è un gruppo di coppie formate da persone dello stesso sesso e non solo che combattono anche per i diritti di tutti e di tutte, non soltanto per i loro specifici diritti. Questa è una cosa a cui teniamo molto e a cui siamo molto grati perché ovviamente senza queste coppie che si sono esposte che intendono ulteriormente esporsi anche in procedimenti giudiziali, tutti i piccoli o grandi passi avanti che potremmo fare con il cosiddetto cavo di pilota non sarebbero possibili. Quindi incominciamo con riproporre questo video che poi se volete potete rivedere sia sul sito di Certi Diritti www.certidiritti.org che altri. E poi dopo il video ricomincia il dibattito con il dibattito generale assunto e alcuni interventi correttati. Grazie a tutti. Grazie. 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 in Italia e dopo abbiamo iniziato a vivere insieme e adesso sono quattro anni che stiamo insieme e facciamo un'occasione paxale nel 2011, abbiamo fatto un'occasione civile in Francia, perché qui in Italia non verrà riconosciuto il pax in qualche modo, per cui siamo stati obbligati a farlo all'estero e quindi adesso con il signor Antonio ci siamo felicissimi, siamo insieme e cominciamo a vivere assolutamente di più. Com'è la prima volta? Appunto l'abbiamo fatto agosto, l'anno scorso, il 5 luglio, ci dispiace perché siamo andati giustamente all'estero a esplosarci, perché potevamo farlo tranquillamente in Italia, la città non è una legge interessiste e quindi siamo andati là, ci hanno accompagnato i parenti, gli amici, siamo stati contenti e poi siamo tornati a Roma e oggi abbiamo confeggiato con gli altri amici e con il giorno è tutto l'aria, quindi comunque questo è un buon modo per fare ciò che diamo il futuro a fare, è una scelta che chiunque è ovviamente a ciascuno della storia di una coppia che ci deve fare o meno, noi vediamo appunto che il dottor Roberto mi sia stato spazio, e l'ho venuto qua con l'estero, però con la solidarietà e la condivisione di amici e parenti. Adesso vediamo, sono una coppia come tutte, sembra anche fra le misure, ma tutte, però se io non c'è l'intervista, semplicemente questa cosa ci ha permesso di dire risenziare tutte, basta, tutto qui, tutto ci sia un piccolo. Quello che chiamiamo è semplicemente che questa cosa è un'intervista. E quindi, come altri coppi abbiamo voluto fare questo basso, ma l'ho molto parolata all'estero. E in realtà siamo cittadini come tutti. Cittadini come tutti. Cittadini come tutti. Bene, allora, grazie per aver ascoltato e aver visto questo video, soprattutto grazie a chi lo ha fatto il video. Ricominciamo il congresso. Comincia al dibattito generale adesso. Ci sono una serie di iscritti, in realtà ce ne sono soltanto due al dibattito generale, però ci sono molti interventi, diciamo che io preva finire. Io comincerei con un intervento del dibattito generale, se c'è Riccardo, non lo vedi in sala? C'è, c'è. Ah, c'è, giusto. Allora, la parola è a Riccardo Cristiano, esattamente. Chissà perché non riesco a parlare di una parola cristiana? Ho un pregiudizio, ho un pregiudizio, ho un pregiudizio. Sbattiamo questo pregiudizio perché non è giusto. Non è giusto, tutti i pregiudizi non sono giusti. Poi tra l'altro io non mi vedevi perché ero dietro. Bene, la cosa che mi preme iniziare a dire, innanzitutto che è bello stare qui a questo congresso perché la differenza dei congressi radicali o di situazioni radicali è che comunque si può intervenire, si può ascoltare l'umanità, le persone che ci stanno dietro le storie personali. Poi Gabriella è quella che comunque ti fa anche commuovere perché vive in prima persona le esperienze di coppie che quotidianamente magari vengono anche discriminate, ma ce ne sono tante esperienze. Bello da raccontare. E personalmente penso che un contributo importante lo dia anche a Radio Radicale o comunque la storia in genere. Penso ad esempio all'importanza di battaglie radicali come il divorzio, una fondamentale direi io perché anche se apparentemente, se a me pensiamo che il divorzio è stato approvato legalmente in Italia il primo dicembre del 1970 ed era qualcosa di impossibile da immaginare, qualcuno diceva che gli italiani non erano pronti per il divorzio perché la società non poteva concepire qualcosa di differente dall'unione matrimoniale. Pensate per esempio che se dovessimo ispirarci al diritto canonico, le basi del matrimonio avvengono appunto perché nella Bibbia c'è scritto che non separi l'uomo quello che Dio ha unito. E questa è la base su cui partire. Poi però devo fare anche una piccola critica all'ambiente radicale perché ad esempio ti fa strano sentire che l'Italia è pronta per determinati non tanto cambiamenti quanto per determinate prese di coscienza su determinati temi. Poi però ti fa strano sentire magari che un leader politico del calibro di Marco Parnella ha un convegno tenutosi a Verona sulle unioni gay e sulla famiglia possa dichiarare che magari i gay o comunque dovrebbero chiedere qualcosa di differente dal matrimonio in quanto il matrimonio come se fosse un istituto non per loro, anzi si dovrebbe chiedere un istituto mai apposito creando magari non la parola coniugi ma la parola uniti e allora poi lì viene a cadere un principio fondamentale che è quello dell'uguaglianza giuridica delle persone che è stato ribadito più volte in questo consesso radicale ovvero che l'articolo tra della Costituzione dice che le persone devono essere uguali appunto noi parliamo di persone, non parliamo di coniugi, non parliamo di uomo, non parliamo di donna, parliamo di persone. Quindi le persone possono essere gay, possono essere lesbiche, possono essere donne, possono essere disabili, possono essere persone, quindi esseri viventi. Io mi meraviglio anche perché battaglie storiche appunto come il matrimonio non vengono paragonate a questa battaglia di civiltà che è il matrimonio ugualitario e sottolineo matrimonio ugualitario perché si parla di matrimonio civile, ovvero di un'unione, ovvero di un contratto, ovvero di qualcosa che concerne un istituto giuridico. Alla fine queste due persone che fanno, decidono di contrarre questo esercizio giuridico che civilmente li unisce e gli conferisce dei diritti sicuramente ma anche dei doveri. Cosa chiedono le associazioni LGBT in questo caso? LGBT in questo caso? Che si venga riconosciuto all'uguaglianza. Quindi quando si sente qualche politico, qualche personaggio che si aveva il diritto di scegliere per noi, lì bisognerebbe estarsi e dire, aspettate un secondo, ma la mia libertà che è quella di scegliere, dov'è in Italia? Io sono buono solo a votare, sono buono soltanto a essere chiamato al mio dovere di cittadino nel produrre lavoro tutti i giorni, però poi quando all'atto pratico devo essere considerato come una persona, vengo depaperato del diritto di essere, di esistere. Quindi io credo che la prima battaglia sia proprio quella della scelta, dell'uguaglianza, poi voi la volete chiamare matrimonio, la volete chiamare paz, la volete chiamare gico, la volete chiamare di dovere, questo mi rivolgo ai partiti politici, a me non interessa, a me interessa l'uguaglianza giuridica dinnanzi alla legge come persona, come coppia, come persona, ripetisco, come persona, perché anche se prendessimo l'aspetto meramente cattolico, meramente religioso, viene prima la persona, non viene prima la condizione personale, la persona in sé dovrebbe essere osservata e quindi compresa. Ad esempio una cosa che mi piace molto ricordare a livello storico è che addirittura esisteva la possibilità, almeno in America, per vietare i matrimoni misti, ovvero i matrimoni tra persone, per esempio, non lo so, di etnie diverse con le persone bianche. E questa è una battaglia che è stata vinta ormai molti anni fa, ad esempio questa coppia erano i coniugi lowers, che gli si impediva di sposarsi, perché si diceva che questo non era concepibile per una cultura, ribadisco per una cultura, ma la cultura qual è? La cultura è quella invece di superare questi ostacoli di tipo giuridico, ma di includere nel diritto tutte le persone, infatti penso che sia sbagliato destinare determinate categorie delle tutele. Le tutele dovrebbero essere stesse a tutti indistintamente, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dalla razza, dall'orientamento religioso, dalla partenza religiosa, si parla di crimini basati sul credo religioso ultimamente, ed è secondo me sbagliato dover dire a più riprese che le persone gay, le persone della comunità LGBT, le persone, bisognerebbe fermarsi alle persone e dire il diritto è di tutte le persone, non soltanto di una categoria, quindi a prescindere dall'orientamento sessuale secondo me bisognerebbe iniziare a dire ok, estendiamo il diritto a tutti, il matrimonio ok, a tutti. Poi se decidiamo di decostruire l'istituto giuridico del matrimonio perché è arcaico rispetto a quello che è adesso il bisogno della famiglia, della coppia, ecco quello si può fare in seguito. Penso sempre ad esempio al divieto delle donne iraniane di guidare la macchina se non autorizzate da un uomo, è la stessa cosa, date il diritto alle donne iraniane di guidare e poi saranno loro a scegliere se prendere la patente oppure no. E lo stesso vale per i diritti della comunità illegittima, io darei a tutti la possibilità di contrarre il matrimonio, poi indipendentemente dall'appartenenza religiosa del proprio credo, deciderò un domani se parlo oppure no. Il problema è che si dà spesso e volentieri parola a personaggi politici o politicanti che siano, che magari nel partito preso non sono d'accordo con il matrimonio, non si sono mai sposati, hanno una concezione della vita molto libertina, anche perché questo era in sintesi un po' l'idea di libertà sessuale che c'era all'inizio, di rivendicazioni di libertà sessuale un po' come il periodo femminista, ma in generale negli anni 70-80, quindi un po' lo stile anche radicale dell'epoca è mutato, credo io. Quindi rimanere ancora ancorati al passato, in uno stile dove praticamente si guardano soprattutto l'aspetto meramente sessuale, non un aspetto affettivo, perché i coniugi, anzi la coppia in questo caso, è formata a due persone che provano dei sentimenti gli uni per gli altri e vogliono tutelarmi questi sentimenti, innanzi alla legge, vietare la possibilità di essere uguali, innanzi alla legge, per me è semplicemente una questione di violenza, che non è una violenza soltanto verbale, ma una violenza fisica, che lì si fa tutti i giorni. Quindi io in questa fase chiedo semplicemente alle forze politiche, pensando che domani si va a votare anche qui in Calabria per le elezioni regionali, di pensare attentamente a quello che faranno quando andranno, e chiunque vincerà, come diceva Lorenzo Cucco, al governo per votare, per governare e soprattutto ai cittadini che decidono di scegliere chi votare, pensate bene se venite tutelati o meno da queste forze politiche e fate una scelta oculata, fate una scelta veramente responsabile, perché sono i diritti prima di tutto che individuano l'individuo, cioè la persona è colui che riesce a essere se stessa, soprattutto nella società. Quindi se la società in primis non tutela questi diritti base, a questo punto io mi domando di che società faccio parte, ecco perché molte persone decidono di partire all'estero per vedere riconosciuto un diritto. Io personalmente non intendo partire, non andare da nessuna parte, preferisco rimanere in Italia e lottare a fianco di certi diritti o di tutte le persone, che ne so, arci gay, polis aperto, equality, di tutte le persone comunque come noi hanno la voglia di dire che non è possibile, anzi un cambiamento è possibile, le cose possono cambiare e se le cose possono cambiare dipende solo esclusivamente da quello che noi decidiamo sia il futuro. Quindi lascio semplicemente una domanda a qualche radicale che magari verrà qui al tavolo prima o poi e magari per rispondermi come mai magari Marco Parnella, leader radicale e dovrebbe essere antiproibisionista in tutte le sue sfaccettature dell'antiproibisionismo stesso, decida di non fare una vera disobbedienza civile abbracciando a pieno l'ultima, secondo me, vera causa di uguaglianza giuridica di tutte le persone, ovvero il matrimonio egualitario ma in questo caso l'uguaglianza giuridica di tutte e tutte e tutte le persone. Io vi ringrazio e vi auguro un buon ottavo congresso e vi ringrazio e vi ringrazio e vi ringrazio. Io vorrei tentare di contribuire all'attito generale di questo congresso con due o tre riflessioni, spero di essere breve, anzi sarò brevissimo e spero di sentire molti su queste questioni perché sono complesse a non si fare non soltanto con la vita della nostra associazione che è poca cosa rispetto alle questioni che noi abbiamo di fronte, ma sono le questioni che noi abbiamo di fronte che sono importanti. Noi laici dovremmo avere questo atteggiamento, nel senso che la vita della nostra associazione è sicuramente secondaria rispetto agli obiettivi che noi ci siamo dati e quindi noi lavoriamo per gli obiettivi che ci siamo dati, non per il mantenimento in vita di un'associazione che potrebbe essere anche non esserci più. Ripeto questa cosa perché Alessandro sta mattina ha fatto questa citazione che è un dibattito che nel direttivo e nell'associazione spesso si è tenuto, perché la funzione storica di certi diritti, e se posso permettermi anche un po' la funzione storica di tutti i radicali in questo paese, è stata quella di aprire delle forze, di aprire delle pubblica, mediatica, ma anche della classe politica, su questioni che o non si conoscevano o semplicemente si nascondevano. Così è stato negli anni gloriosi, negli anni settanta, così è stato poi anche negli anni più tra gli altri che tra gli anni ottanta, ma di fatto è sempre tutto. Perché certi diritti è nata? Otto anni fa, sette anni fa, quando c'è stato il primo concorso. È nata perché in quel momento storico sembrava che non esistesse la questione dell'uguaglianza delle persone omosessuali e trasessuali, poi intersessuali in questo paese. Cioè era stato cancellato completamente dall'agenda politica, in parte per una convergenza forse non voluta o forse voluta fra alcune forze politiche e del movimento LGBT che avevano dirottato il dibattito su quello che oggi chiamavano i civili, cioè i PAX, allora si chiamavano forme più light di legalizzazione delle unioni tra persone del stesso sesso, riuscendo in quell'operazione che fu difficilissima, lo ricordo a tutti, molto 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 difficile, di arrivare a un passo dall'avvio della discussione sui PAX in un altro paese in parlamento. E già solo quella cosa con i prezzi pagati sia da parte del movimento LGBT che non credo, io non c'è, non faccio parte di quelle associazioni, ma non penso che la scelta fu presa a cuor leggero. Cioè io faccio sempre credito alla buona fede delle persone che conosco. E siccome conosco bene Arci Gay e i leader di allora, so perfettamente che quella scelta non fu una scelta, diciamo così, leggera. Fu una scelta politica di strategia rispetto ad un obiettivo che sembrava possibile raggiungere. Noi la pensiamo anche in un certo modo, il fatto che abbiamo avuto ragione noi non mi rende più felice. Il fatto che quella scelta sia stata sbagliata poi nei fatti è semplicemente un fallimento di tutti e di tutte, non soltanto un fallimento di Arci Gay o della strategia di Arci Gay. Poi un conto di Arci Gay è un conto della strategia che si era dato scoperta. Però, ritorno al punto. Certi diritti è nata perché in quel momento, per problemi intestini alla sinistra che in quel momento stava al governo, io ve lo ricordo, la discussione sui PAX si arenò, sui Didoreo, cavolo che poi si era evoluta la materia, si arenò per conflitti fra rifondazione comunista, allora, come si chiamavano allora i democratici, i tagliari, i partiti, non lo so, quella cosa lì, i DS, e fu un conflitto interno alla sinistra, dove il conflitto attraversava trasversalmente le formazioni politiche e non erano gli ipercattolici fondamentalisti dei democratici di sinistra che l'hanno bloccato questa cosa. Anzi, forse sembrava che adesso raggiungono qualche, una qualche forma di, diciamo così, consenso su una proposta, anche se pur minimale e inaccettabile. Fu la stessa sinistra che per motivi interni alla sinistra stessa, il conflitto che c'era tra Bertinotti e compagnia e nel governo per il mantenimento del governo, che fece da detonatore rispetto alla morte di quei percorsi. Quindi, per quanto poco efficace, per quanto criticabile, per quanto di fatto quella proposta è morta per motivi partitocratici, non di contrasto fra le posizioni, ma partitocratici. E noi, di fronte a questa cosa, siamo nati per dire, basta, ci vuole qualcuno che riporti all'attenzione di questo Parlamento la vera questione dell'uguaglianza, che è quella dell'accesso a matrimonio ugualitario, quello che noi chiamiamo matrimonio ugualitario, perché è di questo che stiamo parlando. Uguaglianza delle persone omosessuali, transessuali e interessuali, in questo Paese, che di fatto non c'è. Questa funzione l'abbiamo svolta. Noi, in solitaria, prima con Francesco Villotta e poi con Rete Lenford, le cose sembrano strane, ma in realtà non è così, nel senso che il rapporto fu un rapporto personale con Francesco, non con Rete Lenford. Poi Rete Lenford si è mobilitata dopo, si è cominciata la battaglia che poi ha portato alla sentenza più importante della Corte Costituzionale e poi tutto il resto delle altre cose che sono successi, compresi i conflitti con Rete Lenford, non è un segreto, ne abbiamo sempre parlato. Io amo dire le cose come stanno pubblicamente. Da molti mesi a questa parte, non dico che c'è il contrasto, ma più di mesi, forse anni, diciamo che c'è freddezza. Non ci confrontiamo, non ci parliamo. Per tutta una serie di considerazioni che adesso qui sarebbe, diciamo così, inutile arriccare, però questa è di fatto la situazione. E la nostra situazione con Rete Lenford è semplicemente una delle manifestazioni della incapacità di parlare complessiva del movimento italiano. Perché anche con le associazioni, parlo delle azioni nazionali o quelle locali con cui noi parliamo, c'è un'incomunicazione. Quante volte noi abbiamo proposto alle associazioni nazionali di fare una sorta di cartello, coordinamento, chiamatelo come le consulte, abbiamo ipotizzato tante di quelle soluzioni più leggere, meno leggere, ad obiettivo, di tutto di più? Tutti ci dicono sì. Il Presidente dell'Arcighei, chiunque sia stato, non ha mai sentito parlare contro queste cose. Ha sempre detto di sì. Poi di fatto non succede mai niente. Non si fa mai un passo successivo per... Anche il familiare come lei non ha sempre detto di sì. Giuseppina Radelfa ha sempre detto per carità bisogna, assolutamente, dobbiamo, partiamo, lancia in resta, ci mettiamo e poi non si fa niente. Ma è via di questo passo. Perché non si fa niente? Perché di nuovo il conflitto che ci fece naufragare, che fece naufragare loro e quindi fece naufragare tutto il Paese sull'ipotesi di minima dei Vidorè in quegli anni fu un conflitto partitocratico, il conflitto che esiste, che non è magari un conflitto armato, che non è un conflitto esplicito, ma è di fatto, è un conflitto associocratico, si può dire? Sociocratico. Cioè sostanzialmente le associazioni non fanno quel passo indietro che è necessario fare in questi contesti per mettersi d'accordo su una cosa da fare, non per sposarsi per tutta la vita, ma una cosa. Perché come sempre abbiamo detto nei radicali c'è la coalizione delle forze laiche, ma meglio ancora c'è una coalizione laica delle forze politiche, ovvero sia ciascuna associazione, ciascuna realtà deve rimanere quello che è e fare quello che è nata e si è data agli compiti a fare. Ma ciò non toglie che una coalizione in Italia per, vi ricordate, la lega italiana per il divorzio, una coalizione in Italia per il matrimonio equalitario, non siamo riusciti a costruirla. Zero di zero. Perché mi riferisco a questo? Perché a questo è legato anche il futuro della nostra associazione. Noi siamo nati per due motivi. Per riportare il tema del matrimonio equalitario all'attenzione almeno dell'associazionismo LGBT e quindi tutta la società e questo è stato fatto. Non solo grazie a noi, per carità, non voglio dire questo, grazie a un contesto complessivo che è cambiato, grazie alle azioni di affermazione civile, grazie a tante altre cose, grazie anche magari all'evoluzione delle stesse associazioni che hanno cambiato la propria gente politica. Per Archie Gay è esplicito. Poi formalmente non è mai stato così perché Archie Gay ha sempre avuto nei suoi documenti l'obiettivo del matrimonio equalitario, in cui non ci credeva. Non ci credeva strategicamente, ma l'obiettivo è sempre quello che è. E poi siamo nati perché si doveva tentare la strada della coalizione su obiettivi specifici. Questo è stato un enorme e gigantesco fallimento. Per il momento, fino ad oggi è stato un fallimento. Poi ci sono stati dei passaggi comuni interessanti, molto importanti, abbiamo fatto cose in comune, abbiamo parlato tantissime volte insieme alle altre concezioni. Io non nego che sia migliorata almeno la tua sfera. Non è un segreto che le cosiddette sante sorelle da un paio d'anni, ormai a questa parte, si parlano. Uno dice, ma no, no, che passo avanti che non ho fatto. Eppure questo è stato un grande passo avanti. Più o meno regolarmente Archie Gay, Archie Lesbica, Agelio, Famiglia del Covaleno, certi diritti, equality e MIT, si incontrano per tentare strade comuni su certi temi. Che poi questo, non ho perduto niente, sta nei fatti, ma intanto questa strada è aperta. Quindi da questo punto di vista la nostra affinzione si è esaurita, come dire, uno per raggiungimento dell'obiettivo, l'altro per irraggiungibilità dell'obiettivo, perché io non vedo le condizioni nell'immediato, poi magari non sbaglio, nei prossimi mesi può succedere di tutto, ma io non vedo le condizioni perché si possa lavorare a coalizioni di scopo nell'associazionismo LGBT. Peggio mi sento nell'associazionismo non LGBT, perché qui lo dico e qui lo nego e non voglio essere il solito dietro pensiero, chissà perché, c'è il complotto. Io sono molto contento che ci siano grandi organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano i diritti LGBT. Intanto bisogna ricordarsi che con Amnesty International negli anni passati ci furono delle lotte costruose perché prendessero in considerazione il tema LGBT. Non ve lo dimenticate. Adesso, giustamente, Amnesty International è all'avanguardia su questi temi. Ci sono stati anni in cui Amnesty International, nei suoi documenti ufficiali, diceva che le questioni LGBT non sono questioni che hanno a che fare con i diritti umani. Lo diceva e lo scriveva. E sto parlando dei paesi comunisti, sto parlando dell'Iran quando capitò, quindi non di secoli fa. Nella vita di Amnesty International. Poi sono evoluti, si sono evolute le cose. Io sono contento che siano evolute e forse loro sono molto più gravi di noi adesso in questo momento, almeno nello stile operativo. Che la Croce Rossa si voglia occupare anche di diritti LGBT? Va bene, forse hanno bisogno la Croce Rossa perché siamo ormai alla frutta per cui magari la Croce Rossa ci isolerà un buon futuro. Però, diciamo così, ecco, coalizioni come CILD forse hanno più futuro, forse hanno una prospettiva maggiore. Perché associazioni di diverse caratteristiche, un po' come quella cosa che era nata, che ahimè è morta anche quella a livello di presenza del Consiglio dei Ministri, c'è 4-5 associazioni che si parlavano in continuazione all'epoca monane, all'epoca del Luna, che si parlavano sui diritti delle persone disabili, sui diritti delle persone migrate, sui diritti delle persone LGBT, sui diritti delle donne, più o meno, perché lì c'è tutto un casino, insomma, c'era, era cominciato un dibattito, almeno un confronto, quello che mancava, forse con CILD, dico forse, io spero che lo sia, potrà cominciare. Ma anche questo è un obiettivo che una volta raggiunto noi potremmo dire bene, è raggiunto. Perché la nostra ipotesi è stata un'altra storicamente, la nostra ipotesi era il partito radicale, che doveva essere un'altra cosa, che doveva essere la sede, il luogo dove tutti questi temi trovavano sintesi e sviluppo. Perché secondo me invece ha ragione di esistere la nostra associazione? Anche se a tempo, io non credo nella associazione infinita, ho sempre pensato che le associazioni hanno una scadenza, come i pelati di pomodoro, come la cioccolata, si possono mangiare entro un certo periodo, poi scavano. E anche le associazioni sono così, perché se no è riproporre di una gerarchia, di poteri, di posizioni, dobbiamo essere laici anche in questo, quindi mettere anche nel conto che non si può morire l'anno prossimo, perché magari siamo sciolti in altro, perché magari abbiamo ritenuto, perché riteniamo che, faccio una battuta a caso, che a caso non è, che l'associazione Luca Coscioni raccoglie interamente il testimone, le battaglie, i temi che sono tipici di certi diritti e le fa proprie e diventa l'associazione italiana sui diritti civili, i diritti umani. Noi le abbiamo già anche proposto all'associazione Luca Coscioni di fare anche lei un passo indietro e fondare un'associazione radicale che si occupi di diritti delle persone, di tutti i diritti delle persone, ricostituendo in qualche modo in parte quel partito radicale storico, se vogliamo, a livello nazionale, però anche qui è un dibattito molto complesso che, ahimè, ha avuto modo di passare. Però noi abbiamo ancora ragione per esistere e lo dico in un modo un po' brutale, mi scuseranno gli iscritti ad altre associazioni e le GVT qui presenti, però cercate di capirmi, non è una nota di demerito nei confronti delle vostre associazioni, ma è una questione identitaria, questo è sì, perché io credo di parte dell'identità, se la mia associazione dovesse morire domani mattina, io francamente non mi sento di iscrivermi a nessuna di quei esistenti, perché io non mi riconosco, non nel valore delle altre associazioni in quello che fanno, che lo fanno bene, che sono meritorie, che devono continuare a farlo, perché è importante che esista un agelio, è importante che esista la famiglia trovalente, è importantissimo che esista il CIGA e tutti i circoli della Terra, ma io non mi riconosco in quel taglio politico, in quel, usando un termine un po' più tecnico, in quella modalità di fare politica. Io ritengo, per esempio, che tutta la cosa costruita sulla Pascale sia una boiata politica non comunicativa, comunicativamente parlando chi l'ha fatta ha recente un suo obiettivo, ha recente un suo obiettivo, ma politicamente parlando è stata una boiata pazzesca, pazzesca, perché invece di chiedere conto alle forze del centrodestra italiano del perché, come diceva il nostro bene, il nostro segretario, sono così lontane dal centrodestra europeo, siamo andati a tenere i cordoni della comunicazione a una signora che pensa legittimamente che i diritti dei gay che dovrebbero essere ripresi in questo paese, benvenuta anche lei, ma la sostanza politica che dovrebbe, diciamo così, caratterizzare, che secondo me dovrebbe caratterizzare un movimento è chiedere conto ai referenti dei partiti di cosa stanno facendo. Difatti, Mara Carfagna incontra ogni tre per due, viva Scalfarotto, a cena, a pranzo, a colazione, in incontri privati, in incontri pubblica, e non viene in questo congresso, non andrà in congresso, forse con gli archi gay sì, perché di nuovo c'è il marco che attira, quindi magari se gli amici di archi gay lavoreranno bene, lavoreranno, ma il riferimento politico di chi gestisce le cose manca nel centrodestra, perché il centrodestra è incredibilmente ambiguo su questo tema. Allora, io non ritengo che in questo momento ci sia un'altra associazione LGBT italiana che abbia come noi il nostro stile di fare politica. Ho fatto l'esempio della Pascale perché è quello più, ma ve ne potrei fare mille altre, mille altre. E ritengo anche che questo stile di fare politica abbia una parola precisa, che è radicale. Adesso fate mezzo passo indietro rispetto alla quotidianità dell'esperienza radicale, sulla quale possiamo essere d'accordo contro, e non mi stupisce nemmeno di tanti. A me non disturba, ve lo dico francamente, a me non mi disturba affatto che Marco la pensi come la pensi sul matrimonio ugualitario. Non mi disturba nemmeno l'ipotesi che io debba lavorare, ovviamente, molto di più, perché è chiaro che lui è il leader di tutti noi, e quindi, volentieri o non volentieri, ma lui è il leader di tutta l'area radicale, ed è evidente che se il leader di tutta l'area radicale si esprime un certo modo, noi dobbiamo arampeccarci su gli specchi e lavorare molto di più, perché fassi il messaggio che noi siamo invece per il matrimonio ugualitario con gli argomenti precisi. Però non mi stupisce, non mi fa specie. Tante volte nella nostra storia il leader è stato contrario a linee politiche che arrivavano da una parte del partito, del movimento e viceversa. Così come non mi disturba, perché sono radicale, il fatto che io ho una posizione che... Poi ci sono poi degli argomenti che, secondo me, si potrebbero prendere in considerazione dentro il discorso che Banco fa, ma comunque, diciamo così, sulla posizione esplista non mi dà fastidio il fatto che certi eliti possano sviluppare questa cosa. perché? Perché il metodo di iniziativa politica è sempre quello. Allora, in questo momento non c'è nessuno che, mi sembra, abbia questo stile. Chiamiamolo stile, non chiamiamolo me, chiamiamolo stile. Quindi uno dei motivi per cui la nostra sessione deve vivere è questo, perché noi abbiamo questo patrimonio da valorizzare. E lo dico sapendo di essere il primo fra tutti voi a non averlo fatto, intanto, per esempio, riscrivendomi agli organismi radicali. In secondo luogo, che invito tutti a fare e io farò al più breve, penso, spero. In secondo luogo perché, diciamo così, il metodo che noi utilizziamo anche per la individuazione, per il raggiungimento dei nostri scopi, dei nostri obiettivi, è una cosa non esoterica, è una cosa che si può assolutamente condividere. Ed è la cosa per la quale spesso non veniamo visti con grande attenzione. dico solo una cosa rispetto alle cose che ha detto Leo che hanno a che fare con gli iscritti e i militanti. Anche su questa storia della nostra associazione con pochi iscritti, io l'ho già detto tante volte, credo di averlo detto proprio al primo congresso della nostra associazione, noi non abbiamo come obiettivo quello di avere tanti iscritti e tanti militanti. Noi abbiamo come obiettivo di avere il più alto numero possibile di iscritti e di militanti in questo paese che condividano i nostri obiettivi e li facciano propri, partendo da quella considerazione che Gabriella stamattina ci ha ricordato, che noi non siamo come gli altri, noi non ci occupiamo di servizi nei confronti della comunità e dei militanti. Ma non solo perché non avevano rapporti con le discoteche, con il bar, con le sauna, questo è un'altra storia. Noi nemmeno nei confronti dei gay, delle lesbili, dei trasessuali e degli interessuali abbiamo offerta dei servizi. Se un gay ha le prime armi, e lo dico da vecchio militante del fuori che faceva questo, io nel 1977, avevo 17 anni, ho costruito il primo gruppo giovani del fuori di cui facevamo parte decine e decine di persone. E cosa facevamo? Facevamo l'accoglienza per il camming out. 1977, quindi so di cosa stiamo parlando. Ma se adesso mi arriva un ventenne con un problema di camming out, e ce ne sono, che già questo sarebbe una cosa incredibile, in un paese nel 2014 ci sono ancora quelli camming out, eppure ci sono. La mia associazione di riferimento, l'associazione di predicare dei certi diritti, mi dice bene vai allo sportello di arci gay, perché lì sono più attrezzati per fare questa cosa. Almeno a Torino funziona così, le altre città più o meno abbassate. E viene questo passo, se arriva una coppia, se arriva una famiglia, se arrivano due genitori. Perché questa è l'evoluzione di questo paese. Noi non siamo come gli altri, quindi non iscrivetevi da noi perché magari pensate che la nostra associazione sia come le altre. Noi siamo diversi dagli altri. Questo vi consente di iscriversi, di iscrivervi alla nostra associazione e alle altre associazioni LGBT italiane, per esempio, il tema della doppia testa, che è un tema antico per noi, ma anche vi dipone una questione, diciamo così, più strutturale. Nel senso che la nostra associazione è nata per fare politica e di questo vogliamo occuparci. Quindi la massima attenzione nostra delle prossime attività di people raising, come dicono quelle che conoscono l'inglese, deve essere concentrata non tanto, ovviamente noi siamo felicissimi, anzi bisogna fare azioni che aumentino la raccolta di iscritti, perché gli iscritti sono comunque una manifestazione di interesse nella nostra associazione. Ma dobbiamo concentrarci su questa cosa che ci diciamo da almeno un paio d'anni e che noi continuiamo a non fare, anche questo è una delle cose da scrivere nel libro delle cose non fatte della nostra criticità, di aiutare, selezionare in qualche modo e sostenere quelle persone, perché ci sono uomini e donne, che vogliono fare militanza, vogliono fare attivismo e magari lo vogliono fare con uno stile nuovo, perché noi lo stile radicale è ancora nuovo in questo paese. Noi ci siamo spesso confrontati con lo stile del nord Europa, come si dice, lo stile di Gaiuro, lo stile di, io chiamo sempre stile, lo stile di dei grandi paesi dove hanno fatto grandi conquiste, dove hanno fatto grandi passi avanti. Io devo dire che nel mio piccolo il Gaiuro, il Gaiuro, il Gaiuro, allora si chiamava Iga, l'avevamo criticata come fuori già nell'81-82 per una certa pabilità e una certa, diciamo così, lentezza di movimento rispetto alle sezioni nazionali, lì li ho trovati. Sono molto irrobustiti dal punto di vista organizzativo, sono molto efficaci sul piano delle politiche di advocacy, molto efficaci, sono molto bravi, ma è un'altra cosa rispetto all'esperienza radicale, è un'altra cosa rispetto all'andare nei luoghi dove... adesso si stanno accorgendo anche loro di questo, da qualche anno anche loro per esempio vanno nei praidi, nei paesi dove non si possono svolgere questi praidi, ma c'è un lutto di quello che è buono, perché loro maturassero questa necessità di agire in questo modo. Vi garantisco che Iga non era così, Iga non era così, non ci pensavano nemmeno di andare in Russia o in Iran, dove siamo nemmeno di noi, ma anche nei paesi dell'est a fare il praido, a fare le manifestazioni, proprio non ci pensavano nemmeno. Quindi secondo me l'iscrizione alla nostra associazione è diversa rispetto a quelle delle altre e non dobbiamo nasconderlo, dobbiamo renderlo pubblico, perché questo è un motivo di identità positiva, non identità negativa. Le identità negative sono quelle che ti chiudono, perché ti creano degli sbarramenti. Le identità positive sono quelle che dicono io sono così perché voglio fare questo, se sei d'accordo con me, vieni a farlo con me e lo possiamo fare insieme, che è un altro tipo di messaggio, è un altro tipo di obiettivo comunicativo. domani viene fuori. Due battute, una sulla politica nazionale, una sulla politica transnazionale. Allora, sulla politica transnazionale, io non ho partecipato all'evento del cosiddetto semestre italiano del cosiddetto governo italiano, del cosiddetto sottosegretario ai cosiddetti diritti LGBT, perché ormai Scarferotto è di fatto il referente di questo governo, cioè è di fatto il referente sui diritti LGBT e non si capisce come quando si parla pubblicamente di queste cose è lui che ne parla. Dico non si capisce come, non perché Ivan non ne possa parlare, intendiamoci, assolutamente, meglio lui di tanti altri di questo governo e, come dire, ho sempre grande rispetto per Ivan da questo diritto, anche a Ivan che magari essendo contraria a certe sue scelte ho sempre grande rispetto, però rimane il fatto che questo governo non ha emesso un piccolo decreto di nomina di Scarferotto, non c'è scritto da nessuna parte di queste competenze, così come non c'è scritto da nessuna parte che l'ottima Martelli, perché è una persona ottima, umanamente parlando, di fatto si è delegata a rappresentare alcun credito il governo sulla questione del pari apporto dei diritti. A che titolo lei parla in giro per l'Italia e forse anche andrà per l'Europa a parlare di queste cose? Perché è la consulente del presente Consiglio sulle questioni di LGBT? Forse sarà una deformazione radicale, noi siamo molto attenti alla forma e quindi la poniamo questa questione di forma, mai. Sulla base di che cosa il governo italiano delega una consulente del presente del Consiglio a lavorare su questa materia? Lei è un'ottima persona, lo ripeto, è una persona intenzionata a capire, a parlare, a discutere, ma di che? La situazione italiana è inmergugliata per un motivo molto semplice, che vi è molto chiaro, immagino che lo hanno detto molte altre persone, e lo abbiamo detto anche noi. Renzi non vuole parlare con l'associazionismo, ma guardate che non ce l'ha con l'associazione di LGBT, non vuole parlare con nessuna associazione di LGBT, è il suo stile, di nuovo la stessa parola, è il suo stile di governo, che se volete può essere anche interpretabile da un punto di vista macro-politico, ma di fatto quello che ha fatto con l'ambientalismo e quello che ha fatto con il movimento delle donne, quando mai le ha ricordate, lui è il ministro con la delega delle pari opportunità, non mi risulta che ci siano state azioni del nostro ministro sulle pari opportunità. Nomina le donne nei posti di potere, che è una cosa molto importante, ma fa quella, la sua politica sulle pari opportunità è quella sostanzialmente. Poi andate a spiegare che i fondi si sono dimezzati al movimento delle donne, diteci la verità sui fondi strutturali che sono stati cancellati per quanto riguarda la lotta contro l'escrizione. Nel contempo però si fa grande immagine, con i sindacati poi non ne parliamo, sta cercando di legittimarli a ogni pièce spinto, perché? Perché la strategia è quella, lui parla direttamente al popolo, sulle cose che il popolo si vuole far sentire e sulle cose sulle quali il popolo è già consenziente, perché sull'Unione Civili, sulle Unione Civili, poi non stiamo a sindacare, ma sul tema dei Unione Civili c'è più del 70% degli italiani che la pensi come lui. Quindi lui cosa viene in frega del sostegno dell'associazione legittiva? Va diritto come un treno rispetto a quell'obiettivo, perché con quell'obiettivo raggiunge il 70% degli italiani, non le sette sorelle sfigate che si riuscano una volta ogni tanto per parlare della politica legittiva. Non ha bisogno di questa intermediazione, non ha bisogno di sindacati, non ha bisogno delle forze intermedie, quindi non ci parlerà, questo strategicamente. Tatticamente poi, in questo specifico, lui non ne ha proprio bisogno, perché lui ha bisogno di associazioni LGBT che stannazzino, come dico io, contro le cose che il governo sta facendo, perché lui sul controltare ha l'NCD che stannazzerà sulle cose che lui vorrà fare. Quindi sta arrazzando uno, sta arrazzando l'altro e lui è in mezzo, che governa la situazione italiana. Poi secondo me questo governo e questo Parlamento non proverrà niente sull'NCD, per un motivo molto banale, perché questo governo esattamente come il governo Broglie con gli altri si incarterà su una questione partitocratica, cioè il testo di legge sulle unioni civili che forse il governo modificherà, perché Renzi, se non sbaglio, però potrei sbagliare perché io non ho Twitter e quindi non lo seguo, mi sembra che abbia detto che la discussione ripartirà, ripartirà dopo il passaggio delle riforme e ripartirà al Senato, se ripartirà con quel testo che al Senato, dopo Sergio ci dirà cosa essere, dopo il lavoro della Cilinacca, adesso è stata sostituita dall'altra, no, è sempre lei la relatrice? Perfetto, è sempre lei? Dopo quel lavoro, che è comunque un lavoro importante perché è fatto cosissimo, già quel lavoro lì è fatto cosissimo, già quello risultato io. Però Renzi non ci ha spiegato se a un certo punto all'ultimo momento arriva con un emendamento, un solo emendamento, che cancella completamente i segni di legge e si voterà su quello, perché nelle riunioni del PD, del Senato, della Camera non si prendono le decisioni collettive, se non di principio, per carità, se non di principio, il principio che bisogna legalizzare le donne fra persone del stesso sesso è passato, è chiaro per tutti. E l'anteprima di quello che potrebbe succedere sui NCD ce l'abbiamo sotto gli occhi, ce l'abbiamo sotto gli occhi sulla discussione che c'è sul diverso breve. Quello che succederà è questo, cioè NCD è un pezzo, consistente, non consistente, piccolo, non lo so, nel PD, si alleeranno nei fatti, dicendo che sono in contrasto ovviamente, ma nei fatti si alleeranno, per inserire nelle norme che dovranno passare o forremmo che passassero al Parlamento, dei freni, perché non c'è nessuno che oggi dice ufficialmente no, non al matrimonio, no alle mie civili. Anche Alfano dice sì, io sono a favore del riconoscimento dei miei civili, ma due punti, aperte e virgolette, che fa un elenco di condizioni, fra cui quella incredibile bagianata che non dice Alfano per altro, ma che dicono altri, in particolare dice Brunetta, che non ci devono essere posti aggiuntivi a carico dello Stato? Ma che argomento è? A proposito di Forza Italia, di cosa parla l'onorevole Brunetta? Di che cosa sta parlando? Cosa significa fare una norma senza onori aggiuntivi a carico dello Stato? Non volete far passare alla versibilità della pensione? E' questo di cui state parlandoci. Vi rendete conto che questo è ampiamente anticostituzionale, oltre che è contro la Carta dei diritti fondamentali e tante altre cose. Allora, noi in questa situazione ci troviamo. Stiamo facendo esattamente il gioco di Renzi, esattamente quello che gli vuole. Tatticamente non ci vuole parlare, perché noi dobbiamo essere sempre più caraviti contro di lui, perché lui ci metterà contro NCD e strategicamente a lui non interessa la interna direzione col popolo. Ecco perché, secondo me, come diceva il segretario prima, è molto importante, molto urgente che dal nostro piccolo si cerchi a di far capire alle altre associazioni che questo è un tranellone, un trappolone pazzesco in cui non si deve cadere, b di fare iniziative per mettere in difficoltà ai governi, per dire che noi siamo disponibili a discutere, anche delle tue proposte di beni civili, anche mettendo a parte il matrimonio, io sono per il matrimonio ugualitario, tu mi proponi come governo un'altra cosa, ne voglio discutere, perché non esiste che sulle questioni che hanno a che fare con la vita delle persone si discuta con qualcun altro che non siano le persone stesse. Voi lo sapete l'ultimo scherzetto che ha fatto questo governo con la finanziaria, sul fondo non autosufficienza, l'ha aumentato a 400 mila euro, ma ha tolto 150 mila euro dal fondo famiglia, l'ha tolto dal fondo famiglia, in questo momento oggi in Italia il fondo famiglia a che cosa serve se non a quello, se non a pagare, a sostenere le famiglie per pagare i badanti per le persone non autosufficienti che nelle famiglie ci stanno, dicendo poi che poi comunque negli anni futuri si tornerà ai 250 mila euro di fondo. Allora, bisogna stanare, tentare, almeno questo, tentare di stanare questo governo, metterlo di fronte alla propria responsabilità, sto dando parole grossi, perché Renzi non ci... Caga in me, usiamo la parola... Per le cose che vi ho detto, noi non siamo nel radar da intercettare, quindi dobbiamo inventarci delle cose perché si eviti questo meccanismo, si eviti questo cortocircuito e noi si ritorni a discutere con il governo, per esempio evitando comunicati stampa dove si chiedono le dimissioni del Presidente di Consiglio. Che cavolo di senso hanno oggi? Rispetto a che cosa gli richiedi? Lui ha fatto solo promesse, sto parlando solo del nostro, eh? Solo sui diritti. Anche sul resto ho fatto solo promesse. Io non apro la questione sulle altre questioni, ma è terrorizzante quello che non fa questo governo, in particolare il Ministro Lorenzin, su Cinevita. Lei, la secondazione assistita, poi ci sta prendendo per i cosiddetti in un modo sopraffino, con Renzi che non dice una parola, eh? Sono state solo delle regioni che hanno fatto un po' di casino per quanto riguarda l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Per il resto il governo formalmente, visto che ormai questo governo parla solo per Bocca Firenze attraverso il Twitter, attraverso Facebook, ma sono quelli che sono gli unici organi ufficiali di informazione e non ha preso posizione il governo in quanto tale. se non è alcune cose, la Sinter, il Revo, le solite cose che si prendono. Quindi noi dobbiamo, sul piano nazionale, fare in modo che questo tranello non ci travolga. Dobbiamo lavorare per riaprire la porta del dialogo col governo Renzi, con i suoi ministri, con i suoi sottosegretari, con i suoi consulenti, con tutti quelli che lui riterrà di parlare. E quindi io spero, chiedo, questo congresso faccia una lettera ufficiale, formale, non servirà poco, sarà un ulteriore atto che va sulla scrivania dell'archivio che loro hanno, ma un passo formale noi lo dobbiamo fare. Chiedere un appuntamento all'onorevole Martelli, richiedere un appuntamento al ministro Puletti che ci ha bellamente cagato proprio. Sulla questione dei fondi strutturali abbiamo scritto con tutte le altre associazioni italiane, sui fondi strutturali non hanno proprio risposto, 0-0-0-0. Sono trattati con l'Unione Europea, l'accordo di programma e l'hanno di questioni LGBT, perché non si parla di questioni antidiscriminatorie, sono cancellato l'obiettivo. E quindi, con tutto il pessimismo della ragione che vi può venire, noi dobbiamo ritentare la strada del dialogo, con il Parlamento, ovviamente, ma soprattutto con il governo, perché in questo momento è lì il massimo dell'ambiguità e dell'incomprensibilità da parte nostra di qual è la direzione. Detto questo, io ripeto che sulle questioni nazionali noi non avremo nessuna, cioè io non vedo, ragionevolmente parlando, non vedo, tranne che funzioni qualcosa, tranne che effettivamente il voto con il Movimento 5 Stelle vada avanti su queste questioni e il PD capisca che voglia di fare praticare, è possibile, tutto il PD, perché l'ha già capito di qualche cosa, per esempio, su giustizionali, sulla giustizia civile, si sta muovendo, io non vedo che in questo momento la questione degli uomini civili non possa essere trattata se non con un motivo per andare alle elezioni. Quello potrebbe essere un dei temi per cui noi andremo alle elezioni in primavera, con molti motivi, farsa ovviamente, perché poi si andrà per le elezioni per tante altre cose, ma la staccatura dentro il governo potrebbe nascere da quello, formalmente perché l'ECD fa l'offeso e l'oro e gli vuole il matrimonio umanitario, cosa falsa. Un'ultima battuta sul transnazionale. Io ritengo che noi abbiamo fatto miracoli in questo ambito, e tutti grazie a Iuri, devo dire, ma Iuri è ovviamente molto Ottavio, ma Ottavio c'era già prima, Ottavio io lo considero già parte della nostra storia prima ancora che ha fatto i diritti nascesi, perché comunque il suo posizionamento in certi posti importanti ci ha fornito spessissimo spanto materiale su cui lavorare, documenti, però è molto importante che si faccia un salto ulteriore. L'abbiamo già detto l'anno scorso, l'abbiamo già detto anche due anni fa. La nostra attività di posizionamento internazionale è compiuta. Chi ci deve conoscere chi ci deve apprezzare all'internazionale lo ha fatto, chi non voleva apprezzarci e chi non voleva conoscersi lo ha fatto altrettanto. Quindi diciamo che noi siamo stimati per quello che siamo, per le cose che abbiamo fatto, per gli obiettivi pragmatici e per la nostra capacità di flessibilità, di adeguarci alle modalità di lavoro che non sono le nostre, perché le modalità di lavoro in UK Europe non sono le nostre, in UK Europe, in UK World e in tutti gli altri organismi internazionali. Nel bene e nel male non sono le nostre. Quindi questa fase qui è terminata. Io ritengo che noi dobbiamo assolutamente partire decisamente con una iniziativa. L'avevano anche individuata. Non so se lei non mi ha parlato perché forse mi voleva parlare troppo. Però questa cosa che noi vogliamo fare e che vorremmo mettere insieme, di riportare in vita la battaglia sulla depenalizzazione a livello di ONU, date per scontate tutte le riflessioni, i kagamoshi che ci sono a livello internazionale, perché non si può fare, quello si offende, quell'altra no, che bisogna capire, non capisce, miliardi di pareri che hanno già avuto e che ancora avremo su questa cosa, più ci penso, più ritengo che invece quello sia il nocciolo intorno al quadro. Fatto bene, ovviamente, perché molti di questi dubbi sono reali, sono sostenibili, sono nella realtà dei fatti. Noi siamo in grado di poterla gestire questa cosa. E siamo in grado di poterci caratterizzare a livello transnazionale, non soltanto come certi diritti che è molto bravo da dove arriva, ma come certi diritti che fa, che produce un'iniziativa, che è quella di differenziazione a cui è strettamente legato il rapporto sull'applicazione delle leggi contro gli omosessuali, le lesbiche, i transessuali nel mondo, perché oggi non c'è nessun soggetto che gli raccoglie questi dati, non c'è nessuna fotografia utile. Sappiamo la ILGA da qualche associazione americana, quali sono i paesi che hanno le leggi, ma come sono applicate e in che modo non lo sappiamo, se non per alcuni singoli stati. Quindi questo è un lavoro importante, così come un altro lavoro importante sul quale, secondo me, dobbiamo forse inventarci qualche cosa a partire dagli strumenti comunitari. L'Unione Europea prevede le petizioni europee, per esempio, questa potrebbe essere una strada, non so se è la migliore, ma sicuramente la prima, è quello che gli impegni che si sono assunti, i nuovi organismi dell'Unione Europea, della Commissione, non del Consiglio, perché lì c'è ancora da capire cosa succederà. Di farla direttiva orizzontale, di lavorare per la strategia LGBT, cosa che ci hanno detto e ridetto anche a Roma, quella incredibile iniziativa, anche imbarazzante, dove si è messo l'italiano a Roma su questioni contro le discriminazioni, diciamo così, però la portavoce del commissario europeo, la Luna, che è molto brava, devo dire, anche a parlare, ma così come Timman e tutti gli altri leader europei che su queste materie interi hanno voce capito, l'hanno detto e ridetto che è giunto il momento per lavorare alla nuova direttiva orizzontale, che voi sapete è lo strumento che noi ci aspettiamo per poter intervenire in tutti gli altri ambiti in cui le altre direttive esistenti contro le discriminazioni non intervengono, e alla strategia LGBT, contro la strategia LGBT la precedente commissaria che ha detto no assolutamente, questa nuova ha detto di sì, anzi addirittura si è spesa dicendo facciamo e lanciamo strategie specifiche su alcune armi di discriminazione che in questo momento sono scoperte e ha richiamato anche altri altri. Quindi una iniziativa che li incalzi e che, come dire, gli faccia sentire un po' il fiato sul colo, oltre all'attività che India Europe fa, che è meritoria, che è importantissima, perché fa un'azione costante di martellamento dei funzionari, dei dirittori, dei dirigenti, delle commissioni che devono scrivere, secondo me ci vuole, tentando di fare qualcosa di pubblico, di grande, di pubblico, per esempio la petizione europea, dico così come altre cose, perché, qui la chiudo, il tema importante che l'Unione Europea non vuole trattare, così come lo dico io, ma che in realtà tratta e ne è perfettamente consapevole, è il rispetto della stessa normativa europea all'interno dell'Unione Europea stessa. Cioè la nostra Unione si è data delle regole, dei principi, delle leggi, delle direttive, sul tema dell'antidisponenzione e del raggiungimento delle quali opportunità che sono continuamente disattenti. Su altre materie arrivano le multe, su queste ne vedo poco, in particolare per quanto riguarda l'Italia. Cioè c'è un sistema che non funziona. Il Parlamento Europeo l'ha spiegato molto bene, Ottavio ci ha anche lavorato su questo, su quale è lo stato dell'arte e dell'applicazione dei principi comunitari di non discriminazione e qual è la differenza di vedute. Ma questo non toglie che è un tema importante da trattare e che noi dobbiamo assolutamente rislanciare. Grazie. Allora, la parola adesso è a Rita Pelletti. Grazie molto per la tua presenza e per il concluterò questo mio intervento poi leggendo quello di Laurel Conti che non è potuta essere presente. Non so se voi tutti la conoscete, è stata l'anno scorso Presidente di Radicali Italiani. Ha una certa età e problemi di disabilità molto gravi, però ha una vitalità che batte anche molti di noi, anche unimi e tutti assieme perché la sua attività è veramente incredibile sul livello proprio di produzione e di iniziativa. Io ringrazio naturalmente per l'invito e ringrazio soprattutto Anzo Bucco per questo intervento che mi pare dia una indicazione di quello che dovrà essere certi diritti nel futuro e la dà in una chiave che a me appare molto interessante, che è una chiave profondamente radicale. Tutti i soggetti politici che abbiamo costituito nel tempo, compreso il partito radicale, sono sempre stati strumenti che non avevano l'obbligo di durare all'infinito ed è forse proprio per questo che il partito radicale resiste ancora e il prossimo anno nel 2015 compirà 60 anni. Proprio perché c'è sempre stata questa idea dello strumento che viene utilizzato finché serve. Poi anche gli strumenti si augurano oppure se ne inventano di più efficaci e quindi non sono più utili allo scopo. E questo credo che sia una cosa molto importante in un paese che ha vissuto i decenni del sistema partitocratico, gli vive ancora oggi sotto diverse forme perché il sistema è sempre lo stesso e fondamentalmente è un sistema che è antidemocratico. Cioè se noi nel 2011 avevamo fatto il libro sulla peste gialla, ma se noi andiamo a vedere anche quello che è accaduto negli ultimi tempi, vediamo una storia della Repubblica italiana che è stata via via sempre di più una storia di antidemocratia. Guardiamo quello che succede oggi. Credo che Enzo Cuco abbia descritto molto bene la situazione e il ruolo che gioca anche l'attuale Presidente del Consiglio. però si sono scelti, come è accaduto anche in passato, ma forse oggi in un modo più spudorato, gli antagonisti. Loro, avendo il potere che hanno, e qui torniamo sul pallino radicale dei mezzi di informazione, si scelgono chi deve essere l'antagonista al potere esistente. Il potere poi, noi lo sappiamo, anche quando è antidemocratico, è chiaro che muta e si trasforma, ma si basa esclusivamente sul mancato accesso dei cittadini all'informazione, alla conoscenza, perché è su questo. E addirittura, anche per le opposizioni, il potere ha bisogno di un certo tipo di opposizione. Io credo che lo stesso fenomeno del Movimento 5 Stelle è stato utilizzato in questa chiave, adesso c'è il Sampini. Adesso voi, in qualsiasi momento, oltre a Renzi, che sta per tutto, ma tutto questo noi, fino a quando abbiamo potuto tenere in vita il centro d'ascolto dei programmi rete televisivi, lo abbiamo documentato anche, paracorando le percentuali di ascolti che i vari soggetti politici avevano in televisione con le percentuali di voti poi effettivamente presi. Sono praticamente, sono fatti con uno stampino, con dei timbre. e adesso c'è questo fenomeno di Sampini che viene, è in continuazione, lo chiamano da per tutto. Io, in certe volte, mi meraviglio perché mi chiedo come fa a stare da per tutto, perché non è facile. E qui c'è questo grave e importante problema. Allora, che cosa dice Ernesto Pucco? Dice, noi non è che dobbiamo aspirare, anche perché in una situazione di antidemocrazia è praticamente impossibile, dobbiamo aspirare ad avere milioni, partito di massa, eccetera, eccetera. Ma la cosa importante è che chi, le persone che riusciamo in qualche modo a raggiungere siano insieme a noi tutti attivatori di democrazia, attivatori di diritti umani fondamentali, perché poi questo rimane nel tessuto e anche se non si vedono i risultati immediati è qualcosa che penetra, che si riafferma e riaffiora in momenti decisivi e importanti. E questo a me sembra il ruolo che deve svolgere un'associazione radicale e dirò di più, che debbano svolgere tutti i soggetti radicali. Naturalmente condivido anche il fatto che ha portato Ernesto Pucco a dire sì, però noi dobbiamo avere anche l'attenzione, perché il momento è così difficile, dell'iscrizione al partito radicale, noi che siamo soggetti costituenti non possiamo permetterci di far morire il Costitutore, insomma. Perché altrimenti si può fare tutto, ma è un'altra storia, io credo sicuramente di incisività minore. Non dobbiamo dimenticarci che quando abbiamo fatto battaglie storiche che allora sembravano perse, secondo l'opinione non dei cittadini, ma dei partiti, sono bastate veramente poche persone determinate, che però hanno avuto una caratteristica, quella di immergersi nel problema della gente, nel problema vissuto quotidianamente, di capire poi le soluzioni attraverso la vicinanza a queste persone. ma ricorda sempre Argentina Marchei, comunista, che veniva a tutte le manifestazioni per il divorzio ed è stata una delle animatrici della lega italiana per il divorzio. Era una popolano, chissà che cosa fosse, però era fondamentale, così come io dico, per me, per l'attività politica che svolgo come segretario dei radicali italiani, per me è importante immergermi nelle storie che sarebbero sicuramente ignorate. Penso alle storie di detenuti, perché Macaluso l'ha detto l'altro giorno in un intervento che sarebbe radicato, è andata ad una riunione dei garanti, rimproverando il suo partito da quando era PC fino a poi sulle varie trasformazioni che ha avuto, dice diciamolo chiaramente che questi temi se ne sono occupati solamente gli americani e questa è una responsabilità che noi abbiamo. E allora, ecco, c'è questo dato dell'essere persone insieme e politici insieme a chiunque. Perché poi a me è capitato, scusate, sembra una divagazione, ma è capitato l'altro giorno, martedì scorso, stato a radiocarcere e Riccardo Arena aveva intervistato uno che era appena uccido di galera, nella sua semplicità, perché era una persona veramente del popolo che ha vissuto questa esperienza, ma praticamente ha detto tutte le cose essenziali che erano contenute in un articolo che lui sicuramente non aveva letto, di Sabino Cassese, pochi giorni prima, sul Corriere della Sena, sul mancato sull'assenza di funzionamento della giustizia nel nostro paese. Quello proprio punto per punto ha individuato quel cittadino gli elementi fondamentali del perché la giustizia non funziona in Italia. Era quello della porta a fianco, in un quartiere popolare, in uno di quei quartieri dove avvengono i fatti che abbiamo potuto vedere, e quelli ce li hanno fatti vedere, nelle periferie delle grandi città, per cui si emarginano e si espellono, no? Mentre Obama fa la legalizzazione di 5 milioni di immigrati, da noi c'è, ma anche perché la città è stata amministrata male, guarda se non potete fare tutti questi ragionamenti. Comunque, questo è quello che avviene nelle periferie e gli si dà risalto. Ed ecco che se poi c'è l'intervento di Salvini, le cose si legano, no? E i cittadini che vivono difficoltà profonde, dicono, ma allora la porta è di quello, allora la porta è di destra comunitaria, allora la situazione è di loro. Guardate che si stanno abbattendo, si stanno superando dei limiti che fino a qualche anno fa noi pensavamo che fosse impossibile superare. Io non so se vi è capitato di leggere, alcuni giorni fa, la dichiarazione che ha fatto una consigliera comunale di un paese in provincia di Milano, a me che cosa? Questo ha detto sostanzialmente, ce l'aveva con i roma. Questo ha detto ci vorrebbero i formi crematori, diciamo, mancamente, anzi, io ho qui la taverna sotto casa, se vedete del fumo che esce, non preoccupatevi. Siamo a un modulo e di mezzo. A me che cosa ha preoccupato? Ha preoccupato intanto che fosse una rappresentante di questa persona. Ma la leggerizia con cui l'ha detto, vuol dire che era qualcosa che aveva dentro e che l'è uscito così, con spontaneità. E quindi è qualcosa che sta penetrando, che è penetrata, per questo ci dovrebbe, perché l'avversario politico che dice una cosa del genere, beh, lo mette subito a tacere, ma quando ti viene così da dentro, vuol dire che è qualcosa che è penetrato e che si sta manifestando in qualche modo. E questo è molto, molto percorso. Poi abbiamo tanti altri segnali in Europa di questo tipo. Ecco perché io credo che veramente dobbiamo prestare attenzione alla situazione che stiamo vivendo di degenerazione dell'antidemocrazia che non sappiamo a che cosa, possa arrivare in quali forze anche occulte si stiano muovendo per dare armi a una parte piuttosto grave, per usare i sentimenti che via via si affermano, ma si affermano grazie ad un tipo di informazione che viene fatta ed è veramente bombarda la mente e la fondamentalità dei cittadini trovandoli in difficoltà, perché sicuramente questo è un momento evidentemente di grande difficoltà. Quindi è un momento in cui dobbiamo stare molto attenti e credo che noi possiamo accogliere un ruolo significativo, importante, se abbiamo ben chiare quali sono le poste in gioco, perché voi mi trovate un'altra forza politica che puntualmente individua i punti essenziali della mancanza di democrazia in Italia? Non c'è, perché o lo si fa come il Movimento 5 Stelle, un po' così alla Carlona, mischiando dentro cose molto contraddittorie, guardiamo appunto il gruppo del quale fa parte il Movimento 5 Stelle in Europa, oppure veramente non c'è questo tipo di consapevolezza. Quindi radicali, associazione radicale come attivazione di democrazia, per cui, fatto tutto questo discorso, io credo che certi diritti deve fare lo sforzo, certe volte la durata è la forma delle cose, fare lo sforzo di continuare a vivere, di alimentare tutte le cose che io ho sentito che si fanno. Sembra poco, ma invece è qualcosa di fondamentale. Poi ci sono dei format, e questo è un suggerimento che volevo dare. A me ha colpito molto come la Lega Italiana per il divorzio breve, che poi fondamentalmente sono, che sono praticamente Alessandro Gerardi, Sheila, ma insomma, come ha condotto questa lotta che può arrivare al successo? Poi, a parte le iniziative non violente, che hanno due mila persone, che fanno lo sciopero della Fanno, tutte raccolte in rete e attraverso la raga radicale, ma praticamente loro sono stati parlamentari, pur non essendo in Parlamento, perché nella loro trasmissione, in tutte le trasmissioni, chiamavano i parlamentari del Movimento 5 Stelle, e poi hanno fatto seguire ai cittadini, certo quelli un po' più attenti, ma che avevano il problema con il divorzio, gli hanno fatto seguire via via i passi davanti, i passi indietro, le contraddizioni, quello che ritira l'emendamento, quello che lo fa, e poi, in un certo senso, hanno responsabilizzato i membri della Commissione Giustizia che stavano discutendo la proposta di legge, fino a che si è arrivati ad un successo veramente importante, poi adesso ci saranno i passi indietro, loro già sono allarmati, però comunque che addirittura è passato il divorzio lato, come votazione, e quindi senza la necessità della separazione. Però anche il format che hanno usato, secondo me, è molto importante. Io seguo spesso, praticamente sempre, la rassegna stampa molto bella, perché non credo che sia lui che non ho mai sentito altre rassegna stampa così su diritti LVPT e che padre è un ardomonico da Radio Radicale. Certo, è un orario un po' particolare, però è importante perché uno, siccome sono notizie che è difficile andare a cercare nei giornali, rimetterle tutte insieme, beh, fa un certo effetto di dice quello che si sta muovendo in Italia, e non solo in Italia, grazie al lavoro che fai, quindi quello è un format molto utile. Però, ripeto, se riuscite, io non lo so come, certo, Radio Radicale è un grande strumento, ma a fare, chiamandoli in causa, perché poi, anche a loro, ai parlamentari, ai deputati e ai senatori, piace discutere di quello che loro fanno, non è chiuso di una commissione che nessuno si fila, perché poi la stampa non è interessata. Ma addirittura, ripeto, la lega per il divorzio breve è riuscita ad essere, in un certo senso, quasi ha presentato gli emendamenti, legislatrice, semplicemente attraverso il contatto diretto, il farvi parlare in pubblico a questi senatori in questa ultima fase, ma l'avevano fatto in precedenza anche con la Camera dei Deputati. Detto questo, quindi io vi ho detto, andate avanti, e adesso passo all'intervento che per voi ha voluto scrivere Laura Arconti. Allora, scrive Laura per voi, non cederò alle consuetudini e non comincerò col solito, cari compagni e cari compagni. Lasciate che invece io dica, a modo mio, cara la mia gente, e scrivo gente con la G maiuscola, riferendomi all'etimo latino, perché senso dal profondo del cuore di appartenere ad una stilpe che è di tutti noi, diversi dagli altri. Se non sono lì con voi, gente mia, è perché viviamo in un paese fatto apposta per giovani, sani e datoretici, un paese in cui i disabili e i vecchi non trovano cittadinanza. Non ho neppure osato sognare di poter raggiungere la mezzia portando con me la mia fuoriserie a due ruote, per dirvi con la mia voce quello che sto scrivendo. Voi mi conoscete, mi piace la concretezza. Comincerò quindi con dirvi che ho inviato al nostro tesoriere un politico corrispondente alla quota di iscrizione 2015 a certi diritti per me e per Laura Termi, che come sapete mi accompagna di vita da 33 anni. Il versamento è stato accreditato con qualità precisissima, con valuta 12,90 del periodo. Un paio di settimane fa, a Berona, Marco Pannella ha fatto una certa dichiarazione a proposito del matrimonio fra un sessuale, immediatamente eseguita da tentativi di polemiche intestine da parte di alcuni compagni del caso. Indignati, suppongono Marco Pannella capace di dettare una linea di intolleranza o addirittura di dietro al servatorismo. Come dire che è un radicale abortista perché difende il diritto delle donne ad una scelta drammatica quanto necessaria oppure che è uno sfascio a famiglie perché vuole che sia possibile sciogliere legami senza che amore. A Minto Reconfani la pensava quella qualcuno fra i meno giovani se ne ricorderà certamente ma non Marco Pannella è un qualsiasi radicale. Ciò che noi vogliamo è che sia possibile fruire di uguali diritti fermo restando che poi ognuno fa le sue scelte come voi venite. Io vi dico con assoluta sincerità che a me personalmente il matrimonio non mi interessa e neppure interessa all'altra Laura l'altra metà di quel sodalizio di vita che Marco definisce da trent'anni le lauree a me non importa di chiamare l'altra Laura col nome di moglie o marito anzi la sola idea mi fa un tantino ripreso prima di tutto perché sono termini per distinguere il lui dalla lei mentre per me il legame omosessuale è testimonianza di reciprocità totale di un rapporto assoluto fra i quali e poi perché come Mimmo Dugno diceva in una sua canzone meno nota all'anniversario non abbiamo bisogno di chiamarci con lo stesso cognome noi ci chiamiamo amore tutte e due di più abbiamo cognomi diversi ma lo stesso primo nome il caso è stato generoso con l'amore ecco il messaggio attettuoso che vi mando per questo nostro congresso per me e per la mia Laura non ci sarà matrimonio anche se c'è una legge che lo consenta perché la pensiamo come quel poeta che è stato presidente del partito radicale Mimmo Modugno e sappiamo che con un contratto non si lega un sogno ma voi continuate a perseguire l'obiettivo di ottenere uguaglianza totale con il resto del mondo continuate a curare la politica dei gritti con la tranquilla serietà di chi sa di aver ragione senza esagerazioni ed esibizionismi fragolosi continuate a farvi rispettare per la dignità della vostra consapevolezza per la forza delle idee per la ricerca radicale della libertà per il sogno possibile di un mondo in cui ognuno possa scegliere liberamente come vivere la propria vita come ho detto spesso la prima metà della mia vita è stata molto dura a causa delle mie numerose diversità interiori non solo omosessualità e sono serena e mi sento sicura solo da quando ho incontrato il partito radicale mezzo secolo fa la mia tessera del fuori è tra i ricordi più cari e la nascita di certi diritti ne è il giusto corollario grazie gente mia di essere con me grazie della gioia che mi viene dal sapere che esiste certi diritti che voi tutti ci siete buon congresso Laura Conti grazie 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 Laura per questo messaggio che io ritengo molto molto affettuoso molto toccante per chi quegli anni li ha risulti poi per una persona anziana come me che si come vedete si mi commuove posso fare sentenza è una delle cose che le tante che mi ha quindi grazie 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 per cambiare il sentimentalismo che ovviamente gioca un ruolo insomma dice delle cose bene Laura nel suo intervento così come ha detto delle cose molto importanti di vita anche rispetto alle cose da fare perché come sempre anche nei suoi interventi c'è sempre questa cosa di portare un contributo concreto una cosa che potete fare è per esempio quella cosa di che ha detto una possibilità magari che sarà banale però infatti non tanto perché io non li vedo tutte queste dichiarazioni sui giornali dei senatori e dei deputati che si occupano di queste questioni non vedo uno spazio dove queste persone pubblicamente ovviamente da uno strumento di comunicazione di massa come radio radicale possano spiegare le ragioni delle loro scelte contro o a favore anche contro a parte le sparate di Giovanardi di Rocella che escono puntualmente tutte le volte che dicono una mente stupidagge su tutti i giornali in realtà gli altri deputati gli altri senatori che magari molto storialmente hanno fatto un lavoro per tentare di portare a casa un risultato non hanno voce non hanno proprio possibilità quindi è un'indicazione molto utile allora adesso l'intervento è quello di del nostro amico che abbiamo invitato noi a venire Massimo Modesti che ci parla di un ulteriore tema che sembra molto distante da quelli nostri in realtà ci sono molte connessioni lui ci spiega il tema e la ricerca che viene a presentarci sono previsti due interventi esterni che sono gli invitati che sono poi il disegno giudice è quello di Luciano Dattola che è il presidente del Cichetto di Romani di Reggio Calato Lucio è chiamato Luciano Dattola quando volete intervenire ditemelo che io vi inserisco perché io vado avanti con l'elenco così del dibattito di iscritto e parlerà di un dibattito generale a te grazie grazie buon pomeriggio a tutte e a tutti mia prima volta ad un congresso politico in qualità appunto mio non sarà un intervento politico non mi definisco neppure un attivista anche se qualcosa storaticamente faccio nell'ambito della salute MSM ma appunto intervento come studioso su un tema che peraltro è a me molto caro e insieme alle mie colleghe parlano meglio lo staff appunto ho accolto con piacere il vostro interesse e ringrazio in particolare l'Uri Guagliama per avermi invitato e verso una tematica in qualche modo minoritaria ma come tutte le realtà sociali e le tematiche che appaiono marginali o di piccola portata può forse gettare una luce su quello che è il funzionamento o il mal funzionamento dei meccanismi istituzionali generali che se approfondita può portare può condurre a delle vie innovative ad una ricerca di vie innovative per soluzioni strategie modalità nuove che approcciano ai problemi dunque il progetto di cui vi parlo nasce da un'utrizione che ho avuto alcuni anni fa in quanto mi interessavo già da tempo come studioso come pedagogista come formatore consulente ai percorsi di crescita di figli e figlie di migranti in modo particolare in relazione ai servizi educativi e sociali scuola in primis si è concretizzato questo progetto nel lancio di un'idea da prima tramite il gruppo facebook della rete G2 seconde generazioni e da movimento dei figli e figli di migranti a cui rispose Medin Paolos fotografa attivista rettica nata in Italia da genitori eritrei che poi è entrata appunto a far parte dello staff e successivamente nella segnalazione da parte di una docente universitaria con cui collaboravo di una collega e nei libri ricercatrice anche presidente di arcinesi Kazami in Milano che aveva realizzato una ricerca sulle donne migranti dal Berù in particolare lesbiche e infine nell'intercettazione di un'altra collega attraverso un percorso di avvicinamento e di integrazione dei percorsi dei movimenti dei migranti dei movimenti LGBT da parte dell'università migranita Milano l'associazione Arcidolo Cambia e ho conosciuto Antonio Monopoli che è responsabile dello sportello trans di Avigliano Onnus e che ho coinvolto in un'università di Bacrani un piccolo staff il progetto fin dall'inizio ha voluto essere una ricerca comunicazione una ricerca intervento per due motivi e perché ben si adattava quindi per i nostri percorsi in qualche modo tutti e tutte eravamo coinvolti nel tema in quanto lesbiche in quanto gay transgender migranti seconde generazioni in qualche modo di origine stranica in secondo luogo perché volevo offrire un'opportunità di crescita ai giovani in modo particolare sono giovani coinvolti nel progetto ecco mi sono preparato una accurata se volete relazione anche se venendo conto che veramente un progetto di questo tipo un approccio nostro alla ricerca è di tipo qualitativo si dice tra tecnici in termini metodologici siamo due antropologi e antropologhe e quindi ci interessano molto le storie delle persone quindi in qualche modo dirò delle cose però rimane in ombre l'aspetto più interessante che sono le voci i volti i vissuti i significati che partono da cui cerchiamo di trarre appunto degli aspetti significativi ma che meriterebbero molto più tempo per essere in qualche modo detti ed esplorati mi soffermano su tre punti in modo particolare uno sono le caratteristiche generali della ricerca e alcuni dati le esperienze che cosa emerge dalle esperienze dei giovani lcbt figli e figlie di migranti o poche miste le cosiddette seconde generazioni e un terzo punto che cosa possiamo imparare quindi le considerazioni se vogliamo termine politiche e servizi la ricerca non ha riguardato grandi numeri è stata si è concentrata su un piccolo gruppo intercettato tramite vari canali chat social network associazioni lgbt o di seconde generazioni amici reti informali e anche uno sportello di accoglienza su un territorio specifico che è quello milanese anche se poi ha tratto anche giovani da altre province della Lombardia o addirittura da altre regioni la scelta fin dall'inizio come dicevo è stata quella di offrire un'occasione di formazione ai partecipanti cioè non ci interessava raccogliere dei dati in modo come dire neutrale e asettico e poi sparire bensì esplorare quelli che erano vissuti le storie in modo approfondito dando l'opportunità di metterle a disposizione degli altri di realizzare una forma di scambio di riflessione in una situazione di gruppo protetta e tangenzialmente come è successo di creare delle relazioni questo ha chiaramente questo approccio che abbiamo deciso quello di gruppo sono stati appunto degli incontri dei focus gruppo quelli da cui abbiamo raccolto i materiali di esperienza ha autoselezionato i partecipanti perché tutti sapevano che si sarebbero trovati insieme ad altri con percorsi simili in un contesto che per quanto tutelato della privacy perché questo ci interessava poter offrire risultava comunque pubblico e abbiamo intercettato persone in qualche modo che desideravano trovarsi in una situazione del genere davanti ad altri e ad altre e con percorsi simili con cui confrontarsi e in alcune case devo dire aspettavano da tempo questa occasione e d'altra parte ci sono alcuni che si sono anche tirati indietro si sono tirati indietro all'ultimo minuto o hanno rifiutato per valiantivi a volte anche per il fatto di essere identificati o come legge di tipo o in qualche modo di origine straniera più che per questioni appunto di privacy in sé alcuni li avremmo comunque tenuti in considerazione successivamente per interviste singole ecco una parentesi ci tengo a sottolineare che al momento questo deve essere un progetto ed è continuo ad essere un progetto che uno suscita molto interesse e due anche molto ambizioso finora lo abbiamo condotto con zero euro non perché questo fosse nelle iniziazioni ma perché non siamo riusciti appunto probabilmente abbiamo sbagliato anche qualcosa in un bando non siamo ancora riusciti ad ottenere dei fondi per cui si sta diciamo lo stiamo chiudendo in una prima fase poi vedremo dati sintetici che posso darvi con il corso di sei incontri che abbiamo realizzato tra il 2013 e il 2014 hanno partecipato circa 30 giovani nati e cresciuti da famiglie straniere provenienti dai seguenti paesi Peru Ecuador Bolivia India Cina Filippine Vietnam Brasile Eritrea Kosovo alcuni nati nati in Italia altri all'estero e poi ricongiunti in diversa età dall'infanzia all'adolescenza compresi tra i 16 e i 34 anni uno di loro anche è un adottivo di origine granita altri che abbiamo incontrato in situazioni più come dire aggregative come degli appetitivi e a questi si uniscono vari contatti che continuo e continuiamo ad avere con giovani che potrebbero essere coinvolti in un progetto più articolato figli di genitori danesi marocchini e rumeni che cosa emerge appunto da questa ricerca è difficile fare delle generalizzazioni innanzitutto il materiale è ricco e denso di esperienze di tessuti posso solamente mettere in rilievo alcuni aspetti che descrivono una realtà appunto molteplici a più voci a più volpi che va soprattutto ascoltata nelle sue articolazioni e specificità un aspetto che avevamo notato in primo luogo è questo tutti e tutte tendevano fin dall'inizio a minimizzare le questioni che riguardavano l'identificazione o la discriminazione subate etnica mentre mostravano un grosso interesse per i temi LGBT in particolare nei rapporti con la famiglia questo probabilmente è una spiegazione che ci siamo date perché ciascuna in qualche modo di loro è cresciuto attivando delle strategie per negoziare con gli altri l'identità etnica o l'identità etnica plurale arrivando a non considerarlo quasi più un problema o comunque una questione ordinaria perché per molti di loro la visibilità data dai marcatori etnici cioè i tratti somatici che li identificano rende fin da bambini la cosa esplicita quindi l'essere di origine straniera in qualche modo va assimilato piano piano e in questo senso si è ritrovato un parallelo tra l'esperienza per esempio dell'essere di origine straniera o figli stranieri e transgender in qualche modo nelle due casi non è possibile nascondere della propria identità e nel caso invece per esempio dell'orientamento sessuale può essere dissimulato in qualche modo o nascosto e tuttavia rispetto alla questione dell'etnicità che sembrava appunto non essere problematica una volta che abbiamo poi sono venuti fuori i soldi i soldi i fatti che nella vita hanno ferito in qualche modo una discriminazione o stigmatizzazione e in ogni caso la questione di genere o di orientamento sessuale è rimasta al centro del loro interesse rispetto alla questione dell'etnicità la consapevolezza però dei vissuti e delle stratificazioni ideologiche storiche che si c'erano dietro ai tratti somatici ai marcatori etnici più forti ne dico due in particolare colore della pelle taglio degli occhi qualcuno ha portato anche il tema dell'altezza per esempio in particolare per coloro che arrivano da popolazioni natigere del Sud America e questi aspetti e quella consapevolezza di questi aspetti in realtà non è del tutto assimilata a della nuova c'è ci si attrezza come i cambiamenti di chiesa però come significa effettivamente essere nero in un contesto sociale di una maggioranza bianca soprattutto come nel caso dell'uomo transforia interiorizzata quindi dell'interiorizzazione come credo immagino sapete tutti di un giudizio negativo verso la propria omo transestualità i giovani nati da genitori stranieri in qualche modo in alcuni casi scusate interiorizzano un giudizio negativo verso le caratteristiche somatiche che li identificano come di origine straniera ricordo in particolare un giovane universitario cresciuto da genitori filipini che per un periodo odiava i propri occhi che in qualche modo lo facevano riconoscere come in questo caso un discendente di cinese perché moltissimi filipini moltissime famiglie filipine hanno tra gli angeli spagnoli statunitensi in modo particolare cinese d'altra parte le gerarchie di bellezza anche in base al colore della pelle o ad altre caratteristiche somatiche non sono non nascono solo dal confronto tra italiani e stranieri sono già dentro le storie le ideologie le rappresentazioni sociali delle comunità di origine delle comunità etniche di origine cioè lo stigma verso come dire più bianco e più bello è una cosa che non nasce come dire nel confronto con la migrazione è qualcosa che nasce molto dall'ultimo un particolare a questo proposito tra i partecipanti c'era anche come dicevo prima un giovane adottivo di origine brasiliana quasi nato in Italia potremmo dire e ci siamo accorti che le sue narrazioni e dalle sue narrazioni che il fatto di non avere alle spalle una rete di relazioni con reti brasiliane non gli ha dato a differenza di altri che hanno la possibilità di costruire una partenza e un'identità in qualche modo che lo rendesse consapevole di che cosa significava essere etniche in questo caso ed elaborarlo come parte di sé senza un giudizio negativo un altro tema che è emerso è la questione del coming out il coming out più tenuto come per moltissime altre persone e anche considerato come per tutti noi è quello con la famiglia alcuni hanno fatto valore in pochi in realtà altri sono stati costretti dalle circostanze altri ancora lo auspicano altri lo rimandano il più possibile magari attendono di essere indipendenti economicamente di avere un partner a cui appoggiarsi in caso di rifiuto della famiglia altri perché non vogliono dare un tenso ai genitori che poi dovrebbero gestire questo segreto questa notizia questa informazione nell'ambito delle loro reti di relazioni coentriche cioè nell'ambito della cosiddetta comunità qualcuno lo ha fatto magari con i cugini le cugine i fratelli le sorelle ma ancora con i genitori no sta di fatto che a differenza nel caso dei migranti lgbt semplicico chiaramente potrebbe essere allungato come sapete l'acronimo no lgbtqs S, Z, in questo caso tutti si pongono il problema della vivazione in famiglia, perché in qualche modo crescono e vivono in famiglia e se per qualche modo i migranti LGBT possono tergiversare in vari modi e trovare delle strategie anche per vivere delle relazioni sentimentali, a volte segretamente, io per dire a un amico senegalese che si è trasferito in Francia e si è sposato in Francia con un uomo, ma la sua famiglia è un uomo e lui dice che non lo dirà mai. Appunto per i giovani di seconda generazione questo tema c'è, non può essere evitato in qualche modo, alcuni arrivano anche a cedere alle pressioni della famiglia sposandosi con una ragazza. Non è il caso dei partecipanti, ma uno di loro, che è un amico con il quale ha un rapporto profondo, me ne ha parlato proprio in concomitanza delle nozze di un coinquidino come lui di origine eccellente, delle nozze con una ragazza. Ha pensato che forse potrebbe essere per lui la soluzione, io spero che non lo faccia. L'altro tema che abbiamo considerato che abbiamo rilevato come importante riguarda le lingue e le terminologie per definire l'identità omotransessuale, perché sono di estremo interesse per il nostro discorso, rappresentano un tema importante. Alcuni dei giovani partecipanti, proprio grazie al percorso che abbiamo loro offerto, hanno iniziato a riflettere sulle diverse rappresentazioni locali e native dell'identità queer o omotransessuale. Proprio a partire dai discorsi che sentono fare dai genitori, dai familiari o dai pari della rete poetnica. Riporto alcune narrazioni, una di loro ci ha detto uno dei motivi per cui mi è difficile rivelare la mia omosessualità in famiglia è il fatto che nella lingua tigrigna non esiste la parola lesbica e per definire i gay si usa un termine dispregiativo. Un altro ancora raccontava, mio fratello un giorno mi ha detto, io non capisco come un gay possa stare con un altro gay, un gay dovrebbe mettersi insieme ad un entero. Da lì, lui ha detto, ho iniziato a capire che tra i filippini dire gay equivale a dire transgender e per i gay maschili si usa la parola misessuale. Un altro ancora, sempre di famiglia filippina, mi disse, quando ho capito che mi piacevano i maschi, mi sono chiesto se mi sentivo come loro, intendeva le persone transgender, e alla fine ho concluso che io mi sentivo diverso, cioè mi piacevo così come ero. Il confine tra orientamento sessuale e identità di genere nella lingua pagano, quindi nella lingua filippina non è così netto, e neppure nelle rappresentazioni sociali, dell'identità LGBT. Queste rappresentazioni sono legate moltissimo quindi alla lingua e ai vocaboli che identificano le identità queer, e sono potenti nel definire anche il ruolo che ciascuno occupa, il posto al ruolo nella comunità. Parlo in modo particolare in questo caso delle reti filippine, perché me ne sto un po' occupando in modo specifico a Milano. I modelli di identità che in qualche modo si possono osservare nell'ambito della comunità coetnica diventano rilevanti spesso anche nell'indirizzare il più giovane verso un destino, nel sentirsi spinto. Per esempio nel fatto di essere spinto verso un'identità transgender, semplicemente per il fatto che piacciono le persone dello stesso sesso, e non per il fatto che mi sento, come dire, in qualche modo di un genere diverso rispetto a quello che biologicamente mi è stato appunto destinato. D'altra parte nelle comunità, io vado ogni tanto a delle feste di famiglie filippine, le persone transgender sono molto visibili, cioè non c'è ambiente in cui non ci sia, e parlo sia F2F che F2L, ma con la particolarità che in genere non avviene una transizione. Le persone, come dire, transessuali o transgender che hanno una coscienza più, diciamo, legata ad un linguaggio internazionale direbbero che sono dei travestiti, delle travestite, che non trovo corrette in questo caso, ma a che fare appunto con un'assimilazione di un'identità locale. Sono molto visibili sia quelle femminili sia quelle maschile. Quindi il fatto di come io mi identifico in questo senso per una giovane figlia di migranti dipende molto dai contesti sociali, dalle relazioni che diventano importanti per ciascuno e crea un'appartenenza, offrendo delle occasioni per comprendere se stessi e per definirsi in quanto LGBT e di un'unione straniera. In questo senso ha un ruolo importante anche in web. Mi ricordo questa ragazza che io conosco perché abitavamo a pochi chilometri quando stavo nella provincia di Verona e una ragazza figlia di marocchini transgender che adesso si trova in Australia. Lei mi raccontava, mi diceva appunto che per lei un certo momento è stato importante andare alla ricerca di altre in qualche modo ragazze nate da genitori marocchini e aveva intercettato una in Germania, insomma per poter confrontarsi in qualche modo perché non c'erano dei modelli nella realtà di circostante. L'ultima questione è che cosa possiamo imparare da queste esperienze. Dunque, mano a mano che andiamo a fondo nell'esplorazione di questo campo di indagine scopriamo che alcune categorie di comprensione dell'esperienza di questi giovani forse sono eccessivamente semplificatorie. Per esempio, nell'ambito delle seconde generazioni si usa spesso l'espressione, entrata un po' leggero, nell'uso comune, sospesi tra due culture o tra due monte. È stata anche un po' mutuata questa dagli studi scientifici, in particolare di etnopsichiatri. Dunque, se poi andiamo a raccogliere le storie di studi, di molti di loro, ci accogliamo che non esiste questa sospensione. Non esiste una conflittualità tra identità, tra le varie identità, e a volte non sono nemmeno due identità o due, non esiste molti di più quelli a cui fanno riferimento. Magari emergono di fronte a scelte importanti della vita dove c'è una questione di lealtà alla famiglia piuttosto che ad altri ambienti istituzionali o sulle norme sociali, morali, o quando i conflitti vengono esacerbati a livello sociale, ideologico, mediatico, anche di politica internazionale. Se pensate, dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, per le persone e anche per i figli delle persone migranti da paesi arabo-musulmani, o comunque di lingua araba, è stato un periodo piuttosto difficile per un'identificazione sommaria nel terrorismo. Altra questione è per i cinesi, in modo particolare adesso rispetto a quella che è l'importanza dell'imprenditoria italiana e quindi in conflittualità con gli imprenditori locali. Spesso quindi la rappresentazione di un conflitto inconciliabile è presente nella testa di questi giovani quando viene assimilata e rimandata, riflettuta continuamente dal linguaggio nostro, dal senso comune circolante. Mi sembra che sia riduttivo, come parlare del tema seconde generazioni LGBT, leggere l'esperienza di questi giovani unicamente nei termini di una doppia discriminazione o discriminazione multipla, cioè l'idea che in qualche modo siano doppiamente oggetto di discriminazione per le caratteristiche di essere LGBT e di origine stranile o identificabili come tali. È innegabile che vi sia una rete cornice giuridica più fragile, ad esempio per la difficoltà di accesso alla cittadinanza italiana, e questo comporta una maggiore esposizione al rischio di essere discriminati o a scelte, a volte anche strategie di vita personali, che vanno nella direzione di assicurarsi delle sicurezze e delle garanzie. D'altra parte è una questione del minority stress, cosiddetto, è una questione reale, importante, ma non è per tutti così appunto. Ci siamo accorti che molti di loro affermano una presenza, una agency, cioè una capacità di incidere nelle relazioni della loro vita significativa e hanno appreso a gestire una moltiplicità di livelli di comunicazione, di relazioni in cui possono giocare i vari aspetti della propria identità multipla. si sono attrezzati a vivere e gestire una pluralità di riferimenti culturali a seconda dei contesti abitati e delle lingue parlate. Molti sono diventati anche particolarmente esperti in questo lavoro di ricostruzione e ricostruzione della loro identità, a volte capaci di integrare le varie parti che riconoscono come parte del sé altre volte, altre volte di difficoltà a metterle insieme. Il nostro progetto, devo dire, è stata anche un'occasione per unire questi percorsi, per essere LGBT, per essere figlio, figlio di straineri e riflettere su se stessi, su se stesse e vorremmo che questo fosse dato di maggior opportunità, anche ad altri in progettualità in progettualità. Un altro degli obiettivi che ci siamo posti è quello di portare le istanze di questi giovani nell'ambito delle associazioni LGBT e delle associazioni di migranti, ovvero seconde generazioni. Non è un caso che tre siano coinvolti nel progetto appunto arcidesbica, la reti di due, la reti seconde generazioni e la tramida monos. Grazie a queste ultime dovremmo ritingere altri giovani, ma soprattutto le famiglie, famiglie straniere o miste, però non sono solo oggetto di servizi e di aiuto, cosa certamente importante, ma possono essere un soggetto di cambiamento nel campo dei diritti e dei diritti. Cioè l'idea di una famiglia straniera sia necessariamente più omofoba e impropria. Anzi, forse alcune famiglie, alcune comunità etnico-nazionali hanno qualcosa da insegnarci rispetto ai diritti LGBT. Rispetto sempre alle reti etniche filippine, per una serie di motivi che ci sono dentro in questo momento, sto scoprendo una realtà particolare in quanto a definizione e collocazione delle identità LGBT, che se volete è impropria, però in qualche modo assimilata, in modo molto veloce. A volte colloca gli uomini specifici, quelli che è piuttosto il make-up, piuttosto che nell'ambito dello spettacolo e così via, gli uomini molto definiti, ma in qualche modo le assimilano è molto velocemente. L'ambito istituzionale va anche questo piano piano formato a riconoscere che tra i percorsi di bambini, adolescenti, giovani, figli e figli di stranieri, esistono anche percorsi LGBT o comunque non collocabili dentro un quadro dominante, etenosessuale, eteronormativo, bianco e europeo, per andare a intercettare bisogni specifici. Quest'anno, giusto per dirvi quello che invece è l'ambito delle associazioni LGBT, un gruppo di questi giovani, in particolare per l'iniziativa di una, ha raccolto questa giovane, che è una giovane mamma lesbica, ha raccolto un gruppo di giovani, di genitori coppie miste o genitori di origine immigrata e ha voluto uno spazio di visibilità nella manifestazione del Pride milanese e quindi il capro che era della genere in qualche modo ha ospitato questo gruppo di giovani che avevano uno slogan specifico, una quindicina ed erano tutti appunto seconde generazioni LGBT. Un po' se volete anche l'effetto di questa consapevolezza che abbiamo voluto lanciare con il progetto. Un'ultima questione, in prospettiva, se volete, non trattata, però che ci interroga, che mi interroga in questo momento. Una delle questioni che potrebbero diventare rilevanti nei prossimi anni è quella dei giovani che decidono di fare camminare con le famiglie e vengono risultati o allontanati, creando un fenomeno che negli Stati Uniti e nel Regno Unito viene già da tempo intercettato come bisogno a cui rispondere. Quello degli homeless dei giovani senza tetto perché non hanno la possibilità per questioni lavorative, per questioni di sostentamento economico di vadare a se stessi, ma anche per una questioni di essere tagliati fuori in una serie di relazioni di reti di aiuto. Vi voglio citare tre esperienze in cui sono venuto a contatto nel giro di poco. Un giovane abolutivo di origine straniera, cacciato di caso dopo che i genitori hanno scoperto che era gay, in questo caso è andato bene perché fortunatamente è stato accolto dalla famiglia del fidanzato, peraltro una famiglia straniera di origine rumena. Un giovane figlio di risidio Bianchesi che in un momento di conflittualità elevata con i padri mi aveva chiesto dove poteva trovare alloggio, perché la situazione era diventata insostenibile. Un ultimo figlio di Ganesi mi ricorda spesso questa cosa che ha la necessità di tirare il piatto, cioè di prendersi delle pause dalla famiglia e di vivere anche la propria identità omosessuale in libertà di annorzarsi, di farsi due o tre giorni o tre ore. Tutte situazioni che potrebbero essere intercettate da sui servizi di accoglienza. Questo chiaramente non è un problema solo degli adolescenti e dei giovani di seconda generazione, ma nel loro caso mi viene da dire che la situazione può rivelarsi di particolare fragilità, non solo per la condizione giuridica, ma anche per quella economica e sociale. Con questo vi ringrazio dell'ascolto e mi auguro di potervi portare degli aggiornamenti, non a mano che anche l'elaborazione di questi materiali che stiamo facendo in questo momento sarà in una fase più avanzata e in un buon proseguimento. Grazie Massimo per questo contributo di conoscenza che ci ha dato, che sembra essere in controtendenza rispetto a quello che abbiamo detto, cioè noi non ci occupiamo di servizi di attività di conoscenza della comunità, ma non è che siamo ciechi, sordi e muti rispetto a come la comunità si trasforma, come la società si trasforma con la comunità, ma la società in generale. Quindi un'ascensione di conoscenze soprattutto rispetto a cosa sta accadendo nelle grandi metropoli, perché questa è una realtà, sono molto utili anche a noi che ci occupiamo di politiche e ci occupiamo di rapporti con gli enti locali, anche non soltanto con gli enti nazionali, rispetto alle politiche che possono essere fatte. Quindi lo ringraziamo molto. La parola che mi dà Pisa, il suo passo è giuridice. Adesso io mi appello al vostro buon cuore per i tempi, perché abbiamo tutti sporato altrimenti. Sperantina, scusate, mi ha detto che avrei immaginato qualcosa e volevo integrarlo, perché sicuramente c'era anche un'emozione dovuta alle cose di cui vi ho parlato. Però ho dimenticato una cosa molto importante che è il discorso che riguardava le trascrizioni e che volevo chiarire qui, perché se all'interno del gruppo copie questo percorso è stato esplicitato, non è così nei confronti degli iscritti, tutti a certi diritti. Allora la premessa è che noi non avremmo mai fatto come affermazione civile questo tipo di battaglia. Una volta che comunque è stato ottenuto questo primo risultato positivo a Grosseto, il gruppo copie si è stato mobilitato perché avevamo scoperto che alcune persone già per conto loro avevano chiesto l'iscrizione e la trascrizione del loro matrimonio celebrato all'estero e questi dinievi che avevano ottenuti potevano essere impugnati in qualunque momento perché non c'è un limite per l'impugnazione che riguarda questo tipo di dinievi. Dopodiché è successa un'altra questione che invece ha bloccato completamente questo tipo di azione perché è uscita quella sentenza che più volte è stata citata e che ha riguardato sì il discorso di una persona transessuale ma la sentenza 170 della Corte Costituzionale ha veramente posto un out-out per cui noi da una parte se avessimo impugnato o comunque se avessimo avuto dei dinievi avremmo avuto sempre la stessa risposta che era stata data dalla Corte Costituzionale e quindi un tipo di risposta che aveva peggiorato ulteriormente la situazione rispetto alla 138 per esempio e quindi abbiamo deciso che non era il caso di percorrere questo tipo di percorso giudiziario. Nello stesso modo noi manteniamo la possibilità perché le coppie che facevano parte del nostro gruppo ove possibile hanno trascritto i loro matrimoni, altre coppie abbiamo detto che secondo noi non era il caso di andare nei comuni per fare una battaglia su questo. Non era il caso perché di fatto a parte un significato simbolico che comunque è uno sottovaluto ma nella vita pratica questo non avrebbe costituito nessun diritto acquisito in più tangibile per le coppie. Dopodiché è innegabile che quello che è uscito rispetto a che si è creato come discussione intorno a questo tema non ci ha trovato parte attiva è anche vero che ci sono degli aspetti che non rendendo sicura la nostra azione ci ha estremamente trenati. Facciamo un esempio, quando avviene una trascrizione dal comune vengono generati dal servizio dell'Ufficio di Stato Civile dei documenti immediati che vengono generati dalla trascrizione per esempio l'avviso all'Inps piuttosto che l'agenzia delle entrate piuttosto che l'annotazione sul certificato di nascita della persona che risulta collegata. Questi aspetti sono stati bloccati in tutti i comuni. Allora a me sembrava veramente brutto andare a chiedere conto ai comuni di questo di questa scelta che loro avevano fatto perché erano gli unici comuni che se da una parte davano con una mano non potevamo attaccarli e quindi direttamente era meglio forse lasciare le cose come stavano. Siamo invece convinti che una cancellazione fatta dai prefetti non sia legittima e quindi le coppie, noi le abbiamo alcune a Roma, le abbiamo in Poglione, che hanno ottenuto la trascrizione. Nel momento in cui avranno la cancellazione c'erranno al loro fianco perché noi con loro faremo tutte le azioni che serviranno per tutelare i loro interessi. Questo ci deve spiegarlo perché è vero che non siamo stati assenti su questo, se non con quel tentativo in cui io credevo che era quello di cercare di dare degli strumenti ai sindaci che erano a favore del matrimonio per potersi organizzare tra loro e dare comunque rispetto alle indicazioni che venivano da alcune città importanti che si concretizzavano nella richiesta dell'Unione Civile, dare invece una richiesta molto più ugualitaria per cui il sindaci a favore del matrimonio. Secondo me è anche indicativo che poi non ci sia stato questo e per certi versi incomprensibile perché se alcuni sindaci innegabilmente sono legati a sostenere l'attività del governo e quindi è concepibile che si allimino sulla linea indicata da Renzi, per altri sindaci invece è assolutamente incomprensibile. Però è un dato che noi dobbiamo considerare. Una seconda cosa che ho dimenticato questa mattina è un discorso di ringraziamenti perché è giusto che noi facciamo certi diritti e affermazione civile così grazie a tutta una serie di persone. Prima di tutto Giulia Perin che da sempre segue tutte le cause pilota, noi abbiamo iniziato anni fa a lavorare insieme e continuiamo a lavorare e lei lo fa a titolo gratuito per tutte le coppie. Si è creato una modalità di lavoro che per esempio ha permesso a certi diritti anche quest'anno di partecipare a luglio a Padova a un incontro organizzato di aggiornamento per gli avvocati dove noi abbiamo portato come esempio le cause pilota e il gruppo delle coppie che comunque è nato e cresciuto. Gruppo delle coppie che è stato promosso da certi diritti e dall'associazione Renzo e Lucio a cui hanno aderito spose in fuga e un'altra associazione è l'inano. Per cui grazie anche a queste associazioni sono associazioni piccole ma secondo me è importante perché danno un'indicazione anche alle associazioni più grandi perché dimostrano che comunque lavorare insieme è possibile ed è possibile avendo degli obiettivi comuni. Io questo è quello che ho dimenticato. Il ruolo di certi diritti. Il ruolo di certi diritti l'ha spiegato bene Enzo però io ricordo anche che uno degli obiettivi di certi diritti era quello di ottenere poi i risultati e quindi il matrimonio qualità di tutti. Certi diritti ha un ruolo da portare avanti di un compito da portare avanti che non si è esaurito e che non si esaurirà nel momento in cui in Italia ci fosse l'approvazione di una legge che riguarda le unioni civili. Per cui io continuerò ad investire per quanto se lo riterrete in questa associazione anche perché il mio obiettivo è questo e non l'ho ancora ottenuto. Non l'ho ancora ottenuto in una situazione che sempre più si sta deteriorando perché mentre alcune associazioni prendono coscienza che lavorare con tutte le discriminazioni contro i reati d'odio per esempio è importante assistiamo invece a un'esasperazione, a un aumento di tutti i razzismi che ci sono, di tutte le situazioni che vanno veramente a peggiorare le situazioni delle persone discriminate. Ecco, in molti casi io mi ritrovo a parlare con delle persone omosessuali, osessuali così, sul fatto che esistano diverse discriminazioni e mi rezzo sempre male quando da queste persone arrivano per esempio un disprezzo nei confronti dei rifugiati, un disprezzo nei confronti delle persone che hanno caratteristiche che le vengono discriminate. Ecco, se la società tende a dividere, perché il buon dividere dentro è comunque valido, ha scoperchiato tutti i sentimenti peggiori e ha dato loro soprattutto accoglienza, perché è così, ecco, non dimentichiamoci che la battaglia contro le discriminazioni non si ferma qui, ma è molto più ampia. Per l'ultima cosa, io penso che la politica debba essere veramente metodo di lavoro, vicinanza con la gente e anche emozione. Io soffro nel vedere quello che è il momento di crisi grosso che c'è nel Partito Radicale, soffro nel vedere che ci sono dei temi che anche noi portiamo che non sono compresi, perché quale battaglia la principe c'è in Italia per riaffermare la lecità dello Stato, se non la battaglia per l'uguaglianza. Ecco, vedendo che proprio il Partito Radicale che mi ha insegnato ad essere quello che sono, non capisce in alcune persone per fortuna, perché poi non è tanto il discorso che uno la pensa in maniera diversa, quindi ci mancherebbe, cioè quello non sarebbe, ma non posso pensare che alcune persone non riescano a capire che l'uguaglianza è fondamentale proprio per avere la libertà di scegliere altro. L'uguaglianza deve essere affermata, non si afferma, anzi, l'uguaglianza delle persone LGBT, eccetera, eccetera. Allora, lì c'è scritto l'affermazione Unione Civile, Unione Civile l'abbiamo cancellata e su questa cancellatura io adesso esco e mi riscrivo a certi diritti 2015, mettendomi ancora a disposizione per fare delle battaglie insieme. Sono molto contenta che Alessandro si è unito a questa armata Branca Leone, perché, a parte che noi siamo abituati, è stato semplicissimo e facilissimo comunicare, però ci sono delle cose che sono inaccettabili, che partono dalla scelta fatta da altri su quale sarà l'identità sessuale di una persona con un intervento da piccolo e che parte con la somministrazione di alcuni farmaci, ormoni, eccetera, da quando un bambino nasce. È una cosa che è inaccettabile, come è inaccettabile la selezione. Io che ho fatto battaglia a favore dell'aborto, ma una persona che ha una mappatura cromosomica diversa viene segnalata e le persone, i genitori, spesso scelgono di non farla nascere. Ecco, questa cosa è una cosa che onestamente mi mette in crisi e come tutte le cose che mi mettono in crisi mi incuriosiscono, perché io devo conoscere e fare un percorso anche insieme, perché io credo che sia fondamentale. Per cui, grazie, io sosterrò sicuramente la tua candidatura a Presidente Onorario, ci do la mia disponibilità, come dico sempre, ragazzi, usatemi se servo, non ho nessun motivo. Grazie, grazie a te. 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 di cui non si occupano e quindi questo sguardo anche all'Europa, a quello che si muove fuori di qui e poi ha una capacità di interagire con il livello politico-istituzionale e con il punto che poi è un tanto caratteristico nella storia dei certi diritti, anche con il livello giudiziale è un tema molto importante, quindi se certi diritti decideranno di andare avanti io continuerò ad iscrivermi a certi diritti. Affinando anche a certi diritti che so essere in particolare nella figura dell'attività che ha fatto Enzo in questi anni un motore rispetto a questo, il ruolo è di continuare a premere per l'attivazione della consulta dell'associazione del GPT che sappiano parlare con una voce sola alla comunità e al Parlamento senza pensare all'eductio ad unum che credo che sarebbe utile, anzi credo che sia una conquista di questo movimento, quello di essersi articolato negli ultimi anni dai tempi in cui si stava la sola, che tutto comprendeva, però anche assumendo la capacità di parlare perlomeno su temi specifici con la voce unitaria, sia per quanto riguarda la capacità di fare sintesi all'interno del movimento, mi ha fatto molto piacere per esempio che in questo congresso certi diritti assuma la piattaforma di famigliato palermo sulla gestazione per altri e spero che questo possa essere motore di una assunzione della stessa, non dico lo se sono come, ma la stessa discussione all'interno della complessità del movimento del GPT su cui sono esseri, penso sempre a Cirelli, anche delle posizioni differenti ma su cui è molto importante che non sia una discussione, una riflessione che si riesca a parlare con una voce sola, così come per quanto riguarda le relazioni con la politica, con le istituzioni, con il governo. Io che appunto mi muovo in mezzo a diverse associazioni, so di per esempio contatti con questo, quel ministero, con questo, quel contesto politico istituzionale, di questo o quell'associazione, però proprio in quel livello di relazione sarebbe molto importante dire noi siamo un movimento del GPT italiano, invece è molto difficile che un partito politico o un ministro o un istituzione abbia dei propri interlocutori che possa dire io sono, noi siamo un movimento del GPT italiano e questo rischia di essere uno spreco. Rispetto alla questione delle proposte di legge, fatemi fare un'osservazione dovuta a quello che diceva questa mattina, stamattina Iuri, rispetto al disegno di legge sulla prostituzione, io mi sono offeso, mi sono sentito colpito perché quella, intanto non voglio prendere distanze perché invece credo fortemente in quella proposta, non l'ho scritta io, un testo a cui ho aderito, a testo già chiuso, mi sono fatto carico di fare entrare in relazione con quel testo e con la prima prima taglia, dice Maria Sulla Botte, che ho avuto il merito di aver messo sul piatto quella proposta, una serie di associazioni, una serie di figure considerate importanti proprio per dare un taglio, appunto Giglio, la Pia Cove, il capitano dei diritti civili per le prostitute, la Lira, la Lira, la rotta contro l'AIDS, il MIT, proprio perché ci potesse essere, ci possa essere uno sguardo, una supervisione appunto di chi conosce bene una serie di aspetti. quel testo è stato depositato così con me perché, come dire, probabilmente in quella fase la modifica di quel testo avrebbe, come dire, rischiato di accortentare qualcuno a scappio di altri, ma nel momento in cui dovesse iniziare la discussione c'è una grande disponibilità dalla parte, intanto, della prima taglia e comunque ci sarà lo spazio per tutte le modifiche del caso. Ma io dicevo, io sono convinto nella giustezza di aver imposto la mia firma a quel DPL a dire alcune cose che non convincono neanche me, perché oggi la questione vera che attraversa le forze politiche fra di loro, attraversa per esempio anche il Partito Democratico, è se noi andiamo verso un modello abolizionista alla Venezia della Francese oppure rilanciamo su un modello neoregolamentarista che sappia modificare, che sappia superare quella fase della legge Berlin per cui regolamentazione era mettere le mutande al mondo da parte dello Stato e posso invece diventare un... quel modello possa essere sostituito da un modello che invece dica io accetto, distingo la tratta, la violenza, lo sfruttamento dal libero esercizio della professione e faccio in modo che il lavoro dei sex worker possa emergere a livelli diversi anche lì io credo che si dovrà fare una discussione su come e in quanto, c'è il grado di... sarà la proposta costituzione, il tese sanitario piuttosto che il pagamento delle tasse, tutti molto complessi, su cui secondo me se ne uscirà fuori, semplicemente non è bella parola, lo sai che questo perché sarà tutto complicatissimo, ma al mio giudizio se ne dovrebbe è uscire fuori indicando diverse possibilità, tutte su base volontaristica di appunto più o meno forte regolamentazione diciamo della propria attività, comunque insomma la discussione è aperta e se ne parlerà qua. Voglio invece qua di nuovo ricordare un testo che prima io avevo citato, di cui invece sono primo firmatario, così insieme a Max Oliveri e a Lorenzo Quattrini che è il disegno di legge sull'assistenza sessuale per i disabili, su cui io voglio confidare il fatto che c'è di diritti, voglio assumere un ruolo rispetto alla proporzione di quel disegno di legge che potrà avere vita se si riuscirà in qualche modo a farlo vivere nella società, soprattutto a partire alle associazioni familiari di esami, perché quando si parla di sessualità anche in questo caso le difficoltà saranno moltissime. E poi fatemi dire anche una cosa, visto che siamo nella settimana del titolo sul disegno di legge 405 sulla riattribuzione del sesso. Mi ha fatto molto piacere oggi a sentire Alessandro con me, non solo perché è la prima volta che ha sentito parlare direttamente una persona intersessuale, ma anche perché mi ha fatto piacere sentire da lui la sottolineatura della correttezza del passaggio di quella legge sulla questione che riguarda i diritti delle persone intersessuali. Va detto che quella legge che nasce dal lavoro di Rete Renfort e poi è passata attraverso il bagno di associazioni e l'IDL 405, mentre per esempio la mia proposta sulle sezioni del matrimonio civile era numero 15, proprio perché sono passati due mesi in cui le associazioni hanno anche fatto delle critiche a quel disegno di legge che poi è stato un po' rivisto e ripresentato. Io ho chiesto formalmente che venga calendarizzato, la cosa è stata riproposta da più che a pubblico ufficio di presidenza, non è ancora entrata, che si è stata assegnata dalla persona di giustizia del Senato, non è ancora entrata in calendario, spero che lo possa essere preso per lo meno per avviare la diffusione. Io so che la diffusione su quel testo sarà difficilissima perché oggi voi sapete che quando si parla di questioni del GPT dalle parti dei nostri detrattori l'etichetta è l'ideologia del gender e questa questione dei gay che vogliono scomparire la differenza che vogliono imporre questa ideologia del gender, che si capisce bene di che cosa consista, sarà, produrrà la messa in campo di tutte le munizioni e guarnigioni possibili da parte del Vaticano, della parte di patria centrodestra, soprattutto laddove si va a toccare un tema così nuovo per la discussione pubblica italiana che è quella della possibilità di cambio di sesso senza l'intervento di retribuzione chirurgica, cioè senza l'intervento chirurgico di modifiche dei genitali. Quello che voi capite è che si farà fatica a farla passare come un tema che riguarda il benessere e la salute delle persone ma diventerà lo sconto antropologico per chi crede in una sessualità binaria e chi invece pensa che uno stesso solo possa scegliere da sé. Sarà molto importante per noi riuscire ad attivare, io immagino anche un ciclo di evidenze conoscitive come prima fase della discussione di quel risidio di legge proprio per cercare di portare la cosa su un piano scientifico, sociale, medico e che riguarda il benessere delle persone senza fare invece la battaglia di civiltà tra la sessualità binaria e la sessualità plurale un ideologico del genere come dicono loro. Dopodiché vengo al testo sulle unioni civili che io mi augurerei Enzo che avesse la vita del divorzio breve perché in effetti se lo ricordava Rita sul divorzio breve per adesso perché poi, come dire, finché non si arriva però alla fine ci sono sempre colpi di scena spesso negativo quando si arriva sulla proposta di legge ma sul divorzio breve per adesso è andata come doveva andare nel senso che è arrivata dalla Camera un disegno di legge, quel disegno di legge è stato migliorato nel senso il disegno di legge prevedeva la possibilità di divorzio a 12 mesi dalla separazione in presenza di figli a 6 mesi in assenza di figli e nella Commissione di Giustizia del Senato si è data la possibilità di arrivare a 0 mesi in un divorzio immediato rompendo l'intervento in assenza di figli, senza i figli minori o con handicap o con non economicamente autosufficiente e sotto i 26 anni. In tutti gli altri casi è possibile divorzio senza separazione, rompendo quel nuovo centro-destra, facendo maggioranza con gli altri pezzi della maggioranza ma anche con il Movimento 5 Stelle con quel modello unico che potrebbe consentirci da trovare è la rete sull'omofobia che per adesso è lì che aspetta in qualche modo che passa anche il terreno dell'Unione Civile per riprendere il suo cammino e ha la stessa discussione sull'Unione Civile. Anche il punto è il disegno di legge. Faccio una brevissima premessa, parto anche dalle esbatore di Gabriella e dalla figura che abbiamo alle spalle per l'affermazione civile che cancella con una croce la parola Unione e la Unione Civile, che afferma un principio che è anche il mio, cioè dire che la nostra battaglia è per il matrimonio ugualitario e non per delle forme di riconoscimento giuridico differenti, specifiche, insomma. È per salire sull'autobus e non per avere l'autobus per i gai e le lesbiche. Prima, penso ricordavamo che qualche anno fa non fosse questa la linea portante del movimento, anche se correttamente ricordava che naturalmente dal punto di vista ideale questo è sempre stato l'obiettivo comune. Però, diciamo, strategicamente, per una serie di questioni che non sarò qua adesso io neanche a sintetizzare, strategicamente si puntava su altro che era appunto l'Unione Civile del PACS a un certo punto da mezzo degli anni 2000. Voglio però ricordare che la stessa Arciviei, già dal 2006, in particolare dal marzo del 2006, un documento approvato dal Consiglio Nazionale, assunse non solo quindi sul piano ideale ma come strategia politica quella di abbandonare la richiesta di altre forme di Unione Civile o di PACS, proprio perché quelle forme erano il risultato di un percorso di mediazione rispetto a cui era venuta una controparte, ma di passare direttamente alla richiesta del mandimonio qualitario. Quindi sono ormai 8 anni che la stessa Arciviei ha, come dire, non solo dal punto di vista dei principi ma dal punto di vista della strategia politica quello come obiettivo, sono 8 anni, 8 anni molto difficili, in cui è successo poco, però perlomeno la linea del movimento si riasse stata stabilmente lì. Però c'è un però ed è il fatto che noi abbiamo avuto un battuto d'arresto molto importante con la sentenza 170, non direi che non ce lo nascondiamo, infatti non ce lo nascondiamo, è stato ripetuto da diversi interventi. Le sentenze della Corte Costituzionale non sono incise nella pietra, sono incise nella storia, è successo già proprio per temi importanti riguardanti i detti civili che da un anno a, non dico l'altro, ma pochi anni dopo la sentenza delle Corte Costituzionale si modificassero, non per schizofrenia ma per che il diritto si evolve e la Corte Costituzionale tiene conto, qualcuno ci diceva che aveva conto fin troppo dalle posizioni del Partito Democratico e del Presidente Lorenzo, ma sicuramente tiene conto della sensibilità sociale, quello che avverte essere l'opinione pubblica, quindi io non dispero per niente, anzi confido che fra qualche anno si possa arrivare a una modifica di quella posizione, ma oggi la posizione della Corte Costituzionale che addirittura ha voluto leggere e spiegare e interpretare l'area del prezzo autotetica ancora più restrittiva di quella che era stata data dalla stessa sentenza 138 del 2010 è quella di dire il matrimonio, lo come descritto da qui con la Corte Costituzione si riferisce a un paradigma interosessuale che non si modifica. Doviché io credo che ci siano tutti i margini che ha leggito diversamente anche quella stessa sentenza da dove per esempio dice che il motivo per cui la Corte Costituzione stabilisce un paradigma interosessuale del matrimonio è che il Codice Civile del 1942, che fa riferimento al Codice Civile del 1942 dice la sentenza che allora diceva e che ancora sostenere, ancora sostiene che il matrimonio è quello che fa come donna. Come dire, nel momento in cui si dovesse modificare il Codice Civile allora verrebbe meno anche, come con un circolo vizioso, un contatto che si vuole la cosa verrebbe meno anche uno dei fondamenti della stessa sentenza. Comunque, insomma, ne vedremo di nuovo, insomma. Ma oggi il punto è, in questo contesto, come facciamo poi ad arrivare all'obiettivo e far di modo igualitario? Cosa ci fa bene di più? Ci conviene aspettare e costruire nella società il consenso necessario per cui, quando la Corte Costituzionale darà l'ok, noi saremo pronti per chiedere una legge sul matrimonio? O ci conviene adesso lavorare per una legge sull'Unione Civile che, se mai dovesse avere gli elementi di differenziazione, porrebbe l'Italia in quel giro ristretto dei paesi che hanno una legge sull'Unione Civile e rispetto a cui la Corte di Giustizia Europea può intervenire, togliendo l'Italia da quei paesi che, non avendo nessuna legge sull'Unione Civile, non sono oggetto di sentenza della Corte di Giustizia Europea. Perché questa è la situazione in cui ci troviamo adesso. che l'Italia, che non ha nessuna legge, non riceve nessun input da parte della Corte di Giustizia. Mentre altri paesi, non solo la Germania con la sua legge sparte, ma lo stesso Pax dei Francesi è stato un bel reso di mila da Corte di Giustizia Europea per gli aspetti non discriminatori. Quindi io sono convinto che se noi porteremo a casa una proposta di legge sull'Unione Civile, quindi questo ci consentirà di fare un passo in più rispetto all'obiettivo del patrimonio piuttosto che sarei fermi ad aspettare che passi la contata e in attesa dei tempi migliori. Io, per quanto mi riguarda, ho presentato, come dicevo, le due proposte di legge sul patrimonio ugualitario, il testo base Cirinani, cui si sta discutendo, se arriverà in Parlamento arriverà con una sessantina di firme di deputati del Partito Democratico, quelli che hanno firmato le varie proposte di legge che sono concluite in quel testo base, ma mancherà da migliare perché io non ho voluto firmare nessuna proposta di legge sull'Unione Civile che non fosse quella del patrimonio, però, insomma, quello è il terreno su cui oggi noi abbiamo la possibilità di lavorare. A che punto siamo? Guardate, il tema di una proposta di legge del Governo, di un disegno di legge del Governo, io credo che in questo momento non ci sia. Renzi ha già detto, più o meno, fatto capire che lui non ci pensa nemmeno in questa fase a intervenire con la sua proposta. Peraltro la prova del 9 è una risposta che Angelino Alfano ha dato in interrogazione parlamentare di un deputato, Gigli, sul tema delle trascrizioni, in cui Gigli gli chiedeva fra l'albero che quale fosse l'intendimento del Governo rispetto invece al tema di una norma nazionale su Unione Civile e Patrimoni e Alfano ha risposto dicendo questo è il tema che per le diminuzioni attraversa trasversalmente le sensibilità nella società e nella politica, quindi noi riteniamo che sia esclusiva per la relativa del Parlamento e quindi non è nostra intenzione presentare nessun disegno di legge. Questo Alfano. E se lo dice Alfano che è l'unico che avrebbe avuto un interesse, diciamo, a tenere nel mandato del Governo una mediazione, una sintesi per ripetere che la cosa scappasse di mano e come è successo per il divorzio breve fosse affidata dalla libera discussione del Parlamento, significa che non credo che ci saranno forti pressioni da altre parti, a parte che lo stesso Andrea Orlando ha sempre detto che lui non ci pensa nemmeno a presentare un disegno di legge del Governo su questo tema perché è una cosa che, come dire, non esiste in natura, che si riesca a fare la proposta PD-NCD che sia nell'atto di quello che lo stesso Renzi ha proposto, cioè il modello tedesco con l'adozione del figlio del padre. Quindi stiamo a quel testo. Quel testo oggi è, a mio giudizio, fuori dall'ipotesi del matrimonio, fuori dall'ipotesi dell'estensione del matrimonio e tenendo ferma, tenendo fuori dalla discussione la questione dell'adozione legittimante, cioè dell'adozione dei bambini terzi, il miglior testo possibile, nel senso che l'estensione del testo attuale è l'estensione di tutti i diritti previsti del matrimonio tramite l'adozione legittimante ma comprensiva dell'adozione in caso speciale e quindi comprensiva dell'adozione del figlio del padre. Ora ci sono dei problemi, evidentemente ci saranno dei problemi, sono già stati posti e non solo a quello centrodestra, su alcuni punti. C'è la questione della pensione dell'adversibilità, che sarà forse lo Stato più grande, che si tratterà di convincere la macchina, non solo del Parlamento ma dello Stato, e l'Ips a cacciare quattrini per coprire un presunto aggrado di spesa, anche se io dico sempre che se noi andiamo a guardare le statistiche, dei matrimoni e il calo vertiginoso che cede i matrimoni nei prossimi anni, o lo Stato decide da adesso che dovrà abbassare il tasso di investimenti, la quantità di risorse spese per le famiglie unite in matrimonio, comprese le pensione dell'adversibilità, le assenti familiari eccetera eccetera, oppure basta pensare di mantenere quello che si spende adesso, probabilmente, ma secondo me sicuramente se così saranno i trend, una corsa in massa di gay e lesbiche in comune per sposarsi, non compenserebbe il numero, il calo di matrimoni eterosessuali che è previsto per i prossimi anni. Quindi comunque non ci sarà un aumento della spesa per le pensioni di irreversibilità, l'estensione del matrimonio civile alle coppie dell'adversibilità che in questo sesso ridurrebbe il tasso di decrescita dei matrimoni in questo Paese. Quindi anche quello della copertura rischia di essere un falso problema. C'è un altro problema molto importante, più delle nozioni dei figli del partner su cui un po' alla volta, per lo meno nel campo del centro sinistra e anche, devo dire, rispetto ad esempio ai cattolici del PD si sta registrando una certa convergenza, termolestando che la questione della genitorialità omosessuale, in particolare di quella maschile e dell'accesso, quindi delle tecniche di gestazione, di sostegno, di gestazione per altri, rappresentano oggi quello che dieci anni fa erano le adozioni, quando si parlava di umani civili, cioè dire il tema che viene posto per, come dire, portare l'attenzione sul punto su cui rischia di esserci minore con senso. Ma la questione oggi più dedicata riguarda l'articolo 3 del problema di disegno di legge cilindale, che è quello che è chiave, perché è quello in cui si dice che vengono estese alle elezioni civili tutti i diritti previsti dal codice civile per le coppie uniti in matrimonio. Ora, quello, come dire, viene inteso come elemento di incostituzionalità di questa norma, anche se la commissione affari istituzionali, in particolare la relatrice in commissione affari istituzionali, la senatrice Doris Lomoro, che peraltro ha annunciato in passaggio ai lavori di questo congresso, ha già espresso un parere positivo rispetto alla costituzionalità di quell'impianto, ma il punto su cui ci sarà la battaglia è se questa legge possa essere fatta dicendo che vengono estese i diritti del matrimonio oppure se lo bisognerà fare alla lista della spesa, una lista evidentemente necessariamente incompleta, perché, come dire, le norme che danno in qualche modo delle agevolazioni alle coppie sposate sono così tante che sarebbe impossibile mettere in fila. me ne veniva in 21 di recente andandovi leggendo il mio disegno di legge sulla riattribuzione del sesso laddove si dice che in caso di modifica del sesso bisogna darne comunicazione al codice. Pensate quanti ce ne sono di leggi come questa che fanno riferimento al codice. e non puoi ogni volta pensare di fare una lappatura completa di tutte le leggi, il risultato di un meccanismo che non fosse quello del rimando della legge sul matrimonio sarebbe poi il Vietnam dei ricorsi alla Corte Costituzionale e alla Corte Giudizia Europea. Potrebbe essere utile della campagna di affermazione civile a quello che io dico sempre ai miei colleghi e ai signori, come dire, se facciamo una legge così importante che comunque rappresenterà una rottura rispetto all'idenza di questi anni evitiamo di fare come la legge 40 di farcela smontare pezzo a pezzo e di farla brutta figura di fronte a tutti gli esempi nazionali ed europei. I tempi di questa proposta Renzi ha detto dopo la riforma elettorale e la riforma costituzionale qualcuno malizioso, sono sempre di più quelli maliziosi che danno questa interpretazione dice sì esattamente quando andremo a votare, qui non ci sarà più tempo e magari come diceva Enzo prima ci servirà come occasione per rompere il nuovo centro-destra. Può darsi, può darsi anche perché la legislatura duri fino al 2018 ci credono veramente in pochi, c'è anche una possibilità che all'interno di questa regia di questo genere si faccia anche in tempo a rompere il nuovo centro-destra non sulla base dell'intenzione di fare questa legge ma sulla base di un voto parlamentare che segni la rottura di questa alleanza. Quindi questo potrebbe essere anche se la sorte non sarà avversa potrebbe essere anche uno scenario, così come potrebbe anche darsi che la legislatura andrà un po' avanti e con la legge, che poi è la tesi che Matteo Renzi dice anche a noi, con la legge elettorale in tasca, noi centro-destra poi non oserà rompere e andare subito al voto e quindi lascerà che una legge di questo genere si possa fare anche senza il suo consenso come è accaduto anche per altre proposte di legge. Non abbiamo nessuna certezza se non il nostro impegno per fare in modo di portare avanti questa battaglia a fare un punto massimo di avanzamento, sperando che il punto massimo di ricaduta di questo impegno di questa battaglia possa essere all'interno di questa legislatura. Grazie. 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 Grazie molto. Ci sono tante occasioni per ascoltare cosa sta accadendo esattamente in Parlamento su questa vicenda e per esempio io adesso ho molto più chiaro che in realtà, a differenza di quello che dicevo prima, forse l'interlocuzione con Renzi non è così significativa in questo momento specifico. forse l'interlocuzione con il Parlamento sarebbe da rafforzare, quindi da rafforzare l'iniziativa di cui tu ti hai fatto portavoce dell'intergruppo e della capacità di lavorare in modo transversale nei gruppi parlamentari. Questa è un'indicazione, è un'indicazione che avviene soltanto con confronto e quindi ti ringrazio per essere venuto per aver raccontato i fatti che fanno e spero che attraverso la verticale l'abbiamo ascoltato anche tutti quelli che su questi temi sono attenti e magari insieme riusciremo a costruire una strategia comune. continuerei con il dibattito generale, adesso vi devo davvero chiedere di contenere i vostri interventi nel minimo tempo possibile, il regolamento parla addirittura di 5 e massimo di 10 minuti, però contenetevi, il prossimo a parlare è Marco Marchese e poi Luca Dattola. Luca Dattola che sottopongo a tutti voi. Affronterò per argomenti, sembrano non legati l'uno all'altro, però poi un filo conduttore cercherò di trovarlo. Parto proprio dal congresso che si svolge qui, alla mezza terra, in Calabria. Un po' la genesi della scelta di questa location, in Consuelta, per un'associazione nazionale, Giuri nella sua relazione ha spiegato anche alcune ragioni, voglio aggiungere al supporto di quello che ha spiegato Giuri, un po' anche come si è arrivato al congresso della mezza, questo gruppo di attivisti dell'associazione nazionale Certe di Ricci, già da più di due anni fa, avendo creato un gruppo, dando si da fare, a cui facendo parte di questa fioritura di associazioni e di iniziative che sta percorrendo felicemente, da alcuni anni, questa nostra terra, questa nostra Calabria, noi chiedemmo appunto a Giuri, ma perché, per più di due anni fa, perché non fare il congresso appunto in Calabria? Giuri prese la cosa in serie a considerazione, però due anni fa, non ci furono le condizioni per tutta una serie di vicissitudini, c'era la necessità di fare un congresso riorganizzativo, questo è stato fatto, è stato fatto a Milano, è stato il penultimo congresso, e poi Giuri venne e ci disse, io sono d'accordo, il prossimo congresso è necessario farlo in Calabria e Giuri ha sostenuto questa scelta perché è stata una scelta meritata, una scelta politica, una scelta che ha avuto tanta resistenza e io oggi sono felice anche di quella resistenza perché siamo riusciti con questo ottimo congresso a dimostrare che quei timori erano dei timori infondati e che è stato giusto rischiare un congresso alla mezza eterna, perché poi si tratta appunto di un'associazione, non è magari un'associazione grande come ce ne sono altre, un'associazione, come però un'associazione nazionale che comunque dà, diciamo, il suo buon contributo alla causa e al dibattito politico italiano. Quindi ho partito dopo il crescimento di Buona Giuri che ha voluto sostenere questa scelta e che ha convinto tante persone perché la qualità, a partire dall'evento precongressore di ieri alla qualità degli interventi di oggi, penso che dimostra ampiamente che la scelta è stata giusta, che è stato giusto rischiare e quindi avanzo, diciamo, una molesta protosta. Io candido Sassari, candido la Sardegna per il prossimo congresso dell'associazione radicale e certi diritti. Perché i congressi vanno fatti lì e in quei posti esattamente dove c'è più necessità. Abbiamo chiesto di un marco a Sassari. Vabbè, vediamo se magari c'è fuori a Sassari un marco, staremmo a vedere. Comunque, per rendere come una provocazione, io cambio dalla Sardegna, Sassari, una località, Sarda, per il prossimo congresso dell'associazione radicale e certi diritti. E mi dispiace delle assenze che ci sono. Ci sono assenze pesanti. Ci sono alcune assenze, diciamo, nostre, nella nostra etnia politica, chiamiamola così, radicali, ci sono anche molte assenze di, ma lo diciamo, portato da dei campi duri nella sua relazione, molte assenze di associazioni nazionali e ci sono anche molte assenze di tantissime persone che noi avevamo invitato. Ma, però, attenzione, io non vorrei essere preinteso. Questo non è un'accusa, tu sei stronzo perché non sei voluto venire al progresso di una mezza termine. No, non voglio dire questo, non voglio essere preinteso. Il loro, secondo me, è stato un errore di valutazione che ha danneggiato noi. Perché? Quando tu inviti delle persone, significa che tu parti dal presupposto che hai stima di queste persone e vuoi ascoltare il pensiero di queste persone, perché lo scopo del congresso è l'arricchimento culturale che ti porta poi dopo alla costruzione dell'iniziativa politica. L'errore di valutazione che queste persone hanno fatto ha causato il danno, è vero che stiamo facendo un congresso ottimo, non voglio dire eccellente, però potrebbe essere un congresso eccellente perché queste persone che ci hanno negato la loro presenza, il loro pensiero e i loro interventi ci hanno privato del giusto arricchimento che invece potevano elevare da ottimo ad eccellente queste tre giornate in cui usiamo primi di qui. Questo congresso che mi sta piacendo fa parte dei chiavi di quello che succede in Calabria a fronte poi dopo anche di morti scuri, pesanti, come ho parlato ieri, non mi piacciono le ridottanze, di conseguenza non li farò il ragionamento ieri. Io ho condiviso praticamente tutti i passaggi, sia dalla relazione di segreteria, della relazione di Uri, sia dalla relazione di tesoreria, grazie molto Leonardo e il corposo intervento di Enzo. Non sono d'accordo solo su un passaggio della relazione di Uri, quando ha affrontato il caso dell'avvocato razzista Carlo Taormina, peso le parole e sono consapevole di essere in diretta su Radio Radicale, probabilmente l'avvocato Taormina magari, non lo so, magari ci ascolterà, sarà facile voglio dire di intracciarmi se uno di quelli dà una denuncia facile, ma noi abbiamo timori voglio dire di queste cose, poi io lo faccio di razzista perché sono anni ormai che dico che la parola omofobia è una parola profondamente inadeguata per descrivere che cosa significa, perché se tu hai dei preconcetti, quindi discrimine delle persone sulla base di una caratteristica umana, non puoi che essere definito razzista. Uri nella sua relazione si è assunto tutta la responsabilità per non aver denunciato l'avvocato Taormina nel momento in cui ha reso le dichiarazioni alla famosa trasmissione, non la citiamo, non facciamo capricità, vale la pena parlare di Carlo Taormina, ma non vale la pena parlare di quella trasmissione, hai ragione. Uri si è assunto la responsabilità della mancata denuncia, ma io questa responsabilità invece non la scrivo soltanto a te, ma non tanto come scelta perché tu eri contrario, io faccio un ragionamento diverso, noi quella questione, Uri, non l'abbiamo capita. Noi come associazione sul discorso della libertà di pensiero l'anno scorso abbiamo anche fatto un documento, tu hai difeso quella posizione e chi invece voleva denunciare, voleva allentare un po' le maglie del documento sulla libertà di espressione che noi abbiamo deliberato in concresso l'anno scorso, ma non abbiamo capito la questione, perché la questione non era solo libertà di espressione, la questione era tecnicamente su una violazione precisa di legge che è sul diritto del lavoro. Carlo Taormina ha fatto un'affermazione precisa e ha detto io, io, una persona omosessuale, ho utilizzato un'altra espressione mi pare, nel mio studio non lo assumerei e questo è vietato dalla legge italiana, appunto perché è una discriminazione basata su una caratteristica umana e sebbene che ha fatto la condanna. Noi la denuncia dovevamo farla, ma dovevamo farla dal punto di vista del diritto del lavoro, perché lì è stato il vero bulls e la vera questione e quindi chi ha denunciato e ha vinto la causa, adesso si vedrà con gli altri gradi di giudizio del... vedremo se poi dopo la Cassazione certificherà questa cosa e quindi vedremo poi dopo Taormina che cosa, quale sarà, se dovrà pagare la multa, se gli verrà come una condanna penale o altre cose. Quindi io dico, non sono d'accordo, la responsabilità di quella opzione non è soltanto tua, purtroppo c'è stata un'incapacità nostra, complessiva del direttivo, perché noi stavamo discutendo ma stavamo discutendo di altro, che tra l'altro era stato già discusso su quello che mi sono trovato d'accordo con te perché non avevo avuto la capacità di capire queste cose. Adesso uno dice, beh, siete scemi? Certo che no, ognuno ha, come si dice, nelle proprie competenze e qui mi riaggancio a un ragionamento, vorrei riprendere alcuni passaggi su dove sta andando il movimento italiano, con quale strumenti ma soprattutto con quali compagni di strada. Perché vedete, se noi vogliamo essere incisivi affinché le cose cambino nel prossimo futuro, anche nella discussione odierna dove siamo, Enzo ci ha descritto molto appena la strategia di Matteo Renzi di non voler dialogare, dialogare anche da una scelta precisa, scientifica con la comunità LGBT per quanto riguarda il discorso dell'unione civile, matrimonio, eccetera, eccetera. Però dall'altra parte voglio dire noi abbiamo un movimento LGBT italiano completamente disgregato al suo interno da una parte, ma poi con un errore di fondo. L'errore di fondo è che per troppi anni, forse penso nell'ultimo ventennio, l'associazionismo in genere in Italia ha continuato a lavorare a compartimenti stagni dove forse vent'anni fa poteva andare anche bene, perché questo ha portato il pregio di professionalizzare i settori dell'associazionismo, la comunità LGBT, i diritti delle persone disabili, i diritti dei migranti e potrei continuare con un lungo elenco. Però siamo oggi nell'incapacità, continuando a commettere l'errore negli ultimi anni di lavorare a compartimenti stagni, quindi continuiamo ad innalzare la nostra professionalità, ma allo stesso tempo ci troviamo sempre in pochi, non riusciamo ad incidere sulla massa, la parola brutta, non riusciamo ad incidere sull'opinione pubblica che non riesce ad esercitare la corretta pressione politica affinché qualcosa cambia, perché noi lo sappiamo che il Paese è assolutamente pronto per il matrimonio egualitario, ma lo vediamo anche nella nostra vita di tutti i giorni. Io ho un compagno da 15 anni, vuol dire non ho mai avuto interno di carattere peraltro, con una vita sociale molto intensa perché sono un attivista politico impegnato non soltanto in questo fronte, sono molti molti di più i consensi che le persone con i quali ho contatto mi esprimono che i dissenzi, i se, i ma, i però. Di conseguenza qui il problema principale, io lo individuo nell'incapacità della politica, intesa come il legislatore che deve poi dopo deliberare e che è molto più arretrato rispetto alla società. Un altro paio di argomenti, cercherò di essere velocissimo. Ah, su questo discorso poi dopo di Farerete, voglio dire, l'esperimento che noi stiamo conducendo proprio qui in terra di Calabria di Farerete ha portato, diciamo, a delle conclusioni di felicissime iniziative. L'ultima è stata proprio, cioè la rappresentazione plastica è stata proprio l'iniziativa di ieri, dove non si capiva se qui era un, cioè la sessione che si stava svolgendo era una sessione pre-congressuale dell'Associazione Radicale di Certi Veriti oppure era una sessione pre-congressuale portata alla CDN. Cioè era talmente sovrapposta la cosa, talmente integrata che non si capiva. E questo è sicuramente una buona pratica, questo ci dà sicuramente la strada per il futuro, anche e soprattutto per le associazioni nazionali. Ma qui c'è un problema anche di fondo che dobbiamo avere ben chiaro. È un problema che si porrà anche qui in Calabria. È il discorso della reciprocità. È bello Farerete. Però le associazioni che siano dalla più piccola fatte nella sottoscala per l'ultimo dei quartieri della più piccola cittadina fino ad arrivare all'Associazione Nazionale che ha la propria sedere al centro di Roma non può pretendere che chi si occupa di altro sposi la tua causa, ti aiuti, ti partecipi alle manifestazioni, ti riparli a raccogliere le firme e poi dopo tu non hai reciprocità nei loro confronti. È tanto bello avere un'organizzazione al tavolo qui dove, ripeto, quello che si è consumato ieri è stato molto bello, una sovrapposizione perfetta. Lì, anzi, qui proprio la CGL ha preso un impegno preciso la CGL Catanzaro-Lamezia provinciale. Siccome parte un'iniziativa su tutto il territorio provinciale di contrattazione territoriale, traduco dal sindacalese a quello che significa in realtà, il sindacato si vuole sedere a tavolino con i sindaci per contrattare, per fare su un mestiere, per contrattare quelli che sono i punti qualificanti su quelle che sono le vendicazioni da parte del sindacato in ordine a lavoro, stato sociale, povertà, migrazione e tutto il resto. Ieri il segretario generale della CGL ha assunto l'impegno preciso di portare le nostre distanze a questi tavoli di contrattazione. Allora la domanda è, da qui a un anno, da qui a sei mesi, da qui a cinque anni, qual è la nostra azione di reciprocità nei confronti per esempio della CGL? Perché prima o poi ti verranno a dire. E allora qual è la nostra opinione sui loro temi? Questo è un tema importante, perché secondo me è questo che negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, ha impedito al movimento LGBT di dotarsi di tanti e tali attrezzi, c'è valutino allargare il consenso sulle istanze che portiamo avanti per fare una vera pressione sul governo attraverso la nostra azione che diventa poi dopo opinione pubblica. Vittalumina ho parlato. Ah sì, ecco, resta un ultimo argomento. E resta, io, va proprio sorpressamente, cioè il nostro leader politico Marco Pannella che spero voglia, anzi sono sicuro che farò un passaggio da questo congresso probabilmente domani mattina. Diciamo noi abbiamo Marco Pannella, il nostro riconosciuto leader politico, con la sua storia si può permettere, voglio dire, di rivolgersi direttamente a personalità come Papa Francesco, come Presidente della Repubblica, molto potestamente, cioè io non può, però penso che mi posso permettere direttamente di rivolgermi al mio leader politico Marco Pannella perché io sono iscritto ad un'associazione radicale. Il concetto è come lui si può permettere con la sua storia di potersi rivolgere a Papa Francesco, al Presidente della Repubblica, io penso di potermi permettere di rivolgermi a direttamente a Marco Pannella. E vorrei dire a Marco che lui, secondo me, ne sta facendo sulla sua posizione sul matrimonio egalitario semplicemente una questione semantica. Diciamola che è un mio personale punto di vista, chiaro, però io lo dico senza tanti giri di parole, dire non dire, mi piace fare nome e cognome e confrontarmi, se poi è il Marco lo saprà, dove nel mattino arriverà, interverrà, mi risponderà, eccetera, eccetera. Posso condividere alcune cose del suo ragionamento, quando fai ragionamento sull'antropologia, faccio pure fatica, se non ho fatto il matrimonio, faccio pure fatica a dirlo, questa cosa fa, sulla storia del matrimonio e sulla sua contrarietà al matrimonio egalitario, per queste ragioni, e non ho capito se lui è d'accordo all'unione civile alla tedesca, che poi tradotto significa anche con dei grossi pezzi di segregazionismo giuridico, riprendo parole di Iuri, mi rifaccio al congresso dell'anno scorso. Recentemente, proprio qualche settimana fa, a Verona, Marco Pannella, ha avuto l'opportunità di esporre la sua opinione e io, Marco, il tuo ragionamento non l'ho compreso. Non vado a riprendere i passaggi di Gabriella Friso, fatto prima qua, perché sarebbe, significherebbe farmi perdere del tempo, abbiamo ben compreso quali sono le posizioni, ma io Marco Pannella in questo momento, su una battaglia così radicale, che caratterizza la storia radicale, il fatto di non averlo completamente al mio fianco, dico la verità, è un qualche cosa che mi mortifica da un lato e mi fa male dall'altro. Lo dico sinceramente. Per cui io penso che in questa caratteristica che è Marco, quella capacità di sedersi a tavolino anche con le persone, voglio dire, molto lontane dalle sue idee, io penso che un po' tocca a noi, ma soprattutto tocca a lui, perché noi tutti i giorni lanciamo dei segnali, io voglio fare appello a Marco a venirsi a sedere e a confrontarsi e questo è il tavolo più adatto, spero che lo voglia fare domani mattina, perché, ripeto, l'impressione che non ho avuto io è una questione semantica, perché è vitale per le nostre battaglie, poi sul discorso proprio della parola matrimonio, che poi si chiami unione civile, per me la cosa fondamentale è che tutte le cose si possano sovrapporre perfettamente, perché nel momento in cui ci saranno delle differenze tra unione civile e matrimonio, andiamo verso quel segregazionismo giuridico che francamente vorrei evitare. L'ultimo passaggio lo voglio dedicare ai rapporti tra l'associazione radicale e certi diritti, che è il soggetto costituente del partito radicale non violento transnazionale e traspartito. Non parlo chiaramente al nome dell'associazione, ma parlo a titolo personale, anche perché poi magari attraverso il titolo personale si può capire un po' l'aria che tira. Mentre Enzo dice, io comunque mi iscrivo, e annuncia la sua iscrizione, io Enzo su questo qui non sono d'accordo, io continuo invece ad annunciare la mia non iscrizione al partito radicale non violento transnazionale e traspartito e senza farla molto lunga, per una sola ragione, ridatemi la legalità statutaria, mi ridate la legalità statutaria, io sono il primo ad andare al tavolino che sta là fuori, il tavolino dove uno entra al congresso e si registra e sarò con il cartellino iscritto, non sarò col cartellino osservatore o altro, ma ridatemi la legalità statutaria, semplicemente questo qua il principio. E l'ultima cosa che vorrei dire è che voglio ridare dignità a questo libretto, sì, vi voglio ridare dignità perché questo libretto è stato profondamente offeso in un incontro che si è tenuto a Verona qualche settimana fa, perché? Non ricordo chi, ma sarà facile poi per gli utenti della legalità andare a riprendere questo incontro a cui partecipavano, per parte radicale Marco Pannelli e Marco Cappato e poi c'erano a Verona partecipavano il sindaco Tosi, partecipavano i consiglieri comunali e qui si parlava appunto di un amico civile, non ricordo il titolo ma sarà facile rintracciarlo. Voglio ridare la dignità a questo libretto perché uno dei relatori si è permesso il lusso divino, ma matrimonio valitario, unione civile, ma già ci sta tutto, fra codice civile e leggine varie gli omosessuali hanno già tutti i diritti e tira fuori questo libretto, questo libro che si intitola Certi diritti che la coppia e i complimenti non sanno avere, cioè questo relatore tira fuori questo titolo e dice, ma vedete che perfino i radicali ci hanno scritto un libro, cita i nomi, Bruno De Filippi, Silvio Mario Felicetti che abbiamo preso, Bruno Managallo e dice, lì dentro ho trovato un manuale perfetto per avere tutti i diritti come il codice civile e con la legge attuale. Ma stronzo che non sei altro, ma se nell'introduzione di questo libro c'è scritto a chi ha lettere, vedete che se leggete questo manuale, il quadro che ne esce è desolante, onestamente io siccome microfono di radio radicale c'è oggi, a questo libretto voglio ridare dignità. A questo aggiungo anche un'altra cosa, l'ultima cosa che io dico, dopo mi esitisco. L'ultima cosa che voglio dire è proprio su questo convegno di Verona. Va beh, lì pannella fatta solo. Al giornamento non abbiamo parlato, ottimo Marco Cappato, mi sono sentito di ringraziarlo privatamente, lo voglio fare pubblicamente approfittando di questo intervento, ottimo Marco Cappato. Poi all'interno di questo convegno io proprio non riesco a capire la selezione dei relatori, come viene fatta. Cioè, trovare davanti, ma non è che uno soltanto perché avvocato è una persona intelligente, scusate, Lucio, addoni, non è uno. Ma non è che perché ti chiami vicepresidente dei giuristi cattolici italiani, voglio dire, per forza sei una persona a posto. Cioè, lo cito perché è, voglio dire, è un corregionale, quindi a maggior ragione. Siamo a Venezia Eterna, è questo corregionale di Crotone, Giancarlo Cerrelli. Vicepresidente dei giuristi cattolici italiani. Cioè, io dico, ma i suoi convegni, ma voglio parlare della teoria. Se ti trovi davanti, no? Una persona che ti dice, guarda che, e questo trovate, qui non ho timore proprio dalla denuncia perché proprio il materiale abbonda dal suo sito internet fino ai convegni dove ho partecipato, quindi proprio la denuncia me l'aspetto più dal tavolo mio, ma non da c'è te. Uno che a chiare lezione ti dice, guardate che dietro alle persone omosessuali c'è il maligno. Si parte da qui. C'è il maligno perché il maligno, ma mi sta bene che lui crederà il maligno, io di questo rispetto, incomincio a non avere più rispetto quando il ragionamento fa questo. Il maligno che cosa ha architettato? Ha come obiettivo l'estinzione dell'umanità. L'estinzione dell'umanità perché, voglio dire, l'oggetto d'amore di Dio è l'umanità. Se io lo estingo, vinto la famosa battaglia, voglio dire, proprio quella per la quale è nata tutto questo tipo di roba. Quindi il maligno ha l'obiettivo dell'estinzione dell'umanità. Attraverso che cosa? Attraverso la creazione di una potentissima lobby mondiale che negli anni è riuscita a travisare l'organizzazione mondiale della sanità, l'organizzazione degli psicologi americani, tutte le istituzioni italiane, l'organizzazione degli psicologi italiani, i vari livelli di giustizia, primo, secondo grado, Cassazione, corte costituzionale, tutte le istituzioni europee, pari pari perché comunque qui il maligno in Europa, voglio dire, si dà da fare parecchio e l'obiettivo finale è che cosa? L'omosessualizzazione della società. Capito? Questo mi viene a raccontare che il maligno ha creato una lobby gay internazionale che mira l'estinzione dell'umanità attraverso tutte le nostre attività che puntano, voglio dire, all'omosessualizzazione della società perché siccome poi l'omosessuale non procreano, no? Che comunque qui è in grado, non è vero, ma non affronta il ragionamento, allora alla fine, voglio dire, non ci resterà più nessuno. Io vorrei capire come li selezionano, come li selezionano certi, voglio dire, oratori, perché questo, e lo dico, qui mi rivolgo, mi posso permettere di questo direttamente a Ciavelli, caro Giancarlo, cari di me, è troppo anche per paperino, troppo anche per paperino. E come gli ho detto in un'altra occasione, normalmente questo atteggiamento è proprio il tipico dell'omofobo interiorizzato, cioè l'omofobo interiorizzato che è gay, non si accetta e quindi ancora con accanimento, voglio dire, fa questa cosa qua. No, io Giancarlo voglio mandare un messaggio di amore e di speranza. Caro Giancarlo, ti garantisco che una fetta di felicità c'è anche per te sulla faccia di questo tema, grazie. Allora, la parola adesso a Lucio, ci sono riuscito, che è il presidente del Cilei Due mare di Reggio Calabria. Allora, sarò abbastanza rapido, però intanto volevo rassicurare ma, nel senso che è vero, a Protone noi abbiamo la vicepresidenza nazionale dei giuristi cattolici, da Reggio Calabria il gruppo dei giuristi cattolici, prima di sciogliersi proprio su questa tematica, fece una mozione all'interno dell'Associazione dei giuristi cattolici chiedendo il totale ribaltamento della famosa teoria che viene portata avanti dal presidente, che è D'Agostino, professore D'Agostino, e tutta la sua corte. Siccome appunto non avvenne questo cambio, questo cambio di direzione, di ottica, chiusero la sezione. E quindi, queste sono cose che introducono anche il mio intervento che è proprio sulla Calabria. Scusate, ma noi siamo molto campanisti, ma lasciatemelo dire al primo punto, il nazionale che viene che abbiamo in Italia, parliamo di Calabria, ci viaggio, l'anima. Allora, il primo ricordo che vorrei portare alle vostre menti, alle vostre lecce, se mi avete sentito parlare, è stata l'infelice affermazione che l'ex governatore Giuseppe Scopelliti fece in merito proprio alle candidature di persone, come le definì lui, i mezzuomini o uomini che avano altri uomini. Negando, anzi tranquillizzando tutta la Calabria, in quel caso parlava anche come coordinatore dei circoli NCD su questa possibilità. Assolutamente noi non candideremo mai né mezzuomini né uomini che avano altri uomini. Questa è un po' la genesi che portò il movimento della Presa a reagire su tutti i giornali, a livello locale e nazionale, e ci portò ad un incontro con lui e con l'allora presidentessa della Commissione per le opportunità della Regione, Giovanna Cusumano. Durante questo incontro il governatore prese i vari impegni, sia senza efficacia, ma solo dichiarativi, sia impegni come il finanziamento del private, che non solo non è avvenuto, ma i 1.500 euro proposti al Consiglio regionale che era preso, magari siamo riusciti a portare avanti proprio dopo questa presa di coscienza, direi dell'unione, cioè da chi siamo governati e che possibilità di incisione abbiamo. Qui, vedi, l'intervento di Sergio, ma anche l'intervento tuo, sono stati interventi, a mio parere, illuminanti su quella che poi alla fine è la coscientizzazione, il prendere responsabilità della realtà in cui è cambiata. In questo momento, ecco, Marco diceva prima che è giusto rischiare. E questo credo che sia per noi tutti, movimento, il paradigma più vero e più difficile. Perché dire è giusto rischiare vuole anche dire avere paura, vuole anche dire, almeno per noi è così, vuole anche dire mettersi in situazioni in cui non ha mai nessuna garanzia. E questo lo dico perché le paure che noi avevamo per il Pride erano di essere 500, anche se poi siamo stati 7.000. Però è una paura che abbiamo accettato e di fronte a questa paura, anche con il rischio di essere pochissimi, abbiamo deciso di andare avanti e questo probabilmente ha scatenato una reazione da parte di tutta la società. L'ultimo punto, ci sono state fino adesso tre liste, oltre a quella che abbiamo citato prima, che appoggiano le richieste che certi diritti a CIE e il Movimento Penaprese ha fatto la Regione. E sono, faccio i nomi perché faccio auto di queste liste, la lista Oliverio Presidente, l'altra Calabria e Autonomia e Diritti. Oltre queste chiaramente sono tutte liste che sono con un livello Presidente, il quale ho avuto il piacere e l'onore di conoscere qualche sera fa e mi ha chiesto di sentirci dopo le elezioni. Mi aveva anticipato di me, perché però ancora non è arrivato, di apertura. Ma mi ha chiesto di sentirci dopo le elezioni per lavorare insieme. Probabilmente questo è il primo segno importante. E poi mi direi che è segnalata anche l'apertura da parte del Movimento 5 Stelle, che è stato, con un cantello del candidato a Presidente, è stato rapidissimo nel giro di mezz'ora, ha dato subito una risposta almeno alle nostre proposte. Ecco, in questa ottica di evoluzione e responsabilizzazione, io credo che ritornerà sempre, soprattutto su quella che è la responsabilità politica degli amministratori camponesi, il principio è giusto, rischiare e responsabilità. Grazie Luca, anche per aver fatto il nostro spazio, il nostro mese, tutto oggi al nostro congresso, quindi è un'attenzione, diciamo così, non sporadica alla tua, alla nostra presenza qua, quindi ci fa piacere insomma avere. Abbiamo anche il piacere di stitare la parola Nicolino Dosoni, colgo l'occasione per ricordare a tutti che noi avremmo previsto alle 18 la proiezione di un video molto importante. Ci sono le 17.55? No, sono le 18.05, quindi avresti già chiuso il tuo intervento in teoria. Però in pratica mi sembra la presenza molto buona, ti lascio a 5 minuti per parlare. Dopodiché io davvero, aspetta, Nicolino ti do tutta la parola, direi, perché iniziamo i video in questo modo, ci diamo tempo fino ai 18.30 per finire, poi proiettiamo il documento, Marco mi ascolti? Marco Marchese mi ascolti? Proiettiamo il documentario che volevamo dare a lei. Quindi vi chiederei la sintesi nei vostri interventi, grazie. Nicolino, aspetta la parola. Allora, caro Presidente, la ringrazio della sua volontà nel concedermi la parola a me rattrappita. Allora, per chi non mi conosce, ma soprattutto lo dico a chi ci ascolta attraverso le onde erziane di Radio Radicale, io sono una muggia, reduce dalla fondazione del primo movimento di emancipazione da lì di tutti gli omosessuali che ha l'acronimo fuori. E che nell'ultimo congresso celebrato a Milano alcuni anni non sono, io proposi di cambiare la I che era italiano internazionale e fu eletto in quel francese Presidente. Devo rammemorare a questa armatura che nel 1972, mi pare, ai primi di marzo, venne celebrato a Sanremo, il primo congresso di sessuali, laddove c'erano delle relazioni scientifiche che dicevano la patologia dell'omosessualità, gli omosessuali sono malati e fuori c'era il concetto di giovinastri attuali e talvelli giovinisti che sono riusciti con la loro tecnica a far fallire quel almo congresso. e la prima, diciamo, la prima motivazione era fuori dai ciasi nella grazia. E riuscimmo. A quell'epoca non c'era, non avevamo tutto l'elenco delle richieste, né tampocco di pensare agli omosessuali vecchi, alle checche vecchie. Il tempo che Cinico e Baro, caro Presidente, ci pone a tutt'oltre la responsabilità di pensare alle checche vecchie. E soprattutto ai frocchi vecchi. Io mi onoro solo come Martin Luther King, la modestia, che Martin Luther King parlava di negri. E ha sdoganato la parola. E diceva, io ero un giovane studentello, che lo sentivo la razza americana del Guido Spirit a Tripoli, e diceva, una sola scuola, legge, un solo matrimonio, per tutti. O non c'è il matrimonio? E qui rispondo a te gli alunni, che dicono, ma io sono contratto al matrimonio. Ma allora vediamo tutti. A me dà fastidio prendere la regola e andare a Madrid e vedere, ci siamo sposati, siamo due uomini. E così in Porto Carlo, così in Francia, così in Gran Bretagna, nel paese scambino, ma anche nei paesi dell'est europeo. Quarant'anni fa gli spagnoli e i portoghesi venivano in Italia per imparare da noi del fuori. Oggi siamo noi che dobbiamo imparare da loro. E l'Italia è il primo paese islamico della rega araba. C'è la Turchia che vuole essere europea e c'è l'Italia che vuole essere araba. Differenza della storia e della realtà. E allora passano gli anni e avviene una modifica nel movimento di liberazione omosessuale. Nasce la Turchia. E dice, ma che politica? Cosa facciamo di politica? Facciamo un divertimento. E così nacquero le Sauri. Si dimenticò la necessità di andare nella scuola, ci si dimenticò di fare cultura, rivoluzione non violenta culturale. E la rivendicazione politica dell'emancipazione passò sotto le suole delle scarpe. perché gli omosessuali o simili simpatizzanti andassero in questi posti, dalle 8 di sera alle 8 di mattina, facessero quello che desideravano fare. sul che riprendessero alle 8 di mattina l'abito di legno, il cappotto di legno, la giacca di legno, fatta sulla misura, della imposta normalità. Ma i primi nemici nostri e i primi nemici dell'emancipazione delle e di tutti gli omosessuali non sono gli omosessuali. Sono gli nostri stessi corredigionari coloro i quali dicono Amicolino, cosa serve che tu ti escondi? Viviamo tutti la nostra realtà. Anzi, tu sei il tuo Stato, ci sei il tuo Stato. Ecco, questa espressione dello schiano che ha bisogno delle manette del padrone, dello zio Tom, che è onorato di avere i guanti bianchi e dire signor padrone e la moglie dice non andare contro il padrone. Tu porti gli abiti smessi dal padrone, i nostri figli hanno gli abiti smessi dai padroncini. Ecco gli zii Tom che sono insinuati nei nostri movimenti. Ed è bene che il movimento omosessuale italiano sia da rigiegato, sia strutturato in tante realtà che magari non si parlano, perché è sintomo di vivibilità, di vivacità. Benvengano le salme, ma non solo salme. Ci deve essere presa di coscienza della nostra schiavitù. Siamo relegati peggio degli ebrei al tempo del nazismo. Oggi, se uno studioso scrive che gli ebrei fanno parte di una religione antropogicamente primitiva per arrivare all'avvento dell'unica religione che è la cristiana cattolica, viene cacciato. Se un antropologo scrive che il migro è uno sbaglio di cucina del Dio Padre Eterno, viene cacciato via. Ma in un dibattito sull'omosessualità, che sia ufficiale, che sia rispettato, politicamente corretto come si dice, accanto a me che lotto, che dotto la mia vita, che getto la mia vita per l'emancipazione di tutti i belli omosessuali, ci deve essere quello che mi vuole curare, quello che dice che io sono patologico, che sono l'espressione ontica e ontologica, epistemologica, teologica del peccato originale. No. Dobbiamo rompere questa cultura. Dobbiamo dire basta a questa schiavitù culturale che l'Italia è l'unico paese dei fondatori dei trattati di Roma che non ha ancora risolto l'emancipazione dei belli di tutti gli omosessuali. E siamo ancora qui a avere rispetto di un governo omofobo, di un Parlamento omofobo. Ma diamo per fortuna un presidente. il 17 maggio riceve una rappresentanza del variegato mondo omosessuale. Quel 17 maggio che è l'espressione dell'Aidal, giornata contro l'omofobia. Ma esiste in questo paese tutta una rete legata alle parrocchie che ha abbracciato e ha sposato la terroria riparativa di Nicolosi ed altri che attraverso la nobotomia, attraverso l'insulinoterapia, attraverso le scosse elettriche intendono parire, e lo fanno, gli omosessuali. Io ho episodi raccontati a parola di giovani universitari anche di 27 anni che sono stati portati dalla famiglia, in particolar modo dalle madri, dallo psichiatra. E un episodio? Quando il giovane bambino di 27 anni, futuro ingegnere, è andato da solo, si è sentito dire dalla psichiatra, pagata dalla madre, ma io devo, devo dare una sicurezza a tua madre che ti guarisco perché è lei che mi paga. 60 anni fa i figli Dan sono stati buttati nelle piazze imposti dalla famiglia a far riuscire. Noi non siamo disgraziatamente tra loro, non abbiamo questa fortuna. Siamo cacciati dalla famiglia, ci sono suicidi di adolescenti. 40 anni fa, prima del 72, non c'era questa omofobia aperta in Italia. Era un altro tipo di esclusione, non se ne parlava. Oggi se ne parla, ma in senso negativo, si fa la distinzione. Ci sono ancora libri che dicono che l'omosessuale ha meno testosterone, che la lesbica ha meno ormoni femminili. E tutta questa fraseologia, poca barba, pochi peli, voce bassa anziché di voce alta, ma sono artisti, amano la cultura, oh com'è bello avere amici omosessuali, arricchiscono sta lotto. Ma io non voglio fare il soprammoglio. Io voglio che si dica che gli omosessuali sono cattivi, sono rapi, sono affacelli. Voglio essere uguali tra i uguali. E sono orgoglioso di essere quello che sono. Grazie. Benissimo a finire. Ho approfittato un po' troppo di voi. Allora bisogna... Beh, il matrimonio sapete che bisogna quello. Rapporti con radicali italiani. Bisogna implementare, bisogna occupare più radicali italiani. Il partito transnazionale, radicali, eccetera, no? Per quanto riguarda gli intercessi, sono contento che c'è stato un intervento molto interessante e che ha accettato sopra tavola questo problema che la medicina è ancora criminalizzato. Il caso Taormina. Bisogna seguire questa accettata. Denunciata. Mille denunce al giorno. Lascia facciano, si abbia coraggio. Tempo. Poi... E qui vengo... E concludo... Dobbiamo pensare a come risolvere il problema degli omosessuali anziani e anche dei giovani omosessuali cacciati dalla famiglia. Mille denunce al giorno. Mille denunce al giorno. Mille denunce al giorno. E perché no? Ma... Ci sono degli omosessuali che hanno delle proprietà. Grazie Enrico. Un attimo. No... Quando moriranno... Quando moriranno a chi riferranno la loro proprietà? No, non ti vedo, né guardia. ecco, dovremmo istituire delle fondazioni per raccogliere queste eredità costruire delle fondazioni, degli ospizi dei fate bene fratelli, chiamateli come volete in cui ci sia la vita omosessuale dalla nascita alla conquista del cielo grazie oratoria mi cura vita quando c'è il regolino mi sarebbe sempre da dire quando finisce Amen perché è proprio liturgico nella sua oratoria e devo dire che questa sera avevi qualche soffio qualche sentimento di... come si chiama quel film famoso americano? via col vento no, via col vento no, no, no quella che scende dalle scale no, no, quello che scende dalle scale è troppo preanno no, è troppo difficile per tutti noi comunque, grazie per l'intervento anche l'esercizio oratorio allora, la parola adesso ce l'ha Francesco Coiret e quindi continuiamo il dibattito generale poi ci sono iscritti Alessandro Comeni e Iuri Guaiana dopo, alle 19, Riccardo presenterà brevemente il documentario sulla storia del movimento LGBT in Calabria e poi c'è un rinfresco che come vedete stanno già imbandendo per il quale vi chiedo di sicuro già da subito di pensare a un contributo non solo per lo stesso, ma insomma per il contesto mi sono dimenticato che è un contributo ecco, bravo, grazie l'esercizio di pazienza per la sua oratoria è servito almeno ad acquistare un'iscrizione potente prego Francesco allora, va beh, io per chi non lo sapesse vengo da Milano quest'anno, prima volta, dopo Messia si è iscritto dal primo anno all'associazione quest'anno per la prima volta ho accettato di entrare nel direttivo ma fondamentalmente ho un compito che mi servisce e quindi ho aiutato nella gestione della comunicazione soprattutto sulla parte social e web dopo farò una breve analisi di quello che è il risultato della nostra parte digital su Milano, appunto, c'è stata questa bellissima insocettiva di cui ho parlato di lui che è avuto moltissimo successo dal punto di vista di uscita sia mediatica purtroppo solo all'estero perché a Milano si è uscito qualcosa ma non tantissimo all'estero invece il dibattito è andato avanti che è stato appunto il matrimonio celebrato da Sina Subega in videoconference con le nostre coppie coppie che hanno preso la cosa assolutamente in modo serio perché pensavano di essere veramente sposate all'estero e quindi loro si definiscono sposati cioè ci sono stati banchetti a seguito della cerimonia c'erano nonne, mamme, amici la sala era assolutamente ingremita e strapiena quindi assolutamente si sentiva proprio la voglia di conquistare appunto questo diritto che noi tutti ci crediamo se siamo qua, essere anche nostro del matrimonio e quindi visto che questa era la cosa più simile che si avvicinava a questo raggiungimento di questo diritto loro l'hanno vissuta come se fossero un vero e proprio matrimonio celebrato in Italia quindi feste, parenti eccetera è stata un'esperienza molto bella che mi viene chiesto tutte le volte che qualcuno mi vede in giro o degli amici eh, quando è che la ripetiamo? quindi sappiate che per il prossimo San Valentino potremmo fare un bis comunque pensare di fare un bis si ridera assolutamente quella farla il 15 di febbraio che era il sabato dopo San Valentino quindi dava comunque un significato anche molto affettivo è vero anche, come diceva Iuri che dal punto di vista di uscite pubbliche o comunque sia di quello che l'associazione ha reso pubblico in questo anno radicale è stato comunque breve è stato a gennaio siamo a novembre quindi non sono nemmeno 11 mesi è stato finito mai adesso siamo a metà di me non sono nemmeno 11 mesi di anno radicale è vero che magari siamo usciti poco che abbiamo saputo spingere poco alcune nostre campagne però essendoci spessando per la prima volta in direttivo posso dirvi che il direttivo lavora costantemente e quotidianamente su vari fronti quindi non è solo quello che poi viene esternalizzato quello che si fa come associazione ma c'è tutto un lavoro dietro soprattutto del presidente, tesoriere, segretario che comunque sia viene portato avanti in un'altra mi riaggancio quindi alla situazione dei social e di quello che è la parte di digital per vedere un attimo dove andare nel senso che qualcuno ha parlato come sempre di scioglimento dell'associazione qualcuno ha parlato di ah no adesso no perché appunto non siamo riusciti a conquistare quello per cui l'associazione è nata ma fondamentalmente noi siamo nati con la campagna per il matrimonio gay quello ancora in Italia noi ce l'abbiamo quindi non abbiamo portato a compimento quello che era la nostra emozione e la nostra idea originale per cui siamo nati quindi assolutamente io mi riallascio al discorso di Gabriella la nostra esistenza è fondamentale quanto meno fondamentale tornando alle parole di Enzo anche io mi sembra di mandare una volta che non c'è il diritto ma perché comunque sia non trovo nelle altre associazioni LGBT l'approccio che abbiamo noi alle questioni quindi sicuramente la nostra presenza sul parco scenico delle associazioni LGBT è fondamentale perché nessuno ad oggi riesce a coprire quello che facciamo noi quello che fa Gabriella per esempio con il gruppo Coppia che è sempre tenuto molto nascosto nel senso che non è che ogni sentenza facciamo come altre associazioni che per una sentenza via giornali eccetera per esempio sulla questione delle trascrizioni c'è stato un forte dibattito sulla questione delle attività di Carmina nel direttivo c'è stato un forte dibattito su cosa fare ma sulla questione delle trascrizioni noi abbiamo preferito non prendere per i fondelli fondamentalmente le coppie dicendo che era fatta non è fatto cioè non è vero sono dei pagli attivi che vengono dati come diceva Iuri nessun sindaco anche quelli che sono esposti sulla questione delle trascrizioni con qualità nessuno ha mai detto una chiamata di un'automazione di un'automazione anzi vi parlato sempre di un'automazione civile non ci siamo proprio non siamo sugli stessi binari quindi noi dobbiamo andare avanti abbiamo anche altri spunti che sono arrivati a questo congresso la questione transnazionale è l'ottimo lavoro fatto durante quest'anno però è ancora valida e dove dobbiamo spingerla cioè tutta la questione Africa che è stata gestita in questi anni abbiamo avuto dedicato al nostro congresso qualche anno fa le situazioni lì non sono cambiate quindi la questione transnazionale è davanti la situazione in Russia quindi tutti i contatti che abbiamo con le associazioni russie che sono venute anche negli scorsi congressi a trovarci è tutta una questione tuttora aperta non si è esaurita nemmeno quella e poi ce ne sono altre vediamo per esempio tutti i domicili che stanno succedendo anche oltreoceano sudamerica e america cioè la questione transnazionale è sempre aperta per quanto riguarda la questione intersex assolutamente siamo stati noi a portare al dono di ventilazione genitale abbiamo portato di ventilazione genitale femminile ma qua si parla comunque di ventilazione genitale magari non fisiche chimiche però si tratta comunque di ventilazione genitale bisogna cercare di ampliare quella risoluzione e cercare comunque di operare su questo su questo aspetto perché comunque è nata in casa radicale quella quella mozione quindi assolutamente direi che se nel posto giusto e nel momento giusto nel senso che forse se non avessimo avuto i contatti con Michela e qua con te noi in questo momento non avremmo questo questo punto su cui discutere e su cui inizierai a lavorare per te assolutamente quindi questa è una un'altra cosa che ci spinge ad andare avanti come associazione e continuerà a lavorare soprattutto perché dal punto di vista social purtroppo il sito nuovo è andato online il 24 di marzo quindi diciamo che siamo persi due mesi del nostro anno i risultati sono molto buoni da un punto di vista statistico nel senso che comunque la situazione è andata molto bene le visite arrivano sia direttamente quindi con ricerca su google di certi diritti di parole chiave che comunque ci ricollegano ma la maggior parte sono certi diritti sia da facebook e social network facebook e twitter che sono 85% facebook e 9% twitter più o meno quindi che sono paritari sono oltre 4000 autentiche che arrivano dalla ricerca google lo stesso numero prima arriva dai social divisi come vi ho detto e la stessa cifra arriva anche direttamente sul nostro sito digitando www di certi diritti quindi quello è un nostro grande successo perché comunque sia siamo riusciti magari non in numero di scritti come ci ha dimostrato il tesoriero però a livello della società siamo riusciti a farci conoscere e farci sapere che ci siamo e che esistiamo le pagine più visitate ragazzi qua dimostrano una cosa sola noi siamo nati per delle battaglie assolutamente diverse da quelle delle altre associazioni quindi battaglie giuridiche battaglie politiche e il picco ovviamente delle pagine che si tratta è la campagna che abbiamo fatto sull'appello del appello al Parlamento in occasione del quarta anniversario della sanità della quarta di lì c'è stato un picco notevolissimo cioè in quei mesi da fine aprile a in fine maggio di sincino quando si è riuscita a completare le mille firme quella pagina sarà perché comunque l'abbiamo scritta anche con l'annuncio a pagamento su Facebook eccetera però ce ne va anche 400 visite al giorno una nostra pecca è stata che sugli oltre 3.000 rotti contatti a quella pagina abbiamo fatto una fatica a buoia ad ottenere mille firme quindi questo ci deve fare porre delle domande sulla nostra comunicazione non l'appello era troppo lungo non si capiva o c'era qualcosa quindi 3.500 persone sono arrivati su quella pagina e dopo i mezzeroti siamo riusciti a far firmare mille persone quindi se gli altri 2.000 hanno preferito fare altro e non firmare quell'appello forse o non lo condividevano oppure era troppo lungo era posto male oppure non si capiva bene dove si poteva firmare comunque abbiamo una soluzione che bisogna trovarla e altra pagina che ha ricevuto un sacco di visite è stata quella di affermazione civile quindi anche lì questioni legate ai diritti questioni legate al riconoscimento dei diritti delle coppie e è vero che anche quella è stata spinta abbastanza su facebook tramite le foto delle coppie con le loro storie e puntate di affermazione civile sulla pagina facebook però una domanda ce l'abbiamo dobbiamo porre su perché la pagina della campagna di iscrizione espressa al sex invece è sotto come visite la pagina iscrivito la pagina contatto che siamo quindi è vero che non l'abbiamo spinta inizialmente molto noi ci credevamo molto però forse era una campagna che il pubblico dell'associazione di certi diritti o non ha capito o non ha gradito quindi abbiamo visto anche come riscontro sulle iscrizioni che nel periodo in cui hanno fatto quella campagna non ci sono state delle forti iscrizioni venuti da quella campagna quindi per noi era una campagna di liberazione sessuale noi l'abbiamo vissuta così cioè libera il sesso libera il corpo libera tutte le tue fantasie perché non c'è nulla di male nella tua sessualità in quello che ti piace e nel modo in cui vogliamo fare sesso i nostri iscritti o comunque i nostri simpatizzanti che l'hanno ricevuta da facebook piuttosto che da sito non l'hanno pensato assolutamente così quindi sicuramente abbiamo visto che il nostro pubblico predilige le nostre azioni civili il nostro contatto con qualsiasi forma di governo cercare di fare sbocasi su alcune questioni parlamentari piuttosto che gli appelli magari messi in un altro modo visto che nonostante tutte quelle visite le mille firme abbiamo faticato un attimo ad averle un suggerimento che do per il futuro visto questo interesse visto lo studio di quelli che sono i nostri follower web e social è quello di preparare magari dei manuali Gabriella l'aveva già preparato mi sembra anche quello sul matrimonio quindi tutte le istituzioni su dove scusarsi come scusarsi all'estero eccetera quindi quello assolutamente pubblicato sulle nostre pagine perché se la gente arriva da noi per la campagna di affermazione civile vuol dire che questo desiderio di affermarsi come coppia c'è soprattutto pubblicizzi tutta la campagna con le storie delle coppie quindi magari si aspettavano anche di trovare una risposta come faccio a sposarmi non solo loro si sono sposati in Portogallo e adesso il suo fidanzato che non era cittadino europeo può chiedere per il stesso giorno quindi allarghiamo facciamo anche mettiamo visto che il materiale è già pronto Gabriella l'aveva già fatto cerchiamo di mettere sul sito appunto il manuale su dove sposarsi e sicuramente con se Alessandro ci terrà io chiederei a lui anche del materiale sulla questione intersex che già ci passa in chiera sicuramente però fare tipo degli short delle storie partire da che cosa vuol dire intersessuali che sono le persone intersessuali quindi partiamo proprio dalla base perché sicuramente anche su questo argomento anche nel mondo del GBTQ di ignoranza c'è quindi assolutamente partiamo dalla base come se si dovesse spiegare a un bambino e lanciamo anche se tu sei d'accordo questa campagna quindi queste sono le mie due proposte effettivamente così grazie grazie a tutti voi mi ricordo che in questo congresso sono presenti 25 osservatori e 28 iscritti abbiamo raccolto fino ad adesso 240 euro di contributi spero che attraverso il sito www.certidiriti.org arrivino centinaia di migliaia di euro e decine di migliaia di iscritti o comunque tutti lo possono fare è molto semplice tutti lo possono fare adesso prima della parola di Alessandro Comeri che voleva aggiungere qualcosa rispetto al suo intervento e noi volentieri gli diamo la parola penso che sarà utile per tutti noi vedere un video che proprio di intersezioni parla perché non abbiamo inserito l'audio adesso lo inseriamo e ricomincio Alla prossima I went ahead and had surgery to remove the internal of the sunny test case. I was not told that they were actually moving, but rather I was told I had cancer. I actually had internal testes and XY or typically male chromosomes. The doctors told my parents that they could perform surgery that was going to make sure that I could come out normal. The surgery was the surgery that basically destroyed my clitoris and the possibility of satisfying each or several times. To treat a problem like me was to remove my penis and take out my reproductive organs because they didn't like the way it looked. This stuff is really hard to say. But I was left with the message that this body was something to be ashamed of. And I disconnected from it. I used to say it was something that wasn't very funny that I was a head that towed a body around. The fear was that if I was told the true nature of my diagnosis, that information would be so shameful and traumatizing. And I asked my mother one day that how was it like that she gave birth to me. What she told me is that the only thing that I wanted was for you not to feel as hurt and ashamed as I felt after I gave birth to you. I spoke about how to raise awareness of what it means to grow up with a body that's not entirely male or female and how you can overcome some of those issues. I've had the honor and privilege of being able to help a lot of other people deal with the kind of pain that I and my family went through. And people don't have to do it alone anymore. I'm not ashamed of who I am anymore. I love myself. And it's just great to be able to be the person I really am, a genetic sex person. It's taken me a long time, 20 years, but I can finally say, you know, I love this body, I love its differences. The togetherness, the bonding, and the shared experience, and the support that saved them. And also of you. The people with intersex conditions, the people that love them, and to their doctors as well. So that you are not alone. And remember, nobody is shameful. Nessun corpo è vergognoso. Mi sembra un messaggio molto importante. Alessandro ha chiesto la parola, che avevamo volentieri. Bisognerebbe mandarlo a ogni ordine dei medici in Italia Grazie Nicolino, vi ricordo che il direttivo è convocato per le otto e mezza quindi tenetevi da queste parti che dobbiamo fare una riunione Prego Alessandro Sistemiamo il microfono Eccoci qua, presento Allora, il video che avete visto fa parte di un progetto che viene seguito da uno degli intervistati che sta girando praticamente per il mondo a raccogliere interviste di persone intersessuali che si vogliono raccontare e questo è un estratto di tutte le persone, una piccolissima parte di tutte le persone da accogliere in un momento che ha fatto questo montaggio Gli italiani non ce l'hanno, perché? Gli italiani non ce ne sono adesso, è stata fatta un'intervista ultimamente e non sono io, però al momento del filmato non c'erano italiani Ma come avete sentito, avete avuto modo di sentire, ovviamente è l'inglese Il sottotitolo che avete visto li ha fatto il mio gruppo, cioè Intersezioni Intersezioni si sta preoccupando di reperire materiale in giro per il mondo da tutte quelle associazioni che fanno attivismo da un tot di tempo di sottotitolarlo e di fondarlo e poterlo usare anche qua per fare attivismo Tutto questo io voglio farlo dare dal 2009 in maniera completamente autofinanziata Cioè nessuno ci paga per fare questa cosa, noi ci guardiamo come dei matti per andare in giro a cercare chi può avere le competenze per aiutarci Dal filmato avete visto, ci sono critiche dei diretti interessati su quello che sono gli interventi chirurgici Ora, io prima avevo poco tempo, eravamo nella confina e l'invito del pranzo per cui ho fatto un bignano irresecato molto del mio intervento e non sono sceso nei particolari per l'appunto che trattano gli interventi Non ho neanche raccontato di me Ora, potrebbe essere ottimo fare un'altra volta un bignano e qualche paletta della mia storia perché si incastra benissimo nei filmati quindi ve lo faccio io il filmato in italiano in intervista in italiano Allora, io sono una persona intersessuale che ha due sono etichettabili con due sindromi, ok? dal punto di vista medico Io sono ovotestis, cioè ho tessuto testicolare e guarico insieme e ho un mosaicismo cromosomico per cui non ho né XX né XY Una chimera, una chimera Io sono esattamente una chimera o un'ermafrodita puro, vero Una chimera, una chimera a sondare la parte cromosomica non nascono più Io sono uno di questi soggetti sottoposti ad avorto selettivo Il resto degli interventi che vengono fatti sui bambini molto spesso, come viene detto anche nel filmato, sono soltanto di ordine estetico perché servono semplicemente a rendere i genitali accettabili per quelle che sono le aspettative che la società ha nei confronti della nascitura Infatti, questa è una cosa che vi dico, ma sapete benissimo appena nasce un bambino, la prima domanda, o appena si scopre e gli aspettavano prima, la prima domanda è e quindi questo crea pressione anche ai nostri genitori che hanno la tutela giuridica di cui parlavamo prima Per farvi capire quanto questi interventi chirurgici siano devastanti l'unico modo è la testimonianza diretta delle persone interessate La mia testimonianza non può essere di questo tipo perché io non ho subito intervento chirurgico ma ho subito trattamenti ormonali per 16 anni della mia vita che hanno completamente devastato l'organismo quindi io nasco con un organismo che aveva un suo equilibrio tranquillo, semplicemente inaccettabile per la classe america secondo loro è compatibile con la vita come raccontavo all'unione, al direttivo secondo i medici io non avrei mai raggiunto l'età di 30 anni quando l'ho raggiunto mi hanno detto vabbè, è un caso, ma tanto non arrivi a 35 quando sono arrivato a 35 mi hanno detto oh, è veramente un caso, però tanto non arriverai a 40 io ho 41 anni e non solo sono ancora vivo, ma sono sano quindi sono proprio la negazione totale, la dimostrazione totale che sbaglia ora ci sono molte condizioni che interessano anche situazioni che hanno a che fare davvero con la salute perché l'apparato genitale è strettamente correlato con altri apparati quindi viene in mente l'urinario per esempio per cui ci sono delle condizioni per le quali è necessario intervenire il problema è che quando si arriva a intervenire su queste condizioni necessarie spesso, visto che siamo lì, diamo anche una scorciatina a quello che ci pare troppo lungo questa è la politica che viene usata perché la valutazione ancora oggi nel 2014 per quello che riguarda il genere, cioè il sesso da attribuito a questi bambini è la performatività questa è la cosa principale quindi si va lì con, banalmente con il centimetro e si misura se questo piccolo pene, quando si tratta di genitalia bambina sarà performativo, sarà sufficiente per avere poi un'attività sessuale maschile ovviamente di poterlo sessuale perché questo è quello che pensano perché la seconda cosa che vanno a valutare è la capacità protettiva la seconda, però la notate bene perché pare che per loro nascondendosi dietro a varie cose che non hanno tempo di approfondire se una persona è portatore di pene è per forza maschio e io ritorno qui, ci sono le persone transessuali a confessare tutto ciò ma ce ne dimentichiamo perché comunque sono catalogato come persone malate mentalmente quindi non sono da prendere in considerazione per dimostrarvi sono disposto a leggere una cosa che ho trovato su internet proprio mentre ero qui che ascoltavo gli altri regatori per dimostrarvi quanto siano assurdi questi interventi chirurgici vi sto per leggere una piccola parte che ho trovato sul sito lo posso vedere, l'università di Bologna tanto è su internet, è pubblico l'università di Bologna io ho semplicemente googolato gonattico e mi è arrivato questo disturbi della differenziazione sessuale tanto per riconfermare quello che dicevamo prima e c'è un elenco di varie sindrome appunto tutte sindrome la cosa buffa è che per esempio io che sono la famosa linea bianca di un mezzo a due cose sono catalogato ora mi ritrovo di ovo testicolare sono catalogato nel 46Y mentre invece l'altra mia anche l'omotestis che è la traduzione è catalogata nel 46XX cioè mi hanno messo da tutte e due le parti dopodiché la non riesco a ritrovare però la insomma la mia caratteristica cromosomica che è il mosaicismo è invece catalogato nel femminile quindi neanche loro lo sanno però hanno fatto comunque una piantina che divideva il maschio e il femminile dove non sapevano quello che non sapevano collocare l'hanno collocato sia di qualche di là non si sa bene in base a cosa dopodiché vi leggo un'altra parte facendo una premessa la prassi medica nei confronti soprattutto delle bambine che hanno tessuto testicolare mi riferisco in particolare al sindrome di Mortis bambine perché all'aspetto esteriore hanno degli alberi genitali perfettamente femminili ma hanno come gonadi dei testicoli la profilasse medica prescrive prescriveva fino a ieri e in buona parte che è praticata anche oggi l'asportazione di questi testicoli delle gonadi questo succede con le motestis questo succede con la sta grande maggioranza delle condizioni intersessuali ovviamente l'asportazione delle gonadi comporta la dipendenza farmacologica da ormone di sintesi a PIA questo per forza perché gli ormone sessuali servono anche ad altre cose non solo per i caratteri sessuali servono per esempio a nostra sintesi quando le donne non le menopausa si sa che studiscono spesso ma nel conto delle nostre proverote proprio per questo motivo vi dico questo piccolo trafiletto perché è veramente curioso la terapia rivolta alle ragazze per l'appunto affette da caris che è un'insensibilità dell'endogeni sostanzialmente totale le ragazze affette da caris hanno un aumento seppur basso seppur basso del rischio di cancerizzazione testicolare quindi nella nostra clinica è per il prassi considerare l'emozione chirurgica per prima paroscopica delle donne e il trattamento medico con somministrazione quotidiana di estrogeni fin dalla proprietà per sviluppare e mantenere le caratteristiche sessuali secondarie femminili sessuali queste bambine vengono operate intorno alla navietà loro non si preoccupano di quale sia identità sessuale queste persone di identità di genere non se ne preoccupano di una navietà seguito cioè continuo nei neonati affetti con PAIS cioè parziale insensibilità agli androgeni la decisione dell'attituzione del sesso dipende largamente dall'aspetto dei genitali esterni se sono sufficientemente mascominizzati da permettere i rapporti sessuali in un ruolo maschile sono allevati come maschi altrimenti viene attribuito il sesso femminile e successivamente potranno effettuati qualora necessari interventi di femminizzazione genitale questa è l'università di Bologna questa è la pratica sui bambini è eugenetica questa è eugenetica pura se poi pensiamo alla selezione al momento della biografia in tutte le strutture non ti si sente non hai il micro ci sono ovviamente delle condizioni in cui il rischio di sviluppo di cancro è un po' più alto ora siccome in Italia noi non abbiamo perché non ci interessa raccogliere dati su questo tipo di argomento non abbiamo dati italiani però abbiamo dati americani noi sappiamo dall'America che ci racconta tante bellissime cose compreso la cosa descritta all'inizio del filmato cioè che un bambino su 2.000 circa nasce intersessuale non siamo così rari un bambino su 2.000 c'è solo Firenze che è anche perché alla fine un paese c'è 58 persone insomma ci sono quante in Italia quanti siamo 60 milioni ecco fate un po' il calcolo uno su 2.000 siamo una città se ci lasciano non c'è allora ci sono delle situazioni in cui è più alto il rischio ma questo più alto rischio le statistiche americane ci dicono che si avvicina molto alla percentuale di probabilità di rischio di cancro al seno delle donne io non ho mai sentito di parlare di un'ortofilassi che preveda l'ascoltazione delle mamme e delle adulte le donne io non ne ho mai sentito parlare se voi ne avete sentito parlare diteglilo perché mi consolerete per noi viene praticata questa cosa con la scusa di no guardi signora suo figlio potrà avere un cancro sua figlia non arriverà come hanno detto a me a 30 anni poi non arriverà a 35 poi non arriverà a 40 i genitori non hanno informazioni quello che io chiedo quando vado in giro è di diffondere le informazioni anche voi lo potete fare tranquillamente il mio gruppo fa un sacco di attività ripeto non abbiamo finanziamenti di nessun tipo al momento non li stiamo cercando cioè li cerchiamo per le iniziative non per noi ne facciamo tanti per esempio uno e qui ci infilo una piccola nota di critica ritorno un attimo sul politico siamo entrati a far parte di un tavolo di consulta che era stato costituito nel comune di Firenze una consulta per le questioni del GVT noi siamo riusciti intanto a entrare perché fino a poco tempo fa presso le istituzioni si potevano interfacciare soltanto quelle realtà che erano state costituite in associazione quindi con uno statuto depositato noi non lo siamo noi siamo un collettivo perché ci siamo ribellati dopo terribili esperienze alle logiche associative e nonostante ci siamo scelti abbiamo difficoltà anche noi a pensare di costituirci l'associazione ma siamo riusciti comunque a entrare a questo tavolo di consulta ci siamo entrati abbiamo lavorato benissimo per un paio d'anni abbiamo fatto un sacco di pratiche belle fra cui l'iscrizione che fa parte come di Firenze abbiamo collaborato anche noi se non che al momento del cambio della giunta perché il nostro sindaco è diventato cosiddetto del consiglio e ha di fatto passato il testimone al suo delfino non ho neanche io paura di denuncia perché è la realtà dei fatti si è insediata la nuova giunta e la presidenza di questa consulta è passata in automatico all'assessore per l'opportunità in automatico quindi è stata convocata la consulta perché venisse presentata a questo nuovo presidente questo avviene diversi mesi fa e questo presidente ci ascolta questa donna con molta attenzione molto collaborativa simpatica e disponibile di fatto però noi che avevamo un appuntamento mensile per la programmazione dei lavori per il confronto e per quant'altro stiamo ancora aspettando che è stata convocata a questa consulta e piccola cittadina sulla torta quando nella nostra giunta comunale Fiorentina è arrivato il momento di votare per decidere se ammettere o no le trascrizioni dei matrimoni monosessuali contratti all'estero la nostra assessora ha pari opportunità nonché presidente della consulta sia stimolata alla votazione traete voi le conseguenze ora noi ripeto facciamo tante iniziative come gruppo nonostante i limiti imposti dal fatto di non essere associazione nonostante la realtà sul territorio non sia proprio autorica e facciamo veramente di tutto compreso fare formazione e formazione nelle scuole fare formazione e formazione nei presidi ospedalieri io sono stato a fare formazione e formazione ad un corso di aggiornamento sindacale per la polizia di stato ci muoviamo facciamo veramente tantissime cose una è quella di sottotitolare materiale che arriva dall'estero quindi siccome abbiamo un sito su cui tutto quanto viene sistematicamente pubblicato io invito tutti ad andare a visitare questo suddetto sito che ha un indirizzo anche molto facile che è www.intersezioni ovviamente con la X intersex .it e andare a leggere articoli e diffondere perché quello che vogliamo fare adesso è informazione più la gente sa che noi esistiamo più la gente si rende conto che non siamo neanche da buttare via e più alla fine forse cambierà riuscirà a cambiare qualcosa io spero di riuscire a vedere qualche cambiamento nell'organità ripeto 41 anni e spero sinceramente ce la sto mettendo tutta spero di riuscire a cambiare qualcosa godiamoci il prossimo filmato grazie a tutti 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 e ho un completo androgen insensitivity syndrome. I strongly identify as a woman affected by an intersex condition and I'm very proud of who I am and who I've become to this day. It's not been an easy journey and I was told from a very early age and that I was different and I don't like this phrase because no one's different, we're all unique. Everybody has their own story, everybody has their own life and everyone should be allowed to live it the way that their life is intended to them. My parents were told when I was a child that I had testes and that they had to be removed because simply if they weren't then I could develop other serious illnesses that would affect and end my life shortly. So I had a mood and I was also told that I was the only one in the country or the city of the area that has something similar to this. There were no support groups, there was no one that I could identify with, there was no one I could talk to. More importantly, there was no one for my parents to identify with, there was no one for my parents to speak to. So they had to lead me in the best conditions and environment that they could. I was very lucky to be raised in an environment full of love, openness, understanding and care. Unfortunately, I did not receive the same care and attention from the medical profession and I felt that they held quite a bit back. Now when I was in my very early to mid teens after having a very serious talk with my doctor and I had a boyfriend, I had a school crush I guess you could say and I told my doctor I was very, I was inundated, I was a young girl, fine girl with a boyfriend and I wanted to tell everyone. When she found out about this, she very quickly and nervously looked to another doctor and I was escorted into another room where I was then put onto the table and I was then, how shall I say, I had something insulated into me. I was then told this would have to be done on a regular basis as I had to shout out of the jam. This affected me greatly emotionally and intimately and it wasn't something that I wanted to have done to be 14 years of age. It's not been so easy over the years and I finally found a support group in my early 20s. I met other people like myself and I realised there were 19,000 affected with this and it reminded me. And I was so happy, so, so unbelievably happy. and, but then that's into anger. Why is there not told? Why have I been kept from me? Why were my parents not told this? Why did I grow up in a world of shadow and shame? It shouldn't have to be like that. I just think that we all need to unite, be together, come together in love, support, understanding, care for each other, be there to lean on each other when we need it and to move the world forward into a position where children and parents do not feel alone and alienated. No, body is shameful. Thank you very much. so much. It's a system that we can find to open these doors and intercessions and it's something that we also know that we need to leave the responsibility that we need to leave the responsibility because we are a new association we need to be carrying into a 90th grade but it must be done to make it. It must do. And it must be done. a una cosa esattamente come accadeva e come ancora accade con le soluzioni transessuali che vengono mutilate semplicemente per accettare una finta imposizione della legge perché la legge non impone niente come abbiamo visto, in questo caso è ancora peggio perché si tratta proprio di ricostruire tutta una cultura che sta dietro queste scelte così terribili. Quindi sono molto contento di aver conosciuto Alessandro in questo congresso ma sono anche molto, 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 come dire, responsabilizzato da questo passo che stiamo facendo perché non sarà facile, dovremmo metterci, dovremmo lavorarci molto in un'associazione e ritengo che sia un lavoro che si debba fare. No, Nicolino Sosoni hai parlato già troppo, grazie. La parola adesso è a Riccardo, il nostro Riccardo. La parola è a Riccardo che ci presenta il documentario che noi vedremo, dopo il documentario merenda. 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 No, prima c'è il libro. Tutti insieme. Il documentario è stato realizzato dall'Imperity Group per l'Ottavo Congresso dell'Associazione Religica di Certi Diritti e una documentazione storica su come il movimento LGBT si sia evoluto in Calabria partendo dalla fondazione della prima associazione LGBT calabrese fino poi ad arrivare all'evolversi del tutto fino ad arrivare ad oggi dove siamo in questo momento. L'importanza della storia rappresenta non soltanto un interesse di libri tv ma un interesse personale perché anche noi che facciamo la storia di tutti i giorni la stiamo facendo qui in questo momento quindi documentare quello che è stato in questi anni la battaglia per i diritti civili di tutte le sigle della componente LGBT asterisco 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 è importante perché sono battaglie di civiltà, di laicità e soprattutto rappresentano un pezzo importante della nostra vita. Infatti in queste interviste voi vedete le testimonianze che poi sono quelle di persone che hanno vissuto sulla propria bella le discriminazioni, i cambiamenti e che anche oggi attraverso anche le testimonianze delle persone che ci hanno voluto donare, io stesso credo che il lavoro da fare è ancora lungo ma ci porta a capire che non siamo soli e non essere soli è una cosa importante. quindi buona visione di questo piccolo documentario e niente, grazie. Grazie, buona visione come ha detto Riccardo e poi buon rifresco e poi buon direttivo al direttivo che è convocato qui per le 20 e 30 e buona contribuzione perché noi siamo sempre qui per raccogliere anche i vostri contributi. Grazie. Sempre. Sei bello ma non sei trasparente. Grazie. È il 15 aprile 1971 quando a Torino nasce il Fori, fronte obitario e omosessuale rivoluzionario italiano, la prima associazione attiva per i diritti degli omosessuali. Fondata da Angelo Pezzara, attivista e politico italiano, il Fori fu la prima associazione del movimento di liberazione omosessuale italiano. Da allora, nel corso degli anni successivi, si moltiplicarono in Italia le associazioni e i movimenti spontanei di cittadini che diedero vita portanti in realtà, come quella di Archigieri, certi diritti, a Gedo, Famiglia Copaleo. Ma fu solo che il 2001, e più precisamente il 21 novembre di quell'anno, che a Cosenza, davanti a un notaio, prende vita Eos Calabria, prima associazione di cultura omosessuale calabresi. Fondi di Cosenza, davanti a un po' di Fondi Cosenza. Era un gruppo di persone che ci siamo ritrovati a delle serate, che hanno inizionato in realtà al febbraio del 2000. Le serate rispondevano ad un bisogno di aggregazione, in un'epoca dove non esistendo altri strumenti, non era ancora diffuso internet, non esistevano le charge, non c'erano gli smartphone, e quindi c'erano tirovi di aggregazione e gli erumi fisici. Le serate servivano per avere un'alternativa alle piazze erumi di incontro all'aperto, quindi era una modalità nuova anche di incontrarsi in un ambiente comunque protetto. Ma questo non era sufficiente, perché avvertevamo proprio il bisogno di iniziare a ragionare sia su noi stessi, ed eravamo un gruppo molto eterogeneo, dove ognuno di noi era portatore di esperienze differenti, e in realtà da questo nucleo di persone sono nato una serie di incontri che sono durati un anno e che ci hanno poi portato, anzi più di un anno, perché abbiamo iniziato a febbraio quasi due, abbiamo iniziato a febbraio del 2000 ad incontrarci e poi l'associazione vera e propria è stata costituita formalmente con un atto notario il 21 novembre del 2001. Quindi c'è stata tutta una fase di preparatori dove ognuno di noi aveva delle esperienze che erano di tipo molto informale. e la prima vera difficoltà fu quella proprio di redigere uno statuto che contenesse quanto più possibile in maniera neutro, abbiamo avuto l'accortezza di utilizzare anche dei termini abbastanza neutri, rispettosi della pluralità, delle identità che arrivano a confluire all'interno dell'associazione. Avevi trattate le difficoltà nell'affrontare le associazioni con le associazioni con la società di Giamma che ricercontavate perché aveva già più di mai evolutamente l'associazione? Le difficoltà erano personali in realtà perché ognuno di noi eravamo giovani, io all'epoca avevo 26 anni quindi mi ero appena laureato e in questa fase proprio di ricerca anche del lavoro, di comprensione di che cosa volessi fare nella mia vita ho deciso di dare come priorità il mio impegno nel sociale. E' un modo anche per... perché io sono sempre stato testato e quindi ho sempre pensato che non volevo fuggire dalla carattere quindi l'unico modo per continuare a vederci era quello di iniziare a cambiare e creare degli spazi di vivibilità per le persone che non sono cosessuali. Quindi abbiamo avuto il placet di un'associazione, l'Arci Provinciale, che ci aveva dato anche proiezione... in un'uso una stanza, che però non riuscivamo a mantenere perché aveva un costo e quindi poi il stato di qualità sempre quando, durante la campagna elettorale con la Catizzone, era mi pare il 2005, si era candidato uno dei nostri, era nella lista della Catizzone, stendo la storia che all'epoca ricoprì il ruolo di Vice Presidente dell'Associazione e in seguito, a seguito di questa candidatura, chiedono la Sei perché è quella che tuttora Arcihei ha a disposizione. E la sfida è stata proprio una location, perché la Catizzone, proprio, diciamo, sulla falsarica di quella politica che aveva già intrapreso il precedente sindaco Giacomo Mercini, vuole inserire quel tema Arcihei all'interno della Casa dell'Abbicoltura proprio per una riqualificazione del centro storico. Grazie. 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 Grazie a tutti. Dal 2001 ad oggi vi abbiamo voluto chiedere a Lavino Duraltini, presidente di EOS Arcigliei Cosenza. Allora, EOS nasce come prima associazione LGBT calabrese, per cui ha una storia molto lunga che ha visto tante persone farne parte e che ha visto tante attività. Ha visto collaborazioni con le università, ha visto manifestazioni, ha visto essere parte anche della situazione nazionale di persone che facevano parte del nostro comitato, proprio perché è stata sempre molto attiva e molto partecipe. Negli ultimi anni ci sono stati vari cambi di direttivo, il nostro ormai c'è da due anni, sono quasi tre. Che cambiamenti ci sono stati? Non so, probabilmente tutti dovuti anche al panorama che c'è intorno. Negli anni ovviamente, meno male, il panorama sociale si è evoluto, per cui c'è più apertura, c'è più possibilità di fare manifestazioni all'aperto, c'è più partecipazione, si riescono a fare più attività in cui magari si riescono a avere partecipazioni in altre situazioni, c'è un riconoscimento loggiorno, quindi riusciamo a fare qualcosa in più in questo ambito. L'aspettamento è attivo perché comunque ho visto che ci sono ragazzi e ragazze di Vietà, cioè della vostra 16 anni in poi. Sì, 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 ci sono dei ragazzi del liceo, ultimamente se ne sono aggiunti anche altri, molti ragazzi abbastanza giovani che fra liceo e quindi anni di università insomma cominciano a conoscere le nostre situazioni e quindi magari a prendere anche più coraggio per fare alcune entità anche se non sono dichiarati. Ci sono persone più grandi, abbiamo persone di 30-40 anni insomma, dipende poi un po' dalle... Voi vi trovate qui all'interno della Cassa delle Culture e quindi vuol dire che EOS Archiei fa cultura all'interno della Cassa delle Culture, è un gioco di parole però è la verità. Assolutamente sì, la prima cosa che fanno le associazioni che promuovono un clima di rispetto dei diritti civili, un clima di conoscenza e di informazione, fa l'informazione e cultura che sono le prime cose per poter educare la società a comportarsi in maniera rispettosa e a conoscere tutta la diversità che fa parte del mondo. Quali sono state le iniziative che vi hanno visto protagonisti negli ultimi anni, anche negli ultimi mesi, visto che avete avuto un successo ma ne parliamo dopo. Allora, negli ultimi anni abbiamo cercato di fare tante attività, soprattutto per revitalizzare la sede, quindi è stata tenuta aperta negli ultimi due anni molto spesso con attività tipo i tecnici martedì, attività di incontro con la psicologa dell'associazione, incontri di gruppo e discussioni. Abbiamo fatto ormai due tre anni fa, prima del nostro direttivo al torneo di calcio, manifestazioni in piazza, piuttosto che flash mob, piuttosto che lezioni all'università. Abbiamo fatto un po' di tutto, lezioni all'università, incontri con universitari, quindi insomma stiamo spaziando abbastanza anche perché c'è un'ottima risposta di ciò che ci sta intorno. Quindi i professori universitari che ti invitano nella loro lezione a parlare dei LGBT, quindi i loro alunni, lasciano di carta bianca perché per due anni di fila abbiamo avuto un'aula a nostra completa disposizione, cioè sedete l'ingatti e le parlate. Perché vuol dire tanto, insomma, la libertà di dire tutto quello che vuoi senza genusura e dei ragazzi che studiano quei scienze sociali, che studiano comunque per diventare assistenti sociali, è una cosa molto importante. Come diceva Lavinia, anche la Calabria ha visto il suo primo Gay Pride. Ad ospitare il colorato coltello, uno di i suoi più di 6.000 partecipanti, è stata la città di Reggio Calabria con lo slogan Piccaro non beccano. Le persone hanno assistito alla spinata dei carri e dal conclusivo discorso dal palco delle associazioni che hanno formato il comitato Pride Calabrese. L'avvocato Lucio Nattola, presidente e fondatore del comitato Arcigay Due Mari Reggio Calabria, oltre ad essere consigliere nazionale di Arcigay, è la persona più indicata a quale chiedere il come si è arrivati in un tale risultato. Allora, intanto quando io sono arrivato in Arcigay, il mio arrivo in Arcigay è dovuto una realtà tipo perché non c'è, perché ero fidanzato con un ragazzo, Giovanni, che con quale c'era questa intesa proprio che attività e azione dei sociali vivevo il mio periodo di Calabria, quindi ero anche io preso e compreso dei miei problemi e delle miei sofferenze. Abbiamo deciso di iniziare a interessarci per Cigay e iniziando a prendere qualche qualità a tutti. Ci siamo ritrovati nel giro di pochissimo tempo, anche il gruppo con l'Ogno Tatenet, il gruppo Germinata e altri del loro direttivo, il gruppo del Vicentino, i quali ci spiegavano un po' come è la struttura dell'associazione e quali potrebbero essere dei passi rispetto a quella che è il loro costituzione del gruppo e quindi possiamo dire che l'azione prima della comunità tercihietta ormai nasce però da 20 persone, cioè non è più compagno che stanno insieme con l'azione canonica, se si tratta. Tutto questo succedeva alla fine del 2008, o meglio, all'inizio con una serie di svelamenti personali e sociali la vita c'era una realtà un po' diversa rispetto a quella che c'era adesso, c'era un pari di persone homosessuali che si tratta, una situazione un po' di figlia, che chiaramente non potrebbe mai rappresentare per dire diretti, per diretti, per il centro delle persone in generale, in particolare delle persone sessuali. Marco Marchese è impegnato da più di 20 anni nella difesa dei diritti civili delle persone della comunità LGBT e non solo. È impegnato sindacalmente con la CGL in quanto fa parte del direttivo regionale, ha costituito l'osservatorio sulle politiche di genere e varie opportunità che ha sede a Catanzaro ed è componente del dirittimo nazionale dell'Associazione Radicale con Certi Diritti. Gli antecedivi sono almeno 20 anni che mi interessano e che mi occupo a vari gradi, poi la permanenza nell'area radicale, anche la militanza, diverse volte candidato a varie tornate elettorali. Poi con il passare degli anni l'impegno si è ulteriormente intensificato in particolar modo da quando è nata l'Associazione Radicale a Certi Diritti esattamente 8 anni fa, ricordo ancora il primo congresso tenuto a Roma alla sala delle bandiere della rappresentanza del Parlamento Europeo a Roma. Se devo scegliere un personaggio, in realtà ce ne sono tanti, uno su tutti che mi ispira, se lo vogliamo dire alla mia musa, è sicuramente Nelson Mandela che da poco tempo non c'è più e penso che sia il personaggio più alto per quanto riguarda la difesa dei diritti civili. La difesa dei diritti civili è a 360 gradi, non soltanto in settore dei diritti civili. Poi Nelson Mandela in tot il matrimonio vuole avere il Sud Africa, nonostante il Sud Africa poi abbia tutta una serie di problemi perché è un paese che possiamo considerare ancora con un alto tasso di autofobia, nonostante sia stato legalizzato e aumentato il matrimonio anche tra persone dello stesso sesso. Nel San Mandela in ogni caso si, posso dire assolutamente che rappresenta il diritto. E in tutti questi anni, come hanno fatto le persone della comunità LGBT a comunicare fra loro, rimanendo in contatto e moltiplicando gli sforzi per costruire una rete sempre più vasta? E l'abbiamo chiesto ad Andrea Gargano, esperto ai nuovi media e comunicazioni, anche lui impegnato nella difesa dei diritti civili della comunità LGBT. L'unico modo di scaricare le funzioni era sfruginare le grandi lette. Si cercava comunque gente della zona, perché per chi abitava in una città era già un problema minore, però chi abitava in piccole città, in piccoli centri, sicuramente l'unico modo per poter sfogare queste smagli, diciamo, era solo via costa. Poi ovviamente, era anche difficile riuscire a capire con chi si stava parlando. Non si aveva la voce, non si aveva proprio la possibilità di fotografie. Com'è? Qualcuno tramite Tremoposta, quando rispondeva, inviava la propria fotografia. Ovviamente, era anche impossibile inviare fotografie di parchi intime, come avviene oggi con i nuovi sistemi di comunicazione, che è il semplice motivo che le fotografie andavano sviluppate nei negozi. E per cui, chi in un di questi miei passi delle fotografie, vedeva ovviamente il contenuto di queste fotografie. Per cui, al massimo si andavano delle caste, dei caste in primi piano, delle persone prestite, cioè l'intero al massimo di foto di gente al mare. Per cui, c'era un primo approccio, diciamo, visivo. Ovviamente, non è la stessa cosa che come viene adesso. E inoltre, per quanto riguarda la voce, l'unico modo era se, in cui, a me non si accordavano per chiamarsi. A volte, tramite le rete, ci si metteva d'accordo, si dava un punto di interesse, e non si dava anche morale in cui poter chiamare. Sì. Però, anche spesso, tutti gli annunci, già già per guardare gli annunci all'interno del mercatone, alcune figure giornali avevano anche i televidenti, anche in Calabria, non ce l'ha avuto per niente nessuno, comunque è stato per un bel periodo, e il video arrivava molto dopo, per i locali, per cui gli annunci erano molto scassi e si potrebbero andare su un cartaccio. Quindi, diciamo, un gusto differente, sia nell'inviare, sia nel ricevere in Calabria. Allora, io inizierò con la domanda, ok, io inizierò con la domanda, com'è nata l'emocrazia? Quindi, puoi rispondere tu assoluta? Sì, allora, l'emocrazia nasce nel 2009, a fine del 2009, e dà un bisogno di comunicare una forma di fare attivismo che fino a quel momento, almeno nell'ambiente cosentino, non c'era. Questo modo di fare attivismo, diciamo che ha sempre una certa pressione verso il concetto di diversità. Perché l'omosessualità è sostanzialmente una caratteristica a parte degli occhi verdi, degli occhi castani, del gusto del colore preferito. Quindi, se le persone che hanno gli occhi castani, o le persone che hanno gli occhi verdi, non vengono definiti diversi, perché i diversi dovrebbero essere gli omosessuali? Ecco, questa è una delle caratteristiche principali del nostro movimento, uno dei principi su cui si basa. Detto ciò, comunque devo sottolineare che il concetto di diversità per l'emocrazia non è un concetto chiuso, non è un concetto che non deve esistere, perché la diversità resta comunque una ricchezza. Grazie alla diversità noi possiamo imparare dalle persone. Quello che l'emocrazia non accetta è la diversità come forma di discriminazione, come discriminante. Perfetto, tu Domenico vuoi aggiungere qualcosa? Sì, io voglio dire che quando si parla di diversità, generalmente, soprattutto se siamo noi omosessuali a definirci diversi, generalmente ci si definisce diversi da quello che viene considerata una norma. Quindi definire l'omosessualità una diversità è implicitamente definire l'omosessualità come la norma, come la regola della normalità. E i diversi dalla norma, dalla regola, i omosessuali, quindi per questo non ci piace questa definizione di diverso. E spesso la utilizziamo noi omosessuali stessi, secondo noi la democrazia ha il nostro discapito, perché alla fine è una cosa che ci fa più male che bene a livello di discriminazione. Grazie. 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 Grazie.